Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Un convegno di questo tipo, un evento di questo tipo, come dire, riporta in auge quello che ritengo essere una sfera culturale decisamente più importante. Abbiamo certamente bisogno di tecnologie, abbiamo certamente bisogno di tecnici in grado di risolvere i problemi immediati che l'ambiente, che l'energia, che la società oggi vede. Ma dobbiamo anche ricordare che queste tecnologie così spente sono anche la causa di molti mali che oggi le stesse tecniche intendono risolvere. Guardiamo ad esempio la problematica dell'economia, scienza sociale per definizione, che è stata aggredita, la dimensione dell'economia che è stata aggredita in maniera importante dalla finanza. Quindi è un approccio puramente quantitativo, come se l'economia fosse una scienza quantitativa. Lo è anche, ovviamente, per gli aspetti contabili, per gli aspetti di rendicontazione, per tutto ciò che riguarda la gestione del denaro privato o pubblico. Lo è sicuramente. Però, ecco, se le decisioni in questi settori fossero, come dire, ispirate anche ad un pensiero non lineare, ma un pensiero circolare che mette insieme i causi ed effetti, forse oggi viveremo una situazione diversa. Ripeto, la storia è il respiro passato dell'uomo e da lì noi dobbiamo ripartire. Auguro a questo evento davvero il successo migliore che possa avere. Sto a qualche minuto e poi sono costretto ad andare via perché quelle famose stems mi chiamano da un'altra parte. Grazie. Do la parola al direttore del Dipartimento di Scienze Umane, il professor Marco Segala. Ringrazio il professor Cipollone per questi riconoscimenti all'importanza delle humanities. Mi verrebbe voglia di continuare sull'argomento, ma mi fermo qui. Penso comunque, voglio ringraziare molto Silvia Mantini per aver organizzato questo convegno che su una figura così importante per l'Europa. Quindi per l'idea che, questa idea che da tanti anni stiamo portando avanti, spesso vilipesa e dileggiata, comunque criticata, che giustamente va sviluppata in una direzione che sia quella delle grandi idee. E credo che, appunto, Margherita d'Austria, in questo senso, sia stata una grande europea. Ed è bene riflettere su chi ha pensato l'Europa secoli fa, in contesti completamente diversi. Quindi ringrazio Silvia perché ha portato all'Aquila persone studiosi da vari paresi europei. Quindi ringrazio anche la direttrice del Museo di Odenhard, Katrin Lichtert. Grazie per essere qui. Credo sia importante anche che questo convegno si possa configurare non solo come il punto di arrivo di anni di studi, ma anche come un punto di partenza per ulteriori sviluppi. Silvia, appunto, mi diceva che al Museo nei Paesi Bassi stanno pensando appunto di realizzare una mostra per il 2024. Quindi speriamo di poterci essere anche noi come Dipartimento. Quindi per me è un grande piacere, ma soprattutto anche un orgoglio, che do inizio a questi lavori in queste giornate un po' uggiose e fredde, ma spero che siano proficui e appunto forieri di grandi novità e di grandi sviluppi. Grazie ancora, buon lavoro e a presto. Grazie, direttore. Come coordinatrice scientifica del convegno dell'Università dell'Aquila ringrazio veramente di cuore tutte le relatrici e i relatori che sono giunti all'Aquila anche da molto lontano, da Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna, e qualcuno si collegherà con noi da remoto per i malanni dell'ultimo minuto. Ringraziamo davvero tutte le istituzioni che hanno permesso la realizzazione di questo convegno. In primo luogo l'Università degli Studi dell'Aquila, il cui prorettore oggi ci porta un saluto. Il rettore è impegnato con la Cru in Roma, quindi davvero non poteva, però ha fatto aggiungere, mi ha telefonato e siamo lieti di avere il prorettore che anche lui deve scappare per un'altra inaugurazione. E ringrazio molto anche la fondazione Carispac, che è qui rappresentata dal professor Fabrizio Marinelli. Non posso portare subito i saluti del sindaco, che ringrazio molto perché il comune è stato molto presente nel sostegno di questa iniziativa, perché il sindaco è a Roma e ci raggiungerà tra poco la vicepresidente del Consiglio. Ah eccola, scusami non ti ho visto, perdono, l'avvocato Fabrizio Quiglio per il saluto da parte del comune. Intanto saluto con grande affetto la professoressa Silvia Mantini, che oramai ci siamo abituati a conoscere come forse veramente la reincarnazione di Margherita d'Austria. Tanto è stato il tempo della sua vita e dell'entusiasmo che ha dedicato allo studio di ogni aspetto della personalità policroma, poliedrica di questa governatrice della città. E devo dire che è stata anche, spesso e volentieri, di impulso propositivo, positivo, entusiasta, perché questa figura potesse avere uno spazio e una considerazione adeguata proprio nella città che lei ha governato. Mentre stavo pensando, perché ieri appunto il sindaco mi ha chiamato per questa presentazione, perché comunque che per me è un onore, oltre che un grande piacere, chiaramente portare i saluti non solo del sindaco della città ma del presidente del comitato, perché questa è la figura del comitato per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Margherita. In realtà Margherita, 450 anni fa, in questo giorno, stava probabilmente preparando il suo viaggio che l'avrebbe vista poi entrare nella città festante proprio nel 16 dicembre. E quindi penso che questa coincidenza sia stata fortemente voluta dalla professoressa ed è, lo trovo particolarmente significativo, anche simbolico se vogliamo, questo fatto di poter celebrare oggi, avviare poi lavori con studiosi e storici provenienti da tutte le, non dico le parti del mondo, ma tutte le parti margheritiane che in qualche modo sono state coinvolte nella vita di questa donna straordinaria. Chiaramente devo fare anche il mio ruolo, quindi salutare il prorettore della città, perché chiaramente questo è il ruolo che devo svolgere in questo momento. E così anche il direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Marco Segale, e anche per tutte le altre istituzioni presenti. Vedo il professor Fabrizio Marinelli, rappresentanza della fondazione, che assieme al Comune ha sostenuto anche questo e anche la sovrintendenza, che hanno sostenuto chiaramente questa manifestazione, proprio perché il Comune, con il Comitato, ha avuto proprio l'idea di sostenere le manifestazioni che la città sta organizzando e nello stesso tempo anche procedere a delle organizzazioni sue proprie, che poi vedranno la luce nell'anno successivo, perché è stato deciso nell'ambito del Comitato di proseguire, diciamo, questo anno celebrativo fino a luglio del prossimo anno, proprio per poter dare spazio idoneo anche a tutte le altre iniziative che consentiranno poi alla città di mettere al centro di nuovo la figura, anche come ponte verso il futuro. Chiaramente saluto anche la sovrintendente D'Abruzzo, oramai dobbiamo dire D'Abruzzo, e la dottoressa Collettini, e così come il direttore dell'Istituto di Storia Europea Mediterranea, Gaetano Sabatini, e la dottoressa Federica Zalabra, non c'è direttore del Monda, vedo comunque il direttore della Banca d'Italia, vedo comunque anche il professore che è stato già presidente della deputazione di Storia Patria. Quindi in ogni caso vedo tanti amici e tanti studiosi importanti che comunque sapranno arricchire questo dibattito, quindi io devo soltanto accorciare il mio intervento e dare modo ai lavori di poter iniziare. Però una cosa la voglio dire, perché ne abbiamo parlato tante, è stato molto interessante anche il convegno organizzato proprio dalla Banca d'Italia, dal direttore della Banca d'Italia, su alcuni risvolti specifici, perché questa figura in realtà, oltre a essere una figura politica, strategica, che si è inserito in uno scacchiere internazionale particolare, poteva essere in fondo vittima di una situazione come tante altre volte è successo con tante altre donne, che sono state utilizzate a modi pedine per interessi di tipo politico ed economico. Invece poi lei ha saputo, forte proprio della sua cultura, forte proprio delle sue conoscenze, nuova vitalità ai contesti urbani e politici che poi lei è venuta a toccare. Tanto che l'idea potrebbe essere proprio, ed è quella che noi stiamo, vogliamo sviluppare a conclusione di questo anno di celebrazione, è quello di fissare magari una data permanente di celebrazione di questa figura che potrebbe essere proprio quella del 5 di luglio, fissare quindi già preventivamente dei convegni, degli studi, degli approfondimenti che possano consentire di tenere viva anche nel futuro la memoria di un personaggio che comunque può darci tante indicazioni su come poter amministrare e quella che può essere la politica illuminata per il futuro. E non ultimo il fatto di riflettere su cosa accada quando a gestire la cosa pubblica è l'altra parte del cielo, nel senso l'altra parte, l'altra faccia della luna. Probabilmente molte delle sue intuizioni, molte delle sue capacità anche di combinare i suoi diversi habitat che lei ha saputo assorbire anche dal punto di vista culturale, probabilmente non sarebbero acquaduti se non avessimo avuto una donna in quel contesto. Sono certa che i lavori che verranno poi ad essere raccolti nella pubblicazione saranno di sicuro interesse, saranno un elemento ulteriore che servirà anche per conoscere e diffondere la conoscenza nel futuro, proprio perché io nel mio piccolo penso che la storia debba servire la conoscenza, l'approfondimento per capire anche quella che è la realtà che ci circonda e avere anche intuizioni positive per il futuro, perché altrimenti rimane soltanto forse qualcosa che è confinato nell'ambito di aule e di studiosi. Invece sono convinta della grande utilità di questo passaggio, di questa riflessione che in questi due giorni tu Silvia riuscirai a fare, a portare nella nostra città. Sarebbe stato interessante veramente poter partecipare a tutte quante le sessioni, ma lo faremo attraverso gli atti scritti. Esatto, ma anche quello che poi andrete a fare e quindi io non posso che dare il buon lavoro a tutti e veramente arrivederci e soprattutto un'ultima cosa, ci sono i rappresentanti del museo della città di Unenard, con la città ci piacerebbe a livello proprio municipale iniziare ad avere anche dei rapporti permanenti, infatti il convegno che vorremmo organizzare internazionale nel prossimo anno vedrà anche la partecipazione dell'ambasciatore belga che ha già dato la sua disponibilità, proprio perché in realtà questa potrebbe essere per la città dell'Aquila un'ulteriore occasione per proiettarsi in modo internazionale e consentire ai ragazzi e ai suoi ragazzi di avere ulteriori possibilità di scambi culturali e sociali e questo penso che può fare soltanto bene al tessuto della città. Grazie, buon lavoro. Grazie. Passo la parola per un saluto alla sovrintendente architetta Cristina Collettini per la sovrintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo. Buongiorno, saluto tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori, in particolare la professoressa Silvia Mantini che ho avuto modo di conoscere, io che sono relativamente neo arrivata all'Aquila da circa un anno e mezzo, proprio con questa occasione. Mi scuso fin dal subito perché dovrò lasciarvi per una commissione però importante per la città dell'Aquila e quindi devo scappare perché oggi dobbiamo portare a casa un risultato grande per la città. Io ho incontrato, passatemi il termine, Margherita d'Austria nel 2016 e forse in un'occasione proprio non delle più belle, perché dico incontrata, l'ho vissuta camminando per le strade di Città Ducale dove ero responsabile del deposito di opere d'arte colpite dal sisma 2016 del Lazio. Città Ducale vive Margherita d'Austria come proprio la sua fonte vitale. Io ammetto la mia ignoranza perché bisogna farlo, non la conoscevo per niente, ma questo respiro di questa donna mi ha portato poi a dare un po' a leggere qualcosa e chiaramente non sono un'esperta, ma sono rimasta affascinata da questa personalità che oggi sarebbe totalmente sconvolgente per i nostri giorni. Una persona che ha la capacità di accettare il suo ruolo di pedina, perché questo era politica nei suoi matrimoni combinati dal padre, ma di saperli accettare laddove necessario di saperli contestare, ma comunque di portarli sempre a vantaggio non solo suo, ma proprio della collettività. Una persona quindi che, immaginate che ha questi atteggiamenti nel Cinquecento, oggi forse li contesteremo, immaginiamo nel Cinquecento che forza che poteva avere questa donna. In parte l'Avvocato Quirio l'ha accennata, questa personalità particolare, questa sua capacità poi anche politica di gestire i territori. e quando a un certo punto lei è a città ducale, le dicono che prende il governatorato dell'Aquila e lei organizza il suo viaggio. Cosa fa l'Aquila? Questa è una cosa che mi ha colpito, ma non stupito, non stupito più di tanto. L'Aquila si prepara, viene da una dominazione un po' scomoda nella sua città. Finalmente arriva una figura importante all'Aquila e l'Aquila che cosa fa? Vuole preparare la residenza di Margherita e sceglie il Palazzo del Capitano. Attenzione, guardate la scelta importante e strategica che fanno gli aquilani, individuano quello che era il potere comunale, chiamiamolo così, il potere pagano, chiamiamolo così, in una posizione di piazza, piazza palazzo, un po' lontana ma non più di tanto da Piazza Duomo che però era ancora il centro fondamentale della città. Quindi sta dicendo quasi a Margherita, dacci la forza, dacci, ritorna tu. E questo fa Margherita, tant'è vero che il Palazzo del Capitano, il Palazzo del Comune, viene trasformato e si va, scusate se poi entro nel mio settore, quello ahimè del patrimonio monumentale, si va ad allargare piano piano e si va ad affacciare proprio a Piazza Duomo, come dire guarda che il mio potere c'è, io sono in città, ci sono e dà un segnale fortissimo, tant'è vero che gli aquilani, e questo gli aquilani sono magistrali, l'accolgono a braccia aperte, lo dico da romana, accolta a braccia aperte in questa bellissima città. Quindi c'è un passaggio fondamentale, tant'è vero che poi la storia va avanti, chiaramente passa il tempo e Palazzo Margherita, Palazzo del Capitano, Palazzo Margherita torna ad essere sede del Comune. E questo passaggio è importante. E perché faccio questo passaggio? Questo perché poi porto un po', perdonatemelo, l'acqua al mio mulino, per spiegare anche quello che proviamo a fare noi come soprintendenza. Cioè dietro questi passaggi, dietro questo palazzo, c'è la storia dell'Aquila. Cioè non è una banalità. Facevamo proprio qualche sera fa con il professore, chiedo scusa, mi ricordo il suo nome, ma non il cognome, le chiedo perdono. Facevamo questo studio sull'importanza della toponomastica, anche dei nomi delle vie che ci ricordano la nostra storia. Quindi immaginate come la trasformazione di questo palazzo, anche nei suoi cambi di destinazione d'usa, sia fondamentale per la storia della città. Il compito dell'antipatica soprintendenza, ahimè, che sembra essere quella che dice sempre no, in realtà è proprio questo. Fare in modo che questa storia, queste tracce che leggiamo nei nomi delle vie, nella forma delle vie, nel cambio degli isolati, in come si trasformano i palazzi, rimanga. Oggi, nell'intervento di restauro di Palazzo Margherita, che ha subito grandi danni dal sismo 2009 e che stiamo portando avanti con il proprio editorato, seguendolo costantemente, noi dobbiamo fare in modo che tutto quello che andiamo a fare, tutte le modifiche che andiamo ad apportare, tutti quei necessari interventi che servono a dare a quel palazzo quella sicurezza antisismica che oggi è, come dire, fondamentale e da cui non possiamo rinunciare, non cancellino in nessun modo tutta la storia che c'è dietro quel palazzo, perché il nostro compito è difendere la storia e la storia dell'arte. Vanno di pari passo, dietro ogni monumento c'è un valore storico, è un passaggio dell'umanità nella storia, anzi direi una continuità nel tempo, ma c'è anche un valore artistico, che è un modo di fare di un determinato periodo o del passaggio del monumento nel tempo. Quindi tuteliamo, perdonatemi se chiudo approfittando del convegno per dire questo, tuteliamo i nostri monumenti, perché i nostri monumenti sono la nostra storia, le nostre radici e come gli aquilani hanno saputo dare questa grande importanza a quel palazzo del Cantole, dandolo a Margherita, oggi ricordiamoci che tutti i nostri monumenti dietro, tutti i nostri monumenti c'è una storia e li dobbiamo tutelare. Perdonatemi se ho approfittato del convegno per questo passaggio. Grazie. Grazie, grazie a lei. E certo, come ci sono questi monumenti, ci sono anche i documenti. Vedo la direttrice dell'archivio di Stato, dottoressa Marta Vittorini, non so se ci vuole portare un saluto, ma insomma la ringrazio comunque di essere venuta. Vuole portare un saluto? Grazie, se le fa piacere. Certo, la sto un po' improvvisando, ecco, questo è vero, sì. Però abbiamo parlato di monumenti, documenti... Porto il mio saluto improvvisato. Sì, è vero, sì. Ero venuta solo per apprezzare i contributi degli studiosi. Noi abbiamo un rapporto di collaborazione con gli studiosi, abbiamo allestito già da ottobre una mostra su Margherita d'Austria, che è stata articolata in una maniera semplice, proprio per essere fruita da tutti e per accostare alla documentazione d'archivio anche chi non è addetto ai lavori. Abbiamo scelto dei grandi temi che sono sulla presenza all'Aquila, cioè la residenza, appunto, e i luoghi in generale, includendo oltre a Palazzo Margherita la Cascina, oltre ai luoghi gli avvenimenti e quindi abbiamo due manoscritti di annali molto importanti che erano fonti di antinori. Abbiamo individuato proprio come fonti di antinori il maggiore analista che permette di ricostruire la storia non soltanto della nostra città ma, diciamo, dell'Abruzzo intero, non solo con gli annali ma anche con la coreografia. E poi la corte, cioè attraverso gli atti notarili riusciamo anche a ricostruire quali erano quei personaggi che ruotavano intorno a Margherita ed erano al suo seguito. Una corte internazionale perché Margherita aveva toccato non solo le Fiandre ma anche Firenze, Parma e Piacenza e Napoli. La mostra sarà aperta anche sabato in occasione di un'apertura straordinaria. Questa mostra ha dato anche spunto agli studiosi per approfondimenti e per riprendere documenti in parte noti, in parte scoperti proprio in occasione di questo studio per l'allestimento. E quindi questo è il nostro contributo come archivio di Stato alle celebrazioni per Margherita. Grazie, grazie. Ringrazio la professoressa. Allora, adesso vorrei dare la parola al professor Fabrizio Marinelli che ci porta i saluti sia come presidente dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Caris, perché che ha molto voluto e sostenuto in tutti i sensi questo evento, e anche presidente della deputazione di Storia Patria, anche non vuol dire aggiuntivo, vuol dire che sono due incarichi importanti della deputazione abruzzese di Storia Patria. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. La Fondazione Cassa di Risparmi è sempre vicina alle istituzioni culturali aquilane, ha contribuito in modo convinto a questo convegno, così come contribuisce alla maggior parte delle iniziative culturali che si svolgono nella provincia dell'Aquila. Quindi io vi porto i saluti del presidente Taglieri, del direttore Iagnem che è qui presente e di tutta la fondazione per questa iniziativa. Due parole le dico anche come presidente della deputazione. Innanzitutto sono lieto di parlare in questa aula intitolata da Alessandro Clementi, che è stato presidente della deputazione di Storia Patria in anni lontani e che meritava sicuramente questo riconoscimento. Margherita ad Austria meritava anch'essa un incontro come quello organizzato da Silvia Mantini e io sono orgoglioso di presenziare oggi ad un'iniziativa organizzata appunto da Silvia che è deputata di Storia Patria. La prima sessione è presieduta da Gaetano Sabatini, deputato di Storia Patria, oltre che caro amico e collega per tanti anni nella facoltà di economia dell'Università dell'Aquila e da cui al convegno partecipa con una relazione importante Roberto Ricci, altro deputato di Storia Patria. Quindi la deputazione veramente ce la mette tutta nei confronti di Margherita d'Austria. Noi abbiamo sviluppato un progetto che si connette in modo preciso con il titolo, veramente felice Silvia, di questo convegno, Margherita d'Austria nelle reti d'Europa tra confini e modernità. Le reti d'Europa nascono proprio nel periodo in cui Carlo V, l'imperatore sotto il cui regno non tramontava mai il sole, crea una società che era molto più globalizzata di quanto noi siamo portati a pensare oggi. Poi ci sarà l'Ottocento e il primo Novecento che romperà questa globalizzazione che verrà recuperata successivamente, ma in realtà la società medievale e rinascimentale fino alla metà del Settecento sarà una società profondamente unita. Margherita, io sono studioso del diritto, della storia del diritto, il diritto comune sarà appunto un diritto comune a tutta l'Europa. E Margherita non è soltanto quindi una donna europea, ma è anche una donna profondamente abruzzese, perché viene in Abruzzo e nei feudi farnesiani che si trovano ai confini ad finium regni dell'Abruzzo, cioè nella zona verso la Sabina, Città Ducale, Monte Reale, Leonessa, sono tutti luoghi dove c'è questo scambio tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio. E allora abbiamo organizzato come deputazione una serie di convegni che partono dalla zona Vestina, soprattutto Penne e Campli, poi Città Ducale, dove il 20 novembre abbiamo fatto un bel convegno organizzato dal nostro segretario Paolo Muzzi, Monte Reale, dove è stata fatta anche una rievocazione in costume del passaggio di Margherita, poi abbiamo oggi questo convegno internazionale qui ad Aquila e queste manifestazioni si concluderanno il 21 di maggio del 2023 ad Ortona, altro feudo di Margherita, dove Margherita si fa costruire un palazzo di cui non riesce a vedere la fine perché morirà qualche mese prima della conclusione dei lavori. Quindi Margherita veramente tra Europa ed Abruzzo, come ci dice il titolo di questo convegno. Quindi sia la Fondazione Cassa di Risparmio che ci mette l'aiuto economico, sia la Deputazione di Storia Patria che invece ci mette un contributo di tipo scientifico, sono stati, sono e saranno ben lieti di essere sempre a fianco dell'Università dell'Aquila, del Comune dell'Aquila, delle istituzioni culturali aquilane per ricordare Margherita e più in generale per celebrare la cultura e i valori europei. Valori europei che oggi sono in grossa crisi, abbiamo due paesi europei che si fanno la guerra, due paesi profondamente intrisi di cultura europea, abbiamo gli scandali che non ci facciamo mai mancare per il Parlamento europeo, ma nonostante questo io continuo a ritenere che l'Europa sia maestra di valori e sia utilissima perché questi valori di civiltà, di libertà e di democrazia non vengano meno. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie professor Marinelli, grazie, lo so che siete impegnatissimi, passo la parola al professor Gietano Sabatini che porterà il saluto dell'Istituto CNR Cagliari che ha sostenuto non solo con il logo e con il patrocinio ma con molta convinzione questo convegno e devo dire che l'Istituto di Storia Mediterranea è veramente un istituto di ricerca importante e siamo veramente lieti che lui che comunque è un grande studioso di Margherita porti anche il saluto dell'Istituto. Grazie. È con grandissimo piacere che reco a questo convegno internazionale il saluto dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, unico centro di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche interamente dedicato agli studi storici. Il piacere è istituzionale ma è anche personale. Legato all'Aquila dove ho insegnato per 16 anni e legato a molte delle istituzioni qui rappresentate, l'università, la fondazione, la deputazione di Storia Patria, l'archivio di Stato che è stato il luogo in cui ho più lavorato per la mia tesi di dottorato e alla presenza di tante persone amiche che rappresentano altrettanti momenti del passato e del presente, questo legame personale si nutre in questo momento attraverso il cortese, l'invito a partecipare, di cui le sono profondamente grato, Silvia Mantini, anche di un contenuto scientifico. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche patrocina infatti attività che sempre più si ispirano a una prospettiva di ricerca europea. Terzo ente pubblico di ricerca europeo dopo il Max Planck tedesco e il CNRS francese, il Consiglio Nazionale delle Ricerche infatti nella logica che richiamava il progettore Cipollone di guidare le scienze pure con le scienze umane e le scienze sociali, ritiene che la storia costituisca componente indispensabile di qualsiasi percorso di formazione, anche del più squisitamente tecnico. La figura di Margherita d'Austria si presta poi straordinariamente a questo tipo di approccio. Proprio qualche giorno fa mi trovavo in un angolo sperduto del Messico per l'incontro annuale di una delle principali reti di centri di ricerca di storia del mondo iberoamericano, la Re Columnaria, e in quell'occasione in cui si parlava di governo del territorio e forme dell'amministrazione è risuonato il nome di Margherita d'Austria. Margherita d'Austria, come è stato già ricordato, è una figura di straordinaria europea antelitteram, in un contesto culturale molto diverso dal nostro, ma che ciò non di meno riproponeva in forma diversa, in un contesto diverso appunto, la necessità del dialogo, ed è stata una donna che riesce a realizzare nel difficilissimo contesto delle fiandre, della guerra che opporrà per oltre 50 anni la monarchia spagnola ai nascenti Paesi Bassi, in un contesto anche di grande violenza, una voce di pace e di buon governo. È una figura in questo senso che rappresenta, come Erasmo da Rotterdam, come tante altre, una continuità nel pensiero europeo del presente e del passato. Questa comunità di valori si incarna perfettamente anche nello spirito che con grande lungimiranza, Silvia Mantini, non da oggi, perché esattamente 20 anni fa, 21 anni fa, un convegno pionieristico dedicato alla figura di Margherita d'Austria, tenutasi tra Parma e Piacenza, avrebbe aperto un filone di studi di cui dopo 20 anni noi cogliamo tutta la fertilità, ma di tutto questo, diciamo, elemento squisitamente scientifico, si avvale un contesto di studi molto più ampio, che ripeto, quello della ricerca delle radici della cultura europea attraverso le grandi figure, le grandi figure in questo caso femminili, che l'hanno fatta. Questo è un motivo di più di gratitudine nei confronti di Silvia Mantini, che con l'aiuto preziosissimo di Stefano Buero, ci regala la possibilità di essere qui riuniti quest'oggi nuovamente in un grande incontro scientifico internazionale. Grazie mille. Grazie. Grazie davvero. Io veramente ho già ringraziato all'inizio e a questo punto non vedo l'ora di dare inizio ai lavori, anche perché credo che alcune autorità già sono andate via, ma sono molto felice di raggiungere questo obiettivo per il quale l'università si è impegnata da tempo, sono molti mesi che ci lavoriamo, non soltanto perché è il quinto centenario della nascita di Margherita d'Austria, che è stata una data, diciamo ormai centenari passano un po' in secondo piano, forse anche come è giusto che sia, ma in realtà qui è stata un po' la base che l'ha chiesto, cioè il territorio dell'Abruzzo tutto, ma non solo con un'attenzione che può sembrare quella legata alle tradizioni, con una intensità di partecipazione anche delle comunità, che come veniva appena ricordato è un sale importante della storia, per trovare non tanto il passato nel presente, ma un po' il presente nel passato, nella figura in questo caso di Margherita. Quindi io veramente vi ringrazio molto e soprattutto i relatori e le relatrici che sono stati, pur venendo da lontano, abbiamo scelto questo 16 dicembre, che era il giorno dell'ingresso in città, eccetera, in un momento che può essere di freddo, di difficoltà, di malesseri, insomma, hanno invece aderito con molto entusiasmo, e questa è stata veramente una prova del desiderio che vogliamo andare avanti, e quindi veramente grazie. Invito il Presidente Gaetano Sabatini della prima sessione. Sì, ringrazio molto anche, devo dire, per essere venuti con i tanti impegni che ognuno ha, il Direttore della Banca d'Italia, il Dottor Ortolani, che è un'istituzione che invece già ha aperto le sue porte a una serie di manifestazioni culturali, e una delle prime è stata proprio anche, proprio un convegno su Margherita d'Austria, dove sì, il tema era un po' proprio quello della, come dire, dell'economia, delle forme dell'economia, del ruolo in Europa anche sotto questo profilo, insomma, un profilo importante. Poi ci sono, vogliamo chiamare tutti i relatori? Io non so se ci mettiamo vicini. Se vogliono accomodarsi al tavolo dei relatori, appartenenti alla prima delle sessioni, dalla professoressa Mantini, il professor Adolfo Carrasco, il professor Bertini, il Hans Goulds, che non ho il piacere di conoscere. Che però no, c'era ieri sera, non so come mai. Adesso lo chiamo. Eh sì, come mai. Sebbene lo ritenga del tutto superfluo, per, diciamo, consuetudine, spenderò qualche parola di presentazione per la nostra anfitriona, professoressa Silvia Mantini, che tuttavia non avrebbe alcun bisogno di presentazione. Silvia Mantini insegna storia moderna presso questo Ateneo ed ha una lunga traiettoria di studi e di ricerche nell'ambito della storia della prima etran moderna. Mi piace ricordare che fa parte del gruppo di ricerca Noblesa e Sociedà nell'Italia Spagnola, promosso dall'Istituto Universitario di Storia di Simancas, un centro presso il quale ha effettuato un periodo di studi nel 2020, è membro del direttivo dell'Associazione Italiana della Public History della Società Italiana per la Storia d'Etat Moderna, nonché di numerose altre società scientifiche, è tra l'altro membro del Collegio dei Docenti in questo stesso Ateneo del Dottorato di Ricerca in Storia dell'Europa nel Medioevo nell'età contemporanea, e soprattutto è autrice di una vastissima gamma di studi, ricerche e pubblicazioni, tra le quali, mi piace ricordare per questo contesto, l'Aquila Spagnola del 2009 e più recentemente lo splendido saggio La quiete di Apollonia, religiosità femminile e spazi di rilusione dell'Italia del Seicento del 2020, che costituisce un punto di riferimento straordinariamente interessante per gli studi delle figure mistiche italiane del Seicento. La figura di Margherita d'Austria ha attraversato numerose volte le sue attività di ricerca, nella fattispecie, poiché lo citavo anche nel mio breve intervento prima, attraverso la realizzazione di un convegno nel 2001 il cui atti ha successivamente curato nel 2003 sotto il titolo di Margherita d'Austria tra costruzioni politiche e diplomazia tra corte a Farnese e monarchia spagnola. Detto questo, ripeto, più per, diciamo, dovere d'ufficio che non perché fosse necessario ricordare a questo pubblico chi sia Silvia Mantini, le cedo la parola per il suo intervento dedicato a Margherita d'Austria tra Europa e terre di confine, innovazioni politiche ed imprese culturali. Grazie. Dunque, io sono molto, ci tengo un po' a dire che questo, come dire, tandem tra il convegno del 2001 che ha visto anche dei relatori, quindi a distanza di 21 anni, che sono presenti anche qui e che ci raggiunsero a Parma e Piacenza quando io lavoravo con un po' all'Università Cattolica del Sacro Cuore e che appunto organizzamo insieme al Centro Europa delle Corti. Fu un po' un'avventura, era tra l'altro tre giorni dopo le Torri Gemelle, era il 14 settembre del 2001, quindi insomma tre giorni dopo c'erano problemi di difficoltà logistiche, gli aerei, eccetera. Però anche in quella circostanza fumo in molti. Fumo in molti, devo dire che da lì è nata una rete anche tra gli studiosi, poi questo volume quando è uscito due anni dopo abbiamo avuto anche un po' come dire l'onore con Gaetano Sabatini e la professoressa Visceglia di presentarlo proprio nella biblioteca di Palazzo Madama. Quindi diciamo incontri e tappe che si sono rincorse. Mi sembra molto bello che a distanza di 21 anni e nella mia università dove sono appunto da più di 25 anni si faccia questo secondo incontro. Mi è capitato di vedere e di essere insieme ieri sera con alcuni degli studiosi che sono venuti appunto dal Belgio, dalla Francia e che sono qui presenti e che insomma è come proprio il desiderio di riprendere un po' quel punto, quel punto di quel convegno internazionale che è stato seguito da tanti altri studi anche a livello europeo ovviamente ma che ci vede insieme soltanto oggi e in questa circostanza anche in occasione di questo momento dell'ingresso di Margherita d'Austria all'Aquila nel 16 dicembre del 1572. È un po' come se siamo metaforicamente ad accoglierla. Dunque nel vasto quadro della storiografia su queenship e forme della regalità femminile la figura di Margherita d'Austria rappresenta un caso di particolare complessità non del tutto esplorato. Anche le recenti prospettive storiografiche più attente alla trasversalità dei processi che all'esaltazione del particolarismo delle realtà politiche e locali consentono di leggere con nuove lenti la figura di Margherita d'Austria e le sue pratiche di governo in quello specifico modello riformatore orientato verso la negoziazione tra la corona e le realtà locali. Pur legata a forti figure politiche maschili in stretta rete di parentela dal padre imperatore ai papi medici e farnese dai mariti duchi Alessandro Medici e Ottavio Farnese al re fratello Filippo II e al fratello vincitore all'epanto Giovanni d'Austria nonché al figlio comandante nelle fiandre Alessandro Farnese Margherita d'Austria riuscì ad elaborare spazi di azione individuale nelle sue missioni di governo con una sensibilità rivolta a nuove visioni di controllo della sfera amministrativa e fiscale rivolta alla creazione del bene comune. Margherita d'Austria come figlia di Carlo V eredita e veicola la simbologia del carisma imperiale ma riesce a dare un'impronta di soggettività al suo esercizio di potere attraverso costruzioni politiche che intrecciarono reti come abbiamo detto tra imperatore e papi nell'Europa e nella penisola italiana tra dinastie diverse e feudi ereditati con un soft power come direbbe Joseph Nye che la portò a essere scelta nelle amministrazioni per la sua capacità di comunicazione politica e di conquista di consenso e fu proprio l'esercizio del suo potere indiretto a consentire l'affermazione del suo carisma per la capacità attrattiva dei suoi modelli culturali e di una diffusa percezione della legittimità del suo governo proprio per questo il suo caso si inserisce nel novero di quelle donne che in età moderna e non solo se però declinare le forme del politico in configurazioni capaci di intercettare reti di relazioni non ufficiali sul piano culturale economico e amministrativo su questi temi ricchi sono gli studi dei recenti lavori di Mette con Pollock Cosandey Teres Samper Visceglia Calvi Sodano Novi Bellavitis fino al recente convegno di Bologna su nobile donne e soft power nelle corti d'Europa e negli Stati Uniti ma se forse la negoziazione e la capacità di creare connessioni trasversali è una particolarità della soggettività femminile è anche vero che è un campo in cui la storiografia deve ancora molto indagare la mediazione e la dialettica dell'operato di Margherita d'Austria riflettono la sua capacità di dialogare con i corpi sociali e gli agenti delle e nelle sue terre con componenti spesso molto diverse tra loro calvinisti e cattolici sudditi e monarchia spagnola feudi e stato farnisiano Margherita introduce nella sua visione amministrativa una indipendenza e modernità che riuscì a disegnare modelli sperimentali di governance visibili in riforme e cultura nel campo della gestione finanziaria dell'assistenza del mecenatismo del devozionismo dell'imprenditoria in questo senso lo stato farnisiano creato a città ducale con gli ordini di Margherita d'Austria per i suoi stati d'Abruzzo nel 1571 si può configurare come esempio di uno di quei centri della policentrica monarchia spagnola che seppero dialogare tra potere centrale e realtà locali attraverso percorsi di riforme mutuate tra governo e corpi intermedi che si avvalevano di segretari uditori consiglieri che ebbero spesso il ruolo di veri agenti straordinario è poi il materiale come sottolinea Sebastian Derx che purtroppo oggi non è potuto venire con noi della corrispondenza ducale conservata presso gli archivi di Napoli e Parma che riguardano la diplomazia farnesiana relativa al governo di Margherita con agenti come Thomas de Armenteros Nuccio Sirigatti Andrea Ardinghelli e Tommaso Machiavelli di cui ci parlerà Giuseppe Bertini e di Fernando De Torres di cui ci parlerà Isabella Iannuzzi in un originale dipinto conservato presso la galleria della Pinacoteca di Parma e attribuito alla scuola di Sebastiano del Piombo una giovane Margherita che vedete nella slide senza vesti sforzose forse in dolce attesa fissa l'osservatore del quadro seguita a sua volta dallo sguardo dell'imperatore suo padre rappresentato in una scultura alle sue spalle così in questa freccia ideale che dagli occhi di Carlo V raggiunge quelli della figlia per poi orientarsi verso lo spettatore e idealmente proseguire nella prole c'è quasi la rappresentazione simbolica di quella continuità del potere sovrano che si trovò ad impersonare con grande impegno il suo potere simbolico fu elemento fondante la sua identità già quando a sette anni con il trattato di Barcellona del 1529 tra Papa e Imperatore siglò involontariamente la loro unione suggellata come è noto dal matrimonio con Alessandro De Medici nipote del Papa Clemente VII che ambiva a consolidare i medici a Firenze con l'aiuto di Carlo V che da parte sua doveva essere sostenuto per le flotte contro i turchi il suo potere nel 1536 dunque si celebrano a Firenze le nozze religiose con Alessandro De Medici duca di Penne che esaltano l'unione degli Asburgo e dei Medici come è ben rappresentato dal dipinto di Giorgio Vasari a Palazzo Vecchio che ritrae due giovani uniti proprio dallo sguardo di Carlo V ma come è noto Alessandro sarà ucciso dopo sette mesi dal matrimonio Margherita sarà richiesta dal Papa Paolo Farnese per il nipote Ottavio ma queste sono cose note quello che vorrei aggiungere invece è che il periodo in cui lei fu diciamo protetta a Prato fu un periodo in cui lei quindicenne organizzò un vero e proprio cenacolo letterario con personaggi di grande statura accademici e poeti e soprattutto con questa figura molto interessante di Laudomia Forteguerri che scrisse poesie proprio di grande amore nei confronti di Margherita e che diciamo fu al centro di un gruppo di intellettuali che ospitarono anche consideriamo la sua giovanissima età Bernardino Ochino frate che in quel momento si distingueva anche per le sue riflessioni piuttosto diciamo moderne nei confronti della riforma protestante e della contro riforma dunque Margherita non vorrebbe accettare serenamente il matrimonio con Ottavio Farnese è legata alla corte di Firenze ma cede per ragion di stato e nel 1538 dunque le nozze saranno celebrate con grande ovazione nella cappella Sistina rappresentate nel famoso dipinto di Taddeo Zuccari nella sala dei fasti farnesiani nel palazzo di Caprarola in cui compare Paolo III in mezzo agli sposi nel gesto di unire le palme delle loro mani gli anni romani dalla nascita di Alessandro furono i momenti più significativi del rapporto di Margherita con Roma dove condusse una vita molto attiva sul piano politico e religioso di cui ci parlerà Roberto Ricci nel palazzo Medici appena ereditato condusse restauri e abbellimenti e il palazzo dell'attuale come sappiamo Senato prese il nome proprio di palazzo Madama una sua attitudine a suggellare diciamo i luoghi della sua vita e del suo diciamo operato politico ma non solo perché noi sappiamo il suo ruolo nei confronti della costruzione della fortezza di Piacenza ma anche poi del palazzo Farnese di Città Ducale del palazzo Farnese di Ortona nel 1559 Margherita deve lasciare l'Italia per recarsi a Bruxelles per un periodo di reggenza delle Fiandre nominata da Filippo II Margherita appariva per le sue origini e per le sue doti politiche la più adatta a capire da vicino le esigenze dei calvinisti e della nobiltà autonomista con la quale riuscì a tessere una concreta azione di mediazione ma il re inviò il ministro Granvella e il duca d'alba per condurre invece dopo alterne vicende un'azione più dura che portò alla repressione proprio di quelli che erano stati i suoi interlocutori poi giustiziati questo piccolo cappello perché invece mi piace molto mostrarvi questa stampa dove possiamo proprio notare la rappresentazione del leone simbolo dei paesi bassi soggiogato da un torchio le cui aste sono spinte in modo inverso una da Margherita in una direzione e le altre due dal Granvelle e dal Luca d'Alba nella direzione opposta Margherita delusa tornò in Italia già a metà cinquecento Margherita come ha scritto Gaetano Sabatini aveva commissionato a Bartolomeo Richelmi banchiere Lombardo ad Anversa il progetto della creazione di una rete di banchi pubblici per far fronte alle incertezze finanziarie della Corona nelle Fiandre ma di questo ci parlerà proprio il professor Sabatini lo ricordo perché è un passaggio molto diciamo importante che ho poi ritrovato in tutta una mole di documenti che riguardano invece proprio lo stato farnesiano e che rientrano molto soprattutto come filosofia della politica nelle riforme presenti proprio negli statuti cioè nel del 1571 e delle riforme che diciamo scritte ed emanate da Margherita a città ducale però riguardano in modo particolare penne come capitale dello stato farnesiano e l'intero stato farnesiano lasciate le Fiandre Margherita scelse di risiedere in Abruzzo nei suoi feudi nell'Abruzzo ultra e citra come possiamo vedere in questa slide erano numerosi feudi ora diventati farnese Margherita possedeva terre importanti al confine con lo stato pontificio città ducale montereale leonessa e terre al di là del Gran Sasso penne campli e pertinenze che la allungavano verso l'Adriatico come poi Ortona che le stessa comprerà forse intuendo più che le qualità climatiche ma le potenzialità di un porto importante nell'Adriatico si estendevano i suoi feudi in Abruzzo come tante isole in mezzo al territorio del viceregno di Napoli disordinate giuridicamente e dipendenti politicamente dal ducato farnisiano di Parma e Piacenza per riunire le sue terre in un programma politico che desse unione amministrativa e fiscale Margherita compie l'operazione di cui parlavamo emanando appunto nel 1571 gli ordini dello stato farnisiano in Abruzzo tentando di attuare un progetto politico ambizioso per cercare di dare uniformità amministrativa alle sue terre sparse al confine con lo stato pontificio fino a quelle più isolate sul Gran Sasso Madama stabilì minuziosamente gli iura et obligaciones che i suoi funzionari erano tenuti a rispettare questo provvedimento garantì con buona et sincera intenzione et disposizione un governo ordinato che fosse in grado allo stesso tempo di evitare ogni possibile angheria per i suoi sudditi qui un controllo dei ruoli quindi un controllo dei ruoli dei tempi di lavoro di rispetto delle competenze tutto regolamentato in questo statuto il cui fine è il buon governo e soprattutto la cura del bene comune un'idea che quasi anticipa principi che saranno tipici in realtà di due secoli successivi lo statuto riporta capitoli contro gli abusi di potere da parte degli amministrativi e lettere che esprimono la sensibilità e le attenzioni di Margherita ai problemi sociali dei suoi sudditi dopo circa due secoli i monti di pietà questo è uno studio in corso creati da Margherita avevano reso talmente tanto beneficio e interesse che ancora copriranno in una sorta di welfare i bisogni assistenziali per le società del suo stato farnesiano fino al primo ventennio dell'ottocento di questo ci ha parlato in un recente convegno a Penne proprio lo studioso Gaetano Greco Candido Greco circondata dalla sua ricca corte in cui come tante volte detto si parlavano quattro lingue perché venivano dalle parti di Europa e componevano la sua grande corte a Bruxelles ormai accresciuta anche da numerosi appunto elementi fiamminghi Margherita sosta a città ducale dove pur realizzando il palazzo farnesiano il luogo si rivela troppo contenuto per la sua grande corte nel 1569 Margherita visita l'Aquila forse già pensando ad un trasferimento della corte in una città più importante di visibilità nel regno di Napoli in quell'occasione sosterà in quello che è oggi il palazzo Piegalfieri e che era invece il palazzo del conte di Montorio gli apparati di questo ingresso di cui ci parlerà Luca Pezzuto e del secondo ingresso appunto quello del 16 dicembre 1572 a cui ci riferiremo tra breve raccolgono l'enorme carica simbolica racchiusa negli emblemi dei frontespizi degli architrimofali che celebrano le grandi diciamo le grandezze imperiali quindi lei come rappresentante della potenza diciamo della simbologia imperiale ma anche di specifiche individualità di Margherita di cui si celebrano le doti appunto di buon governo e mediazione quindi sono esaltati i simboli della giustizia della pace dei Farnese al rientro a città ducale medita e chiede a Filippo II di poter essere governatrice della città dell'Aquila una città che le era apparsa non solo più prestigiosa per la sua corte ma anche potenziale cerniera lungo la via degli Abruzzi con Firenze e al centro di uno spazio politico importante Filippo concederà il governo della città dove Margherita appunto farà il suo ingresso il 16 dicembre 1572 come è stato detto nel palazzo del Capitano del Popolo che qui vediamo al centro di questo splendido gonfalone della città che fu ristrutturato palazzo con cui appunto Margherita convisse i primi tempi con diciamo il cantiere di cui ci parlerà il professor Mario Centofanti su progetto dell'architetto Pico Fonticulano per ospitare la sua corte che era diciamo ricca di personaggi musicisti artisti che portarono molto lustro alla città ma anche molta idee e circolazioni di cultura quello aquilano rappresentò un periodo di intensa diciamo vita anche legata ai personaggi della città come i personaggi dell'Accademia dei Fortunati già esistente e che poi diventerà Accademia dei Velati la ceremonialità raggiunse ampi livelli di rappresentazione con gli ingressi di Giovanni d'Austria appena reduce da Lepanto la cui descrizione di Francesco De Marchi costituisce un documento ricco dell'alfabeto del linguaggio politico e simbolico e con l'ingresso di Alessandro Farnese e Ottavio che portarono da Margherita che diventerà zia e nonna le rispettive figliolette cresciute dunque alla corte dell'Aquila in un destino che rinnovava la sua infanzia di cui ci parlerà la professoressa Silvia Dagata un ruolo intimo che rinnova l'immagine di Margherita non solo immersa nella scrittura dei suoi ricchissimi carteggi con i quali seguiva i suoi rapporti con gli agenti nelle diverse aree di responsabilità amministrativa con il duca con il cardinale Alessandro e il fratello Filippo II ma anche di tutrice educatrice di nipoti di svelando un volto ancora una volta di desiderio di ritagliare uno spazio privato nella sua personale corte si creò dunque una circolazione di uomini e di idee che importarono all'Aquila dicevamo dinastie di artisti come Bedeschini di cui appunto la fondazione Caris pacca a cura del collega Michele Maccherini ha acquisito importanti nuovi documenti che saranno presentati agli studiosi ma ancora di musici che crearono una cappella musicale medici e letterati in una circolazione che consentì alla corte e alla città di implementare i suoi commerci soprattutto di lana e zafferano con il nord Europa inoltre Margherita trasferì tutto il suo patrimonio itinerante di collezioni di dipinti gioielli e preziosi oggetti d'arte e in particolare arazzi studiati da Giuseppe Bertini la cui passione era forse la cui passione di Margherita ovviamente era stata forse ereditata proprio dalla madre Fiamminga in un patrimonio in cui erano compresi anche i grandi arazzi oggi esposti al palazzo del Quirinale che spesso vediamo alle spalle del presidente della Repubblica un patrimonio elencato nell'inventario 372 del fondo farnesiano di Parma di 118 fogli conservato appunto nel fondo farnesiano che ci restituisce anche l'intimità di Margherita con una infinità di oggetti pizzi cuscini da carrozza che mi fanno pensare a tutti i viaggi con cui lei attraversò le Alpi attraversò pianure spazi lunghissimi e fatti più volte appunto con una serie di oggetti che ci fanno ripercorrere quelle che furono le reti e soprattutto le relazioni di Margherita in Europa Margherita dimostrando inoltre straordinarie capacità imprenditoriali fa costruire fuori dalle mura della città accanto al fiume Aterno una cascina dove verranno allevati i primi esemplari non solo bovini provenienti dalle fiandre ma che sarà un esempio moderno di struttura agricola modulata sui caratteri dei modelli fiamminghi e che darà incentivo al grande commercio dello zafferano con le terre tedesche nella cascina che ha una fascia architettonica ancora esistente e ben visibile Margherita configurò una struttura economica imprenditoriale di straordinaria modernità acquisiti i terreni di molti proprietari sotto forma di terre e di prati ma anche di chiuse perché lì c'è il fiume Aterno e quindi una fonte determinante allo sviluppo sia dei prodotti agricoli che dell'allevamento nel catastro del 1576 presente appunto nell'archivio di stato dell'Aquila possiamo osservare l'impegno di acquisto di Margherita ai molti proprietari tra i quali si individuano molti personaggi di famiglie importanti della città come i Porcinari gli Antonelli De Martino ma anche agli ospedali che avevano proprietà nel colle di Sant'Antonio dove la cascina sorse e dove l'ospedale è maggiore San Salvatore allocato presso l'attuale scuola di Amicis e il santo spirito questo fatto fa riflettere anche sulla circolazione economica che lei favorisce stimolando transizioni tra enti pubblici e privati e inserendo il patrimonio della sua corte in un circuito volto ad acquistare e produrre con la creazione di una unità imprenditoriale creatrice di nuovi capitali ma a parte le modifiche alla morfologia della città e l'innovazione di tipo economico quel che è più significativo nel periodo di governo di Margherita è la creazione di un clima di sapore cortigiano collegato alla presenza di un gruppo culturale internazionale nel 1580 come sappiamo a circa 60 anni Filippo II la invita nuovamente a tornare in missione nelle Fiandre la situazione è di grande tensione non solo politicamente ma anche con il figlio Alessandro che nominato dal re non vuole condividere il governo con la madre nel 1582 dalle Fiandre Margherita compra il feudo di Ortona appunto pensando a un luogo che potesse accoglierla nell'amitezza del clima ma anche in un trasferimento logistico che potesse essere utile a Ortona nel 1585 trasferirà tutti i beni che erano nel palazzo di città dell'Aquila nel testamento Margherita con una minuzia che l'era propria non trascurò le persone per le care dall'uditore Nuccio Sirigatti Fiorentino vice governatore dei suoi stati in Abruzzo durante le sue assenze a tutte le dame cortigiani e servitori della sua corte oltre ovviamente ai parenti e nipoti una particolarità che già aveva dimostrato nelle centinaia di lettere dei suoi cospicui epistolari col fratello il marito il figlio in cui non smetteva mai di sottolineare oltre alle disposizioni la filosofia del suo buon governo nel suo testamento Margherita non tralasciò di occuparsi dei possedimenti abruzzesi ogni anno per 13 anni di seguito 50 ducati dovevano essere assegnati in dote a 14 nobili donne oneste e da bene ma anche a donne modeste di modeste condizioni che si maritassero o diventassero monache elette dal consiglio del reggimento per Campli Penne Città Ducale Montereale Leonissa e Ortona all'università di Campli e alle altre assegnò 3000 ducati perché il relativo frutto fosse due volte l'hanno distribuito in elemosino a povere vedove e torfanelle e altre povere persone miserabili che siano di onesta vita e da bene sto per concludere dunque questo è un elemento questo dell'attenzione alla beneficenza che non fa parte soltanto di una politica diciamo femminile ma che soprattutto aveva distinto Margherita nei rapporti con le donne e questo è un punto che diciamo si sviluppa molto anche nella corte dell'Aquila nuove in conclusione vorrei dire che nelle intersezioni della sua azione politica Margherita certamente riuscì a costruire il modello della sua individualità e se è vero che il fantasma imperiale fu il marchio della sua carica simbolica è vero che seppe costruire tra poteri maschili il disegno di configurazioni moderne in un territorio originale e con la convivenza di ceti locali e nuovi patriziati con transazioni finanziarie rispetto delle autonomie e delle identità difficili iniziative religiose che fanno di lei un modello femminile forte del 500 europeo e che riuscì anche a trasformare i disagi dei suoi destini prestabiliti in risorse in una complessità che restituisce da nuove fonti domande a cui dobbiamo dare ancora molte risposte oggi dunque pur alla luce di notevoli pubblicazioni convegni e mostre realizzati nelle varie aree di studio d'Europa e anche nei vari centenari riprendiamo il filo di un incontro internazionale in cui le relatrici e i relatori che ci hanno raggiunto all'Aquila da molte parti presenteranno contributi diversi su temi veramente nuovi che dimostrano la ricchezza dei profili secondo i quali la figura di Margherita d'Austria è studiata ed è anzi un prisma un prisma che restituisce diciamo profili fonti e letture a nuovi approcci storiografici su rinnovati paradigmi dello studio della monarchia policentrica sulla percezione della sua immagine nei Paesi Bassi sul suo panorama di agenti e consiglieri entrando nella vita privata di nonne e di zia sulla ricerca del suo disperso carteggio sulle politiche architettoniche e dei cerimoniali sulle committenze e il collezionismo sul potere religioso e il rapporto con la Corte reale siamo lieti pertanto di rimettere al centro Margherita e di costruire anche la sua e la nostra rete grazie grazie a Silvia Mantini per questa splendida relazione che ha il grande merito di aver tracciato i confini del perimetro dello spazio nel quale ci muoveremo in questi giorni unendo una ricostruzione biografica a un approfondimento dei tratti della personalità di Margherita e a un riferimento costante alle varie circostanze attraverso le quali si trovò ad esercitare il suo ruolo e precisare questo ruolo di governo di buon governo e di mediazione ha ripercorso in certa misura aperto tutti i campi su cui andremo via via ad approfondire magari tornerò su alcuni punti nel momento del dibattito ma mi piace sindora diciamo apprezzare la scelta dell'immagine dell'incisione di Margherita al Torpio che veramente simbolicamente è noto per gli studenti che le incisioni avevano una funzione di comunicazione di massa nell'Europa della prima età moderna perché veicolavano per immagini dei contenuti in quelle immagini si vede chiaramente che nel Torpio che schiaccia il leone che simbolizza l'indipendenza dei Paesi Bassi il cardinal di Granvel e soprattutto il duca d'Alba remano spingono nella direzione di stritolare il leone e in effetti promuovono la sanguinosissima repressione mentre invece Margherita spinge nella direzione opposta cioè di sollevare la presa di allentare la presa simbolo ripeto della attitudine al buon governo alla pacificazione che incarna Margherita d'Austria di questi aspetti che in certa qual misura rimandano al discorso politico ci parlerà il secondo relatore di questa sessione il professor Adolfo Carrasco che oltre a essere un carissimo e fraterno amico da tanto tanto tempo insegna storia moderna presso l'università di Baglia d'Olid oltre a aver avuto importanti esperienze di docenza altrove presso l'università Complutenze di Madrid e l'università nazionale di Mare del Plata in Argentina a una intensa attività di interlocuzione con istituzioni scientifiche di tutto il mondo tra cui ricordo quella di accademico corrispondente della Royal Academy of History a diretto uno dei principali centri di ricerca e di studio proprio sulla storia della monarchia spagnola che è l'istituto di storia Simancas della stessa università di Baglia d'Olid per cui insegna anche nel Master Europa in Mondo Atlantico Poder Cultura e Sociedad e in generale è uno dei più accreditati studiosi proprio sulla storia del pensiero politico e in riferimento alla definizione del ruolo della mobilità europea nella prima età moderna il professor Carrasco svolgerà una relazione sul governo della famiglia del governo politico Margherita d'Austria e il discorso politico tardo rinascimentale prego grazie Gaetano per questa presentazione di Amico prima della mia relazione devo ringraziare l'invito dalla università dal comune e le altre istituzioni coinvolte nel convegno che mi permettono partecipare qua anche vi devo lodare la iniziativa di festeggiare il centenario di Margherita d'Austria all'Aquila e per me è una bellissima opportunità di incontrare coi cari colleghi innanzitutto poter visitare un'altra volta mia seconda volta all'Aquila questa brava città all'Aquila insomma grazie agli Aquiliani per essere ospitato e tutti questi ringraziamenti si centrano nella professoressa Silvia Mantini sempre impegnata nella recuperazione della figura di Margherita d'Austria e d'altra parte per me credo sia più importante mi sento orgoglioso di essere suo amico non soltanto suo collega grazie Silvia e prima finisco l'anteprima e prima di incominciare devo finalmente chiedere scuse preventive scuse sul mio italiano che sarà un po' brutto spero di poter essere capito da voi sempre sotto la vostra benevolenza quindi incominciamo la metà del Cinquecento segna un mutamento radicale nel palcoscenico politico europeo la rinuncia di Carlo V e la distribuzione del suo patrimonio tra il fratello Ferdinando e una parte il figlio Filippo ebbe conseguenze importanti da due punti di vista primo è un affare di famiglia una vicenda familiare che come sappiamo non fu facile i membri della casa Asburgo riuniti a Bruxelles presedute per il capo famiglia Carlo Imperatori finalmente riuscirono ad un accordo una transazione possiamo dire che un vero patto di famiglia che significava la divisione patrimoniale nel senso stritto della partizione di un'eredità la conseguenza sappiamo è l'instaurazione di due rami degli Asburgo da una parte il ramo di Vienna con Ferdinando e i suoi descendenti e dall'altra parte quello che pochi anni dopo saranno propriamente chiamati gli Austrias di Madrid con Filippo III e i suoi descendenti Filippo II e suo figlio suo nipote e così da qui in avanti dunque parleremo di una di collaborazione internazionale tra questi due rami di matrimoni tra loro addirittura parleremo di una politica di casa d'Austria sul tavolo europeo ma sempre saranno due linee separate secondo luogo l'accordo del 1556 riorganizza la mappa politica europea nel momento dell'abdicazione di Carlo V uno stato scompare quello stato asburgico del primo cinquecento non sarà mai dunque nasceranno due nuove strutture statali da una parte l'estato centro-europeo austriaco legato al trono imperiale formato dai cosiddetti i territori patrimoniali alcuni inseriti nella giurisdizione imperiale altri illegalmente stranei al sacro impero a noi c'entra l'altro stato nuovo sotto l'autorità di Filippo II che dovrà essere costruito con tre insieme tre complessi dei territori da una parte la penisola iberica Castella e Aragona e poi anche il Portogallo l'Italia chiamata spagnola vuol dire il regno di Napoli il regno della Sicilia la Lombardia i presidi toscani altri piccoli territori e la terza regione sta composta dalle 17 province dei paesi bassi guardate che sono tre congiunti geograficamente separati e lontani tra loro che mai sono state in una struttura politica separata e che hanno i suoi problemi particolari tradizionalmente devo dire che l'astorografia spagnola ha ritenuto che la successione da Carlo V a Filippo II è semplicemente un meccanismo ereditario ordinario e che la continuità dinastica è il fattore più importante che non ci sono scambi decisivi nonostante ciò a mio avviso per il nuovo re Filippo II la riorganizzazione la costruzione del suo Stato è veramente una sfida pensate che il nuovo Stato del re Filippo non dispone proprio di un nome non c'è un nome col passare del tempo riuscirà la soluzione di nominarla monarchia di Spagna come fa il giurista ad esempio il giurista madrilegno Gregorio López Madera nel suo libro De las Excelencias de Spagna delle Excelenze di Spagna pubblicato nel 1597 un anno prima della morte di Filippo II ma quando López Madera parla di monarchia di Spagna sta dando un significato politico non mai usato fino a questo momento ad un concetto che originariamente aveva un senso teologico e giuridico ma non politico da qui in avanti certamente per Filippo II e per i suoi successori monarchia di Spagna si riferisce ad una realtà politica costituita da tanti regni il problema nominalistico si può dire non è non è un'altra cosa che la punta dell'iceberg si può dire così no? perché a metà 500 nel 559 sono altri problemi immediati dalla parte pratica alcuni e altri per quanto riguarda alla costruzione simbolica della legittimazione in materia di possiamo dire comunicazione politica serve al nuovo Stato una struttura di governo serve un elenco anche di collaboratori consulenti serve una metodologia di gestione e tante altre cose per far possibile la governabilità si tratta dunque di un compito molto impegnativo che Filippo II deve tener conto di esso tutta la sua vita che occupò tutta la sua vita cioè nel 1556 inizia un percorso di configurazione permanente dello Stato che si sviluppa almeno fino alla sua morte nel 1598 e che continua con i suoi successori in questo processo direi di statalizzazione comandato dal re ovviamente ci saranno elementi antichi eredati dallo stilo di governo di prima suo padre questi elementi eredati anche eredati sono ben conosciuti le istruzioni di Palamos il testamento politico di Carlo V è il percorso di inaugurazione come principe di Filippo vuol dire un percorso di formazione intellettuale è anche un percorso geografico mi riferisco al cosiddetto felicissimo viaggio il felicissimo viaggio che Filippo quando Filippo incontra nelle diverse corti europei città ai suoi futuri sudditi e anche fa parte della sua eredità l'abito di servirsi della famiglia per i membri della famiglia per il governo dei territori e in questo punto è dove entra Margherita d'Austria come sorella del re questi sono elementi eredati ma io vorrei mettere l'accento nel nuovo il bisogno del re di disegnare uno Stato che nasce sotto le condizioni imposte dalla diversità dei suoi territori i suoi problemi sorgenti e innanzitutto come Filippo II usa questi risorsi eredati in un contesto diverso facendo un rassunto si può dire che Filippo II risponde alla sfida di organizzare uno Stato mettendo gli elementi politici eredati in un nuovo cornice sapendo che questo cornice riordena le relazioni e le pratiche in modo assolutamente diverso Margherita d'Austria è anche al centro di questa sistematizzazione non solo delle pratiche anche del pensiero politico di comunicazione ed è divattito tra intellettuali vincolati o nella cerchia del potere madama Margherita aveva già partecipato lo sappiamo l'ha spiegato bene la professore Samantini nelle operazioni politiche di Carlo V vinto in Italia lei fu uno strumento per collegare ai principi italiani e l'aristocrazia pontificia al sistema sburgico il primo matrimonio di Margherita con Alessandro dei Medici poi il secondo con Ottavio Farnese sono fasi di questo mestiere dinastico assunto da Margherita come membro della famiglia reale la dimensione politica familiare nel suo ruolo viene palesemente rappresentate nel ritratto attribuito questo ritratto attribuito a Sebastiano del Pombo del Piombo che oggi si può vedere a Parma del quale ha parlato benissimo la professoressa Mantini figiata circa 1545 Margherita rimane seduta con la retorica visuale come vedete delle persone di governo possibilmente incinta e indietro a lei si vede un busto del suo padre e l'imperatore con la collana del tossone d'oro segno della condizione asburgica e della continuità dinastica il dipinto esprime anche una Margherita membro della famiglia reale nel senso di essere sottomessa alla volontà paterna perché come sappiamo per Margherita il matrimonio col Farnese fu molto pesante e lei cercò di opporre resistenza ma finalmente lo accettò quindi siamo di fronte a una Margherita obbediente figlia futura madre che allo stesso tempo è una donna di stato una nobil donna inserita nel sistema imperiale diciamo sottosistema Italia Margherita fa parte del sistema familiare eredato che Filippo II continua a servirsi il nuovo re si rivolgerà alle sue zie Leonor Maria e Catalina le sorelle Maria Giovanna Margherita il fratello Giovanni e poi alle sue figlie Isabel Clara Eugenia Catalina Micaela e nipoti Alberto per importanti carichi di governo impegni diplomatici e alleanze matrimoniali dunque quando nel 1558 Filippo offre Margherita il governo dei Paesi Bassi continua una tradizione di donne di Casasburgo governatrici delle Fiandra come l'aveva stata Margherita di Borgogna zia di Carlo V poi Maria dell'Ungheria sorella dell'imperatore se sottolineava così la linea di donne di Stato asburgiche incaricate delle 17 province che ora assumeva Margherita prendiamo in considerazione che lei era nata a Fiandra ed era stata educata sotto la tutela delle governatrici prima Margherita la zia di Carlo V come ho detto e poi Maria la sorella dell'imperatore ma dobbiamo ritornare alle nuove sfide politiche che si aprino all'inizio del governo di Filippo II per quanto riguarda alla costruzione di un discorso di legittimazione in questo momento sono due problemi che la cultura politica deve rendere conto di loro da una parte il concetto di sovranità vuol dire la natura del poter la legittimità dell'autorità sia la posizione della giurisdizione sia la legittimità della legittimità dell'esercizio del potere dal re e dai suoi delegati il rispetto alla costituzione dei regni c'entrano qui nel concetto di sovranità l'immagine del re giudice il re legislatore il re come padre dei sudditi il re difessore della fede il re come guerriero e così cioè si tratta di costruire un discorso che riconvalide l'autorità perché non basta l'eredità d'altra parte un altro concetto è quello della forma di governo seguendo quello che ci aveva detto Aristotele qual è la migliore forma di governare la comunità politica cioè i mezzi umani l'architettura amministrativa in questo caso vuol dire i consigli segretari il vice re la consulta i tribunali di giustizia l'organizzazione giurisdizionale il concetto di sovranità riguarda allo teorico politico mentre che il significato di forma di governo riguarda alla pratica la gestione del potere la struttura articolata di provvedimenti e persone al servizio degli affari che in genere nominiamo politici ministri magistrati consiglieri si deve sottolineare che sono due cose diverse la sovranità la forma di governo almeno nella cultura politica e nel pensiero dell'epoca erano due cose diverse conseguentemente gli scrittori politici affrontano queste due materie separatamente in linea di principio la sovranità reale incarnata nella persona del monarca Filippo non è in discussione semmai l'esistenza dei regni diversi che hanno le loro proprie costituzioni è un argomento che appare regolarmente che afflora regolarmente nella trattatistica politica si può vedere inoltre i giuristi questo settore particolare i giuristi sono interessati in una definizione della pratica nei tribunali che sta radicata nell'attribuzione del re come giudice massimo ostentatore della giustizia per sé stesso l'idea del re giustus e dal quale dal re diviene tutto il sistema legale i libri che sono iscritti per questi magistrati legisti giudici cercano di dimostrare sempre che l'ordine politico della monarchia è effettivamente in verità un ordine legale nato di un ordine superiore che sempre è un ordine giusto incarnato dal sovrano ed è stabilito da tempo immemoriale fissato mai incontrastato questa è la base più solida della natura del potere il suo origine giuridico e giurisdizionale possiamo parlare dunque di una monarchia giuridica una monarchia legale come quella che si sta costruendo in Francia allo stesso momento una monarchia giuridica legale sulla base della legge è il modo più efficace di costruire questo discorso sulla legittimità la natura legittima della sovranità monarchica e questa è l'immagine di Filippo II come il re Salomone cioè come simbolo vivo della giustizia è il modo di rappresentare una realtà superiore buona giusta verace che si può applicare a tutti i regni della monarchia che si mette in atto nel vertice di ognuno dei territori sotto la promessa scusa sotto la premessa il punto di partenza del rispetto all'ordine costituzionale e legale del cornice giuridico delle leggi e le usanze tradizionali in ogni caso in ogni di questi regni nonostante ciò nonostante ciò è vero che alla fine del secolo dunque alla fine del regno di Filippo II si appariscono si manifestano saggi dove gli autori parlano possiamo dire di una ontologia del potere anche direi che loro discutono questi nuovi autori discutono su una metafisica quello che oltre lo fisico esattamente letterale significato una metafisica della sovranità che in certo modo mette in discussione il vero origine della politica come vicenda propria degli uomini ovviamente sto parlando del libro di Juan de Mariana De Reghe et Regis Istituzione 1599 dedicato all'educazione del giovane principe erede ma già pubblicato quando Filippo III aveva successo suo padre e pochi anni dopo apparisce De Legibus di Francisco Suárez sul mismo argomento però infine si può dire che la sovranità della corona non è sostanzialmente messa in discussione per i pensatori politici i scrittori politici nel lungo governo del re Filippo qualsiasi cosa accade con l'altro asse del pensiero politico dell'epoca cioè la cerca dell'ottima forma di governo di uno stato monarchico composto dai tanti regni e altri territori scusa il chiedimento della migliore forma di governare che come ci ho detto prima è un argomento diverso della natura e l'origine della sovranità e dove entra in scena Margherita d'Austria con altri membri della famiglia Asburgo con le istituzioni intermediari che intermediano nella gestione con i collaboratori ministri del re nel senso che tutti questi gli aiutano al suo mestiere da diverse maniere sempre non non dimenticare che sempre cercano il bersaglio del buon governo vuol dire la pace il benessere la felicità dei sudditi nell'inizio del regno di Filippo II questo impegno della articolazione del governo con le persone e mezzi istituzionali è un affare perentorio centrale in primo luogo perché si tratta come detto di un nuovo stato lo abbiamo già visto ma il motivo più decisivo di ripensare su come governare diviene della combinazione della maniera di essere del re Filippo che è molto diversa di quello carattere del suo padre e dei problemi soprattutto dei problemi nuovi che cadono sul re che cadono su altri in questo senso è molto sintomatico che nell'anno 1559 viene pubblicato ad Anversa il libro Il consejo e los consejeros de los principios vuol dire Il consiglio e il consigliere dei principi scritto da Fadrique Furio Seriol e dedicato a Filippo II questo è un legista un avvocato di Valencia il libro faceva parte di un progetto editoriale del suo autore che pensava scrivere quattro altri volumi dedicati tutti alla organizzazione politica nella tradizione di questo topos sulla istituzione del principe vecchio troppo umanistico ma purtroppo soltanto fu venuto alla luce questo testo che era il quinto doveva essere il quinto della serie e secondo il progetto di edizione sono interessanti i particolari della pubblicazione e del autore Margherita d'Austria era già al governo dei Paesi Bassi era recentemente nel governo dei Paesi Bassi e avevano cominciato i conflitti politici e religiosi nelle province il giurista Fadriche Furioferiol aveva stato nella corte di Carlo Quinto e aveva seguito Filippo II nel soggiorno in Inghilterra la protezione imperiale aveva evitato che Furioferiol fosse processato per la inquisizione la scena aveva cambiato dunque nel 1559 Furio sempre sotto il sospetto di eterodossia vedrà come il suo libro ha tanti problemi con la censura e solo la protezione dell'autorità universitaria dell'Ovaina e innanzitutto la protezione di Margherita faranno possibile la pubblicazione di questo isolato volume Fadriche Furio non scrissi mai questi altri libri sullo stesso argomento insomma cosa diceva Furioferiol nel suo libro che potesse essere considerato pericoloso da un punto di vista dottrinale e religioso nessuna perché l'assunto del libro non centrava niente con l'ortodossia della fede forse sia questo il problema non quello che lui aveva scritto ma quello che non aveva scritto perché il proprio perché scusa perché proprio il libro è un saggio politico sul argomento di chi e che cose servono al principe uffici di gestione consiglieri collaboratori che lo possano aiutare nel suo mestiere ma credo che il più importante e anche si può dire che il contenuto controverso si può trovare nella dedica al re Filippo nella dedica del libro dove Furioferiol definisce che all'interno del sovrano ci sono due persone questo topos della doppia natura del principe i due corpi i due corpi del re certamente non era nuovo lo sappiamo però il modo nel quale Furioferiol considera le due persone che partecipano nel re è molto particolare perché il giurista sottolinea che il principe sia come un uomo sia come un re a lui non basta essere un uomo per bene un uomo pieno di virtù superiore che desidera e cerca il bene pubblico in modo onorato che si è sinceramente preoccupato per il benessere dei suoi sudditi non basta le qualità umane né la qualità come re insomma per essere un buon governante non basta con la virtù non basta dunque con il sangue è vero che la sangue manifesta la sua superiorità padriche furiolo riconosce che filipo è un uomo superiore dagli altri per la sua appartenenza alla famiglia superiore riconosce il valore della trasmissione della qualità proprio biologica del valore ma neanche basta con la possessione legittima della sovranità perché secondo furiose riol governare è un mestiere governare è un'arte si dice così nel libro il re è veramente e lo scrive un professionista dice così tra virgolette il buon principe è quello che intiende bene e perfettamente la sua professione il buon principe è quello che capisce bene e perfettamente la sua professione in questo modo furiose riol riteneva il governo come un mestiere molto importante però un mestiere vuol dire la forma di governo sta parlando in forma di governo e il suo strumento principale il strumento principale del principe per governare bene per fare il buon professionista sarebbe la prudenza che per lui per l'autore del libro la prudenza voleva dire esattamente la tra virgolette la necessità di tomar consejo il bisogno di essere consigliato questa è la prudenza la prudenza allora Fadriche Furio Ferriol come si è detto prima faceva parte della cerchia del potere nei paesi bassi e stava cerca stava vicino agli esburgi cioè vicino Margherita tuttavia in completo questo progetto editoriale e le idee di Furio Ferriol ebbe continuità nel libro Trattato del Consejo e dello Consejero dello Sprincipes Trattato del Consiglio e consiglieri dei Principi scritto dal portoghese Bartolomeo Filipe pubblicato a Coimbra nel 1584 in realtà è un commento lungo del saggio di Fadriche Furriol che in molte occasioni segue letteralmente il modello dunque non c'è niente originale in Bartolomeo Filipe sulla forma di governo è ricorrente il bisogno di aiuto che hanno i sovrani che si deve segliere con grande prudenza i consiglieri collaboratori ma il particolare di questo libro di Filipe è che va dedicato all'arciduca Alberto d'Austria il primo vicere di Portogallo dopo la stagione lunga quasi due anni a Lisbonna di Filippo II quando fu proclamato re di Portogallo questo era un nuovo caso evidente di come servivano i collaboratori e come il re doveva essere servito aiutato prima dai membri della sua sangue ricordate del suo sangue Alberto era figlio di Massimaliano II cioè nipote del re perché questi membri della famiglia erano le persone di massima fiducia per la rappresentanza sua e il governo del nuovo reame come nei paesi bassi come nei territori italiani il governo di Portogallo bisognava una figura simbolica molto legata al re al quale rappresentava benché né in Italia né in Portogallo fossero i conflitti delle province del nord contemporaneo sempre nel corso del lungo governo di Filippo II il messaggio sempre è lo stesso il governo in uno stato che è un insieme di territori geograficamente separati tra loro e che ci ha questa struttura ha un centro immobile nella Corte di Madrid bisogna delle persone di fiducia di stretto rapporto col sovrano tra questi collaboratori ci sono i membri della sua famiglia oltre che togati nobili e altri personaggi dell'altra amministrazione c'è un esempio in più nel 1592 il frate Agostino Marco Antonio Camos pubblicò a Barcellona il suo Microcosmia il governo universale dell'ombre cristiano per tutti gli Stati e qualcuno di loro microcosmia il governo universale dell'uomo cristiano per tutti gli Stati e qualunque di loro dove si dice che ci sono tre missioni tre incarichi tre doveri del re la conservazione di tutti i suoi regni governare con giustizia i suoi sudditi è terzo finalmente il terzo dovere è difendere la comunità dai nemici esterni sono tre compiti troppo pesanti continua a dire Marco Antonio Camos e per quello il re non gli può fare da solo bisogna della partecipazione degli altri bisogna dei ministri bisogna magistrati consiglieri guerrieri e soprattutto vicere che possono altrimenti essere membri della sua famiglia tutte queste persone di fiducia servono per il compito di governare dice così tra virgolette di governare e chiama tra virgolette las particulares republicas vuol dire ognun regno secondo le sue particolari leggi e costituzioni questi delegati dice re dell'autorità sovrana assumono la funzione fondamentale di rappresentare il re nel regno l'idea del re absente in una monarchia come questa ma sottolinea l'autore questo monaco agostino che non si tratta soltanto di fare il ruolo di alter ego reale come simbolo nel senso ceremonialistico dice chiaramente che solo in questo modo solo con la lezione corretta di questi collaboratori di qualità in questo modo il sovrano potrà raggiungere il suo devere di riuscire il benessere dei suoi sudditi lontano da lui solo così potrà conservare i suoi regni e finalmente solo in questo modo di governare il re potrà esercitare da lontano il suo dovere di amministrare la giustizia e assicurare la pace interna non è per caso che Marco Antonio Camus quando scrive su questo argomento fa una citazione esplicita a Fadriche Furio Ferriol si può dire che dal suo libro pubblicato nel 1559 nasce una sorta di genealogia di saggi che insistono nel dire che il potere della monarchia di Spagna bisogna di un'articolazione di un coordinamento basato sulla partecipazione collettiva di persone di qualità e di fiducia per una monarchia aggregata un aggregato di collaboratori e consulenti per queste ragioni il discorso sulla forma di governo della monarchia nella seconda mità del Cinquecento viene costruito sulla base della selezione di assistenti vicinissimi assistenti vicinissimi dal re per quanto come aveva scritto Fadriche Furio all'inizio del periodo di Filippo II essere monarca non è un'altra cosa che un mestiere che il re è un professionista che l'esercizio del potere si può pensare come un'arte proprio di un maestro che lavora con i suoi collaboratori come il pittore maestro con i suoi assistenti no? questa immagine serve certamente questa stagione la seconda mità del Cinquecento è piena di conflitti e esigeva un singolare criterio di selezione dei consulenti questo era il compito più importante del re scegliere con correttezza come già aveva detto Fadriche Furioferiol il criterio e la prudenza uno strumento richiesto per aver successo una prudenza che in questo momento non è tanto virtù interiore è quello che Aristotele parla come virtù dianetica nel senso Aristotele che lo dico ma palesemente prudenza come abilità come competenza pratica quindi dalla prudenza di questa prudenza del principe diviene la elezione dei governanti incaricati dei complessi impegni di governare sul territorio tra questi loro la scelta dei membri della famiglia però non soltanto questi membri della famiglia per il suo sangue ma piuttosto perché dai bambini i membri di Casasburgo avevano imparato come diventare anche loro professionisti della politica e così dobbiamo pensare nel arciduca Alberto nominato al governo del Portogallo e poi sposato con l'infanta Isabel Clara Eugenia per il governo dei Paesi Bassi e ovviamente prima qui c'entra ricordare Margherita d'Austria governatrice delle Fiandre in un momento particolarmente difficile e non dimenticare gli altri funzioni a lei incaricati in Italia come la signoria sulla città di Lago finisco chiedendomi guardare ancora questo dipinto il ritratto di Margherita Sebastiano dal Piombo perché credo che rappresenta un insieme dei significati e si inserisce tanto nel discorso sulla forma di governare come sull'idea della sovranità qui possiamo vedere la nobile donna che soddisfa suo mestiere di riproduzione familiare è anche la figlia obbediente e rispettosa col padre è un membro della famiglia del monarca riconosciuta come tale per il suo sangue è anche una donna di Stato una governatrice una donna di Stato ma una professionista della politica come detto prima è anche una collaboratrice del re in piena concorrenza col compito e l'impegno di gestire il potere grazie grazie ad Adolfo Carrasco per questa splendida relazione che fa di diciamo assolve l'importante funzione di coprire un primo tassello del mosaico costituito nella Margherita d'Austria cioè spiegare perché assolva il ruolo che la storia le riserverà comprendendo che questo non può essere soltanto ricondotto a vincolo di sangue con la figura dell'imperatore e del fratello sovrano ma spiegare come sia invece una parte importante di un percorso di legittimazione del potere sovrano che nasce nel momento stesso della partizione dell'impero nei territori che resteranno in capo alla casa d'Asburgo di Vienna e a quelli invece degli Asburgo di Spagna e come tutto il regno di Filippo II sarà un percorso di carattere teorico e di pratica della politica di cui gli autori ricordati e anche quelli che poi scriveranno all'indomani della morte di Filippo II quando è Mariana in primis costituiscono degli altrettanti passaggi dunque Margherita d'Austria incarna reifica questo percorso di legittimazione del potere sovrano di legittimazione del ruolo che i membri della famiglia assolvono ma che poi deve essere diciamo così oggetto di un'attenta riflessione gli autori che sono stati ricordati da Adolfo rappresentano infatti diciamo la punta dell'iceberg di un dibattito molto serrato che aveva non una funzione meramente accademica ma aveva invece la importantissima funzione di legittimare il sovrano legittimare i suoi rappresentanti legittimare l'azione di governo e di fissare quella che poi lo ricordava Adolfo all'inizio della sua redazione una metodologia di governo che di fatto fu quella che resse la monarchia spagnola per un secolo e mezzo sostanzialmente fino al cambio dinastico con la guerra e successione spagnola e in certa misura anche dopo mi ricorda l'organizzazione del convegno che purtroppo non è presente Sebastian Ders il suo contributo sarà poi parte invece degli atti e pertanto procediamo a una breve pausa di un quarto d'ora prima di continuare con la seconda parte della sessione grazie riprendiamo la sessione con le due secondi relazioni della mattinata iniziando con quella di Giuseppe Bertini studioso molto noto nell'ambito delle ricerche su Margherita d'Austria e non solo ha insegnato museologia e storia del collezionismo presso l'università di Parma ha partecipato a numerosissimi incontri dedicati ai temi genericamente intesi come margaritiani a iniziare dal già ricordato convegno del 2001 di Parma e Piacenza che è diciamo l'apripista delle ricerche che oggi qui ci riuniscono ma mi piace ricordare che siamo stati insieme con lui in un altro convegno internazionale che ha segnato questo ambito di studi Roma e Spagna un crisol della cultura europea nell'edan moderna organizzato dal collega amico Carlo Sernando che è uno dei nostri relatori nonché in numerose altre occasioni di studio e di ricerca che pure incrociano i percorsi margaritiani come l'organizzazione della mostra del 1998 a Colorno di Arazzi dei Farnese e dei Borbone le collezioni dei secoli XVI-XVIII il volume La Galleria del Duca di Parma storia di una collezione del 1987 il volume di Le Nozze di Alessandro Farnese Feste le Corti Lisbona e Bruxelles del 1997 e numerosi altri contributi tra cui quelli relativi a Francesco De Marchi figura come il noto centrale della presenza di Margherita all'Aquila Giuseppe Bertini presenterà una relazione dal titolo Tommaso Macchiavelli segretario di Margherita d'Austria e una carriera interrotta prego bene grazie io ringrazio gli organizzatori del convegno che mi hanno per l'invito perché mi dà occasione di rivedere l'Aquila che è una città a cui sono molto affezionato e di cui ho attraverso gli anni seguito la ricostruzione e ogni volta che vengo vedo dei miglioramenti e mi si allarga al cuore perché veramente la città diventerà bellissima e penso che diventerà un grosso polo turistico italiano ecco per quanto riguarda la scelta del tema di cui oggi mi occupo io non ho avuto dubbi perché io ritengo che i segretari dei personaggi dei governatori dei sovrani siano personaggi assolutamente fondamentali e soprattutto fondamentali sono le corrispondenze le lettere di questi segretari perché attraverso questi questi documenti noi riusciamo in qualche modo a diciamo ricostruire le motivazioni che hanno spinto governatori e sovrani a prendere certe decisioni e questo spero che sia che risulterà chiaro nella mia relazione per quanto riguarda Margherita penso che studiare Tommaso Machiavelli sia diciamo possa dare un contributo importante per diciamo illuminare la personalità di Margherita che abbiamo di cui abbiamo sentito tutti i meriti in campo in campo avruzzese in campo italiano in campo internazionale allora naturalmente premetto che il mio lavoro è consistito nel mettere insieme la documentazione degli archivi di Parma e degli archivi di Napoli perché purtroppo come voi sapete come tutti quelli che si occupano di cose di documenti parnesiani la divisione dell'archivio parnesiano in due centri è stata una una iattura terribile perché praticamente bisogna seguire due documenti due grossi centri archivistici e voi sapete inoltre come sia difficile lavorare negli archivi sia di Parma che di Napoli di Parma perché praticamente tutto il materiale come poi risulterà dalla mia relazione è stato suddiviso dagli archivisti dell'ottocento e del novecento in per provenienza quindi se io devo cercare le lettere di Tommaso Machiavelli le devo cercare nella corrispondenza di Bologna se la lettera è stata scritta da Bologna la devo cercare nel file della Toscana se la lettera è stata scritta da Firenze la devo cercare nella corrispondenza dei Paesi Bassi se per caso Machiavelli scriveva da lì quindi diciamo la ricerca è particolarmente difficile premesso questo diciamo chi è Machiavelli Machiavelli è un nobile bolognese nobile bolognese probabilmente la sua famiglia era imparentata con i Machiavelli di Firenze ma Machiavelli era un letterato un letterato amico di Hannibal Caro e attraverso le corrispondenze l'epistolario di Hannibal Caro noi abbiamo elementi per ricostruire la sua biografia e anche per ricostruire diciamo la sua produzione letteraria non è diciamo quello che ho trovato finora non è molto della produzione letteraria di Tommaso Machiavelli in particolare pubblicato c'è una canzone dedicata a Pio IV di cui appunto forse parleremo durante il testo durante la mia relazione e ancora alcune poesie alcuni sonetti di Machiavelli sono stati inclusi in una raccolta di testi poetici del 1551 stampati a Bologna ecco Machiavelli inizia la sua carriera come segretario papale a Roma e nel 1558 entra al servizio di Margherita la carriera di Machiavelli al servizio di Margherita durerà dieci anni dal 1558 al 1568 quando ci sarà una brusca improvvisa interruzione verrà licenziato entrando nella segreteria di Margherita Machiavelli viene a essere sottomesso a Tommaso Armenteros Tommaso Armenteros è un personaggio importantissimo nella storia della storia dei Paesi Bassi perché praticamente era legato legato appunto a Margherita come primo segretario e quindi aveva un potere enorme e viene ritenuto responsabile dei molti dei disastri successi nei Paesi Bassi che per cui si giunse poi negli anni appunto di Margherita alla rivolta aperta contro il regime spagnolo allora Margherita allora ebbe affidò a Machiavelli due grosse missioni due grosse missioni che sono appunto la fonte delle lettere di cui accennavo all'inizio queste lettere importantissime per ricostruire la personalità della duchessa e queste queste due missioni sono la prima missione è Machiavelli viene nel 1562 viene mandato da Margherita da Bruxelles viene mandato in Italia viene mandato in Italia per seguire i suoi affari personali e come voi sapete gli affari personali di Margherita riguardavano le cause i litigi che aveva con i medici i medici con i due rami della famiglia medici aveva delle cause aperte oppure delle questioni finanziarie aperte con Cosimo ma aveva la grande causa con la regina di Francia con Caterina de' Medici questa causa che si estende per praticamente dalla morte di del duca Alessandro Caterina si riteneva l'erede diretta di Alessandro e quindi contesta i possessi che Margherita aveva dei beni che le derivavano dal primo marito quindi allora ci sono questi questo questo viaggio di questo viaggio di Marchiavelli in Italia è destinato a chiarire le vicende legali che esistevano sia con Cosimo che con Caterina de' Medici ma oltretutto Cosimo Macchiavelli doveva visitare i feudi di Margherita in Italia in Abruzzo doveva trovare le contabilità tenute dai amministratori di Margherita a Roma e a Napoli quindi i viaggi sono il viaggio è molto complesso e devo dire che ho avuto la fortuna di trovare una parte delle istruzioni che Margherita dà a Macchiavelli prima di partire Macchiavelli parte da Bruxelles nei primi mesi del 1562 e ci sono le istruzioni di quello che voi Tommaso Macchiavelli nostro segretario averete da trattare in quelle parti d'Italia dove vi mandiamo per servizio nostro e quindi seguono le istruzioni in Trento visiterete i cardinali perché siamo nel periodo in cui c'è il concilio di Trento e Margherita indica quali sono i cardinali che suoi amici che devono essere devono essere riveriti quindi insomma ecco praticamente queste queste istruzioni già danno un grosso allargano le nostre conoscenze sugli interessi di Margherita e naturalmente a queste istruzioni seguono le lettere le lettere che si conservano nell'archivio di Napoli questo archivio di Napoli ha praticamente quasi tutte le lettere che ad ogni tappa Machiavelli mandava in Belgio a Margherita alcune lettere purtroppo sono finite non si sa come nell'archivio di Parva però lavorando mettendoli insieme si riesce a ricostruire quasi tutto quello che Machiavelli scrive a Margherita e in queste lettere praticamente noi abbiamo tutti questi interessi possiamo ricostruire tutti gli interessi economici di Margherita non soltanto riguarda i medici ma anche riguarda il marito perché Ottavio Margherita e Ottavio naturalmente avevano dei rapporti abbastanza conflittuali nonostante avessero poi diciamo pezzato questo inizio pessimo del loro matrimonio ma in realtà i loro rapporti erano sempre diciamo abbastanza tesi e in particolare Ottavio voleva vendere in questo momento voleva vendere i suoi feudi meridionali cioè voleva vendere il feudo di Altamura il feudo di Castellamare il feudo di Rocco a Guglielma ma Margherita voleva che i proventi di queste vendite fossero piazzati in modo da garantire la sua dote quindi insomma ci sono anche con Ottavio dei contrasti poi oltre questi interessi personali di Margherita sono interessanti le sue commissioni artistiche perché Margherita aveva deciso di fare un regalo al cardinale Granvelle al cardinale Granvelle al vescovo perché ancora forse non era no forse era cardinale già al cardinale Granvelle voleva regalare qualcosa di antico e quindi qua ci sono in queste lettere dei particolari su cosa deve essere comprato per il cardinale Granvelle e poi ci sono questi accenni a vignola vignola che naturalmente Margherita voleva avere a sua disposizione per il palazzo di Piacenza ma vignola per esempio c'è una lettera in cui Machiavelli incontra a Caprarola il cardinale Alessandro il cardinale Alessandro segue la fine siamo nell'aprile del 1562 segue i lavori di conclusione di Caprarola e sopraggiunge mentre stavano parlando con con Machiavelli sopraggiunge vignola e il commento del cardinale Alessandro il commento forse di Machiavelli è che sarebbe stato difficile mandare vignola a Piacenza perché vignola aspirava alla fabbrica di San Pietro pensando che Michelangelo dovesse tosto morire quindi questo è un accenno che può in qualche modo diciamo allargare le nostre conoscenze in campo di storia dell'arte ma la cosa anche interessante di queste lettere sono le lettere che riguardano l'Abruzzo perché dopo essere stato Machiavelli dopo essere stato a Trento a Parma a Firenze a Pisa per seguire il Gran Duca Cosimo ed essere stato a Roma essere stato a Napoli viene in Abruzzo quindi nel periodo del luglio del giugno e luglio agosto è in Abruzzo e manda delle lettere a Margherita per descrivere la situazione nei vari feudi avruzzesi quindi ci sono quattro lettere da Campli che nominano molti personaggi locali per cui io ho già prenotato Ricci per avere la sua mano nel decifrare nel poter far note a questi personaggi però ci sono anche tre lettere da Città Ducale ci sono due lettere da Leonessa c'è una lettera da Montereale un'altra da Pena insomma diciamo che l'interesse di questa corrispondenza riguarda anche l'Avruzzo ma poi ci sono appunto tutti questi commenti commenti su vari avvenimenti già a descrizione di avvenimenti e commenti per esempio questo un commento che io ho già utilizzato in qualche mio testo anzi nel testo che pubblicherò con Hans Kohl sul convegno di Alessandro Farnese Alessandro Farnese aveva come precettore aveva come governatore quando era in Spagna Ardinghelli Ardinghelli è un personale Ardinghelli non l'Ardinghelli qua di L'Aquila Ardinghelli allora questo Ardinghelli aveva una sua Ardinghelli che era la persona che aveva il governo della casa di Alessandro in Spagna il cardinale Alessandro Farnese aveva un pessimo giudizio anche perché questo Ardinghelli secondo il cardinale Alessandro giocava ai dadi o a carte insomma quindi era una persona non affidabile dal punto di vista finanziario ma e quindi ci sono tutti questi giudizi ma i giudizi più interessanti che si trovano in queste lettere sono relativi al Papa Pio IV perché praticamente il Papa Pio IV esprime dei giudizi molto negativi sulla situazione nei Paesi Bassi siamo nel 1562 per noi la situazione ancora sembra normale ma in realtà c'erano molte preoccupazioni e queste preoccupazioni in qualche modo coinvolgevano la reputazione della governatrice di Margherita quindi il cardinale Alessandro da queste lettere chiede a Margherita di mandargli una relazione precisa di come era la situazione nei Paesi Bassi per poter rispondere al Papa quindi la situazione ecco ci sono dei giudizi anche molto negativi su Pio IV in queste lettere ad esempio Pio IV viene detto molto volubile come è di giudizio una persona leggera insomma e quindi ecco tutto questo contribuisce a rendere interessante questa corrispondenza allora questa è il primo diciamo la prima missione che Machiavelli compie per Margherita è in Italia dal 1562 fino all'inizio del 1565 ma la seconda missione anche che Margherita gli affida è di grande importanza siamo nel 1567 il duca d'Alba è arrivato a Bruxelles il duca d'Alba toglie spazio a Margherita Margherita scrive continuamente a Filippo II dicendo aveva cercato di evitare l'arrivo del duca d'Alba perché il duca d'Alba era nemico dei Farnese e il duca d'Alba e Margherita appunto tollera malamente questa diciamo questa presenza di una forza militare che in qualche modo diminuiva il suo potere allora Margherita decide di tornare in Italia e per tornare in Italia manda Machiavelli in Spagna per avere il permesso del re di lasciare i Paesi Bassi e questo anche è una diciamo una missione di grande responsabilità che Machiavelli ha in novembre riesce a ottenere questa diciamo licenza per Margherita e come poi vi dirò dopo oltre la licenza porta anche delle pensioni per Margherita delle pensioni reali da parte del re per Margherita e quindi Margherita alla fine del 1567 parte il 31 di dicembre parte da Bruxelles e si piazza a Bologna a Piacenza a Piacenza la corte è al completo c'è Ardenteros c'è Machiavelli come segretari e tutta la corte che segue Margherita dal Belgio è a Piacenza ma a Piacenza avviene una rottura importante la rottura fra Machiavelli e Ardenteros un litigio per cui in questo litigio di questo litigio noi siamo informati ancora da Francesco De Marchi Francesco De Marchi nelle sue lettere allora scrive il 28 maggio del 1568 questa mattina ho intesa la partita del signor Machiavelli sono restato il più meravigliato uomo del mondo vabbè la causa della partita non la so se non che hanno preso tutte le scritture e chiavi della camera sua e quelli insomma e descrive anche il fatto che c'erano appunto i suoi nemici di Machiavelli che molto soddisfatti di questa cacciata e scrive ancora penso che sia venuto in Parma a trovare l'eccellenza del duca e del principe i quali l'averanno per raccomandata per raccomandato se non sarà cosa disonorata come penso che non sarà allora questo vuol dire che Machiavelli dall'oggi al domani deve lasciare la corte di Margherita e Machiavelli torna nella sua città torna a Bologna torna a Bologna pur mantenendo ottimi rapporti con la corte di Parma tant'è vero che per esempio c'è una sua lettera in archivio di Parma scritta da San Secondo San Secondo è la sede della dama principale di Margherita che l'aveva lasciata abbandonata l'aveva smesso al suo servizio e questa è Gonzaga la Gonzaga che aveva appunto mantenuto questi rapporti con buoni tant'è vero che Machiavelli spassa alcune alcuni giorni presso di lei Ottavio deve andare a Roma e Machiavelli lo avrebbe accompagnato salvo poi Machiavelli che viene nominato nel senato bolognese quindi non può andare ma insomma questo dimostra che Machiavelli godeva la fiducia della corte parmese e quindi praticamente non credevano a queste accuse che gli venivano mosse e che avevano portato alla sua al suo licenziamento allora l'altro momento interessante di questa di questa vicenda è la morte di Margherita alla morte di Margherita vengono praticamente le cause le varie cause che Margherita avevano aveva con i medici vengono proseguite da Alessandro e Alessandro si preoccupa di avere una documentazione di tutto quello che era successo in modo da poter proseguire sia le cause con i medici e anche poter soddisfare i debiti con i vari dipendenti di Margherita e fra queste lettere nel fondo nel carteggio farnesiano interno c'è una lettera di Machiavelli in cui Machiavelli si dice creditore nei riguardi di Margherita e quindi dei farnese di mille scudi e questi mille scudi gli sarebbero dovuti per il fatto che Margherita aveva mandato lo scrive nella lettera ma su altezza mandò diverse persone in Spagna per aver licenza ma nulla riportavano perché tutti attesero attesero in questa occasione e in altre agli interessi loro e non al servizio della serenissima padrona e qui fa l'elenco dei personaggi Lembo che era il tesoriero era stato mandato in Spagna era morto in Spagna Alonso Lopes Gallo anche lui non aveva patro Armenteros e qua veniamo al conflitto fra i due Armenteros e Machiavelli Armenteros era stato accusato da Machiavelli di aver fatto da spia il Duca d'Alba di aver giocato fatto un gioco diciamo non chiaro fra Margherita e il Duca d'Alba Margherita aveva preso le parti di Armenteros e aveva licenziato Machiavelli ma Armenteros da Machiavelli oltretutto viene accusato di essere un giocatore d'Azzardo e ci sono due accenni nelle lettere di Armenteros di Machiavelli che accusano Armenteros di diciamo giocare d'Azzardo e qua veniamo alla figura di Armenteros Armenteros che è il personaggio studiato da Sebastian Derx a me dispiace molto la mancanza di Derx oggi perché praticamente allora Derx in qualche modo giustifica Armenteros Armenteros nei Paesi Bassi ha una reputazione pessima perché Armenteros è colui che veniva chiamato dai Paesi Bassi Argenteros perché era una persona avidissima allora era avida perché perdevi soldi a carte ma non credo perché qua parliamo di grosse cifre era avida perché allora era avida no probabilmente Sebastian Derx ha ragione cioè le finanze dei Paesi Bassi di Margherita erano molto risicate cioè non c'erano abbastanza entrate e quello che fanno Armenteros e Margherita mettono in vendita le varie cariche le varie cariche di governo dei Paesi Bassi che dipendevano dalla governatrice vengono messe in vendita e qua subentra un'accusa grave un'accusa grave che viene mossa a Armenteros ma anche a Margherita cioè praticamente mettendo in vendita queste cariche secondo Champagnet Champagnet è il fratello del cardinal Granvel un personaggio importante anche lui nella storia dei Paesi Bassi che si mette in contrasto soprattutto con Alessandro Farnese e scrive negli ultimi anni di Alessandro Farnese scrive dei memoriali per la corte spagnola e in queste in uno di questi memoriali accusa il fatto che Margherita e Armenteros mettessero in vendita queste cariche sostiene sostiene che queste cariche importanti venivano comprate da il principe d'Orange che riusciva a mettere nei posti chiave del governo dei suoi affiliati e quindi questo sarebbe stata una delle cause per cui la rivolta era scoppiata ed era andata avanti allora ecco diciamo questi sono un po' i punti allora alla morte diciamo Machiavelli pretende questi mille scudi per questi favori che erano stati concessi dal re a Margherita Margherita si sarebbe avrebbe promesso di dargli mille scudi oppure dargli una pensione di 600 scudi l'anno insomma questo non viene fatto Machiavelli li pretende ma nel retro della lettera di Machiavelli c'è un commento un giudizio del segretario di Alessandro cioè di Cosimo Masi che dice non dargli perché la situazione non è chiara sufficientemente chiara quindi noi vediamo che Machiavelli non riesce ad avere soddisfazione in questo in questo caso ecco diciamo che il personaggio merita di essere di essere riscoperto e diciamo che una c'è stata in questi anni un ritrovamento fortunato un collezionista di Lisbona ha trovato un ritratto un collezionista di ritratti di Lisbona ha trovato un ritratto me l'ha fatto vedere io dico ma questo quadro potrebbe essere un personaggio di governo non sapevo che fosse lui il collezionista ha fatto restaurare e dalla lettera che il personaggio tiene in mano nel restauro è uscito il nome di Machiavelli il nome di Machiavelli è anche l'anno l'anno 1567 che è l'anno in cui Machiavelli è al massimo del potere perché è quello che dalla Spagna porta la licenza per lasciare i Paesi Bassi e porta le pensioni reali per Margherita ecco io vi faccio vedere una foto di questo ritratto è un ritratto che il collezionista ritiene sia opera di Anthony Smorr che è il grande pittore di Ambersa che aveva eseguito il ritratto di Margherita che noi abbiamo come nella nostra locandina bene grazie grazie a Giuseppe Bertini per questa splendida relazione di cui vorrei sottolineare agli studenti per dare anche loro una chiave di lettura come si integri perfettamente con le due precedenti relazioni nella prima Silvia Mantini ha dato un quadro complessivo della figura e dell'opera di Margherita d'Austria nella seconda Adolfo Carrasco ha inquadrato la traiettoria di Margherita d'Austria nel percorso di legittimazione del governo nell'età di Filippo II e ha richiamato all'interno di questo percorso l'importanza della creazione di un ceto di governo con delle figure di consiglieri e di segretari e ora Giuseppe Bertini ha inquadrato questa figura di straordinario interesse che è quella di Tommaso Macchiavelli segretario cui vengono affidate le importanti missioni che abbiamo ascoltato ma ha ricostruito in realtà per pennellate anche un quadro molto più grande in particolare in riferimento alla figura dell'Armenteros ma anche di Ardinghelli e in generale ha enfatizzato come questo ceto di governo e questa cultura di governo di cui Margherita ha bisogno di queste figure è un tema che rivedremo poi nella relazione senz'altro di Isabella dove si arriverà a focalizzare su un'altra figura che appartiene a questo panteon di consiglieri di assessori di segretari del del principe continuando su questo percorso la relazione successiva che andiamo a ascoltare è quella di Hans Kohl Hans Kohl è professore di storia moderna presso l'università di Lovagno ha conseguito il dottorato presso l'università di Amsterdam e il post-dottorato presso quella di Leida è stato presso l'istituto olandese di Roma come responsabile della ricerca storica e i suoi studi si allargano su temi prosopografici relativi all'aristocrazia nei Paesi Bassi tra fine 400 e inizio 500 in riferimento al percorso di formazione dello Stato nei territori borgognoni e asburgici è uno studioso noto per l'attività di ricerca proprio in relazione alla cultura e alla storia della Francia e dell'Italia in età moderna con una accezione specifica sui temi dell'intermediazione culturale della creazione della memoria pubblica e ha su questo pubblicato numerosissimi contributi la sua relazione di quest'oggi si intitola The Reputation of a Tormented Regent The Afterlife of Margaret of Austria prego grazie grazie anche per questa bella introduzione dovrei aggiungere infatti che un titolo più completo sarebbe The Reputation of a Tormented Regent The Afterlife of Margaret of Austria in the Low Countries alla fin fine farei una breve escrisione verso l'Italia però si tratta soprattutto della sua reputazione nei Paesi Bassi prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo convegno per il splendido programma e per l'invito e inoltre chiedo scusa di non parlarvi al di là di questa breve introduzione in italiano preparando questa relazione mi sono sentito non abbastanza sicuro nella lingua di Dante e per questo dopo una breve esitazione o preferito di scriverlo in inglese sperando di essere così più intelligibile born out of the turmoil of the Napoleonic Wars just as many more European modern nation states in the 19th century both the actual kingdom of the Netherlands and present day Belgium felt the need to justify their existence by tracing it back into history for the political and cultural elites in the two countries the dramatic events out of the second half of the 16th and the first half of the 17th century constituted a crucial part of their national myths in the Netherlands revolt which ensued in 1566 against Habsburg authority was interpreted as no less than a national war of independence however historians theologians and other intellectuals alike intensively discussed the precise goals of that war was it for ergo religionis that is to say was the divinely inspired revolt meant to create a reformed Calvinist state or was it for ergo libertatis and here you see the Leiden coat of arms Leiden which had to sustain in 1574 a long siege by the Habsburg troops and what you see on this coat of arms apart from the holland lion enclosed in his garden wearing the hat of liberty and then as a subscript high libertatis ergo so all the siege had to be sustained because of the strife for liberty indeed ergo libertatis thus had the rebels from the outside of the revolt aimed for the freedom of conscience and tolerance for all inhabitants of the low countries even including the large catholic minority nevertheless also in such a climate there was little room for the Habsburg protagonists in the public imaginary by contrast all the attention went to William of Orange who continuing since the 17th century was revert by all parties liberals staunch Protestants and Catholics alike as the father of the father land and here you see his statue one of his two statues in fact in the Hague although the kingdom of Belgium had only come into existence in 1830 after a few days of street fights in Brussels an event that we could dub as the Cinque Giornate di Bruxelles according to the national opinion leaders throughout centuries throughout the past centuries freedom had always been the main characteristic of the Belgian identity l'âme belge as they called it sovereigns who respected these liberties in practice a set of ill-defined customs and privileges even when they ruled from far-flung capitals such as Madrid or Vienna were venerated whereas those who had tried to impose novelties such as the 16th century King Philip II or the 18th century Emperor Joseph II were despised as tyrants this resulted into a national narrative in which good rulers were succeeded by bad ones in this cyclic course of history the home grown good Emperor Charles V was contrasted to his evil Spanish son King Philip II for him neither for his supposedly weak half sister Margaret was hardly room in the national pantheon and you see this on the next slide next image this photograph of the meeting room of the Belgian Senate in good 19th century fashion and there you see Charles V succeeded Charles V was here succeeded by Alton leaving out Margaret or Philip II so Charles V as good ruler and the archdukes Isabel daughter of Philip II and her niece of Margaret and her husband the Austrian Habsburg Albert in fact by favoring the 12 years truce with the Dutch Republic signed in 1609 they the archdukes had enabled an economic and demographic recovery after decades of more furthermore by turning the country into the most northern bulwark of counter reformation and Catholicism a place where the baroque art of the coat painter Peter Paul Rubens could flourish they had shaped the national character for the centuries to come if Margaret of Parma as she is called in Belgian historiography was ever depicted at all then she was presented as a prop in the national history to enliven the tale of her chivalric father and his courteous lifestyle and here you see Margaret as a baby in a cot being taken care of by her mother and Charles V still young Charles V thereby Margaret does stance in contrast with other protagonists of this time of the revolt of the Netherlands which and in particular in fact with particular with the count of Eikmonter and here you see another history painting last tribute to the decapitated counts of Eikmonter and this time by Louis Gaillard especially in the second half of the 19th century parties thrive between liberals anti anti-clerical liberals and catholics or the catholic party had erupted and especially the anti-catholic or anti-clerical liberals had adopted the heroes of the revolt and in particular the counterfecment for them it was simple conceding to the claims of the catholic party would walk back the country to the dark times of the Spanish inquisition and here you see the black legion at work some of it some of that folklore until today here you see the statutes of Egmond and Horen who first were erected at the Grand Place in Brussels and later onwards at the very end of the 19th century transferred to the Park of the Sablon in front of Egmond's palace I told you some of this folklore survives until today here you see the cafe the count of Egmond the Graf of Egmond on the market square in Alst Alost and up to these days this cafe is the meeting place of the liberals the local liberal party and therefore it's in blue the color of the liberals so lively political culture this absence of Margaret of Parma in the collective memory of the countries north and south alike stands also in stark contrast to the rather positive images of her harmonious great-aunt Margaret of Austria after which she was named and at Rose Court she was raised for a while before becoming a pound in the Italian games of her father the emperor and that of her aunt Mary of Hungary especially the first Margaret had been venerated since the middle of the 19th century as an art collector an avid art collector a tutor for her cousin the future emperor providing him with some familial want which he otherwise lacked and as a harbinger of peace after all it was Margaret who had negotiated the famous peace of Cambrai nicknamed the peace of the ladies concluded in 1529 a year before her dead you see her statue erected in 1849 in the presence of the whole royal family as you will have noticed this positive image of Margaret is strongly linked with perceived quintessential female values also the memory of Mary of Hungary is kept alive up to these days in her case most and for all by the place named Marimon nowadays a village in the province of the province of Heno situated about 50 kilometers south of Brussels where Mary decided to construct a stunning hunting lodge and the park which was regularly put on fire by French incursors and finally destructed by French revolutionary groups in 1794 moreover 30 years ago in 1993 a prestigious exhibition on Mary of Hungary was organized in Utrecht and Sertogen Moss in the Netherlands and at that exhibition Mary's extensive patronage for the arts intellectual curiosity and her surreptious interest in reformation taught were emphasized in the slipstream of that exhibition a world of scientific literature has been published which has led to a reappraisal of her regency up to now such a revisionary image for Margaret of Parma is still lacking in public memory and in scientific historiography alike regency is still epitomized most and for all by a wavering policy during the events that led to the crisis of the iconoclast fury and its immediate aftermath from the spring to the winter of 1566 that image of a not very steadfast lady that could be easily manipulated by stronger characters than hers not to name the members of the consulta was already forged at the time so in the middle of the 16th century by the famous michelin engraver Francis Hogenberg in his famous series of engravings on the Dutch revolt and what you see here on this engraving which in fact is what I would call a semi realistic rendering of the reality it's not exactly contemporary in the sense that it has been produced few years afterwards when Hogenberg had fled already low countries for the relative safety of Cologne and from Cologne on the Rhine he produced a whole series of engravings narrating the story of revolt which you consider as a form of 16th century journalism and this series of engravings has been fixed very strongly into the collective memory and up to our days there has been selection of the highlights of the revolt rendering them from a quasi neutral stance but in fact taking part Hogenberg himself being a moderate Lutheran and what do we see in fact on this painting we see the group of nobles rendering their petition 400 nobles rendering their petition to the regent who seated in the Aula Magna in her palace in Brussels but the regent we hardly recognize her we do not recognize her in fact she's rendered as a very small figure it's only the under score that makes her recognizable as the region to which the petition is presented it's at that occasion that she would have uttered or that Berlemont would have uttered the famous words when she was a bit scary before all this armed nobleman wandering in a cortege to her Madame n'ayet pas peur ce ne sont que des gueux these are but beggars so you should not be afraid of them but these beggars are on the incision on the engraving we organize as well they're circumscribed by the statue of the emperor of Charles the father of Margaret in which she always put her trust and a pelican on the other column the pelican obviously the image of Christ himself the pelican who suffers by rendering his blood to his offspring and just as the pelican suffers for the well-being of all of us these mainly but not all of them mainly Calvinist nobles have to suffer to bring salvation to low countries to the country so at this very crucial moment of her regency Margaret is reduced once again to a prop to a very small little figure that has no influence whatsoever on the course of events obviously that classic image of Margaret has been further reinforced by gendered stereotypes but then in the other way as it has been done for the other Margaret as a natural daughter of Emperor Charles V Margaret would have lacked the self-evident authority that had two female predecessors as regents had possessed however this classic image since then since the 16th century since Hoogenberg never been seriously questioned in the scientific historiography on the Dutch revolt well in contrast it has been confirmed by recent studies such as those by Peter and Nate on the political culture of Dutch revolt or in the prestigious and acclaimed prize-winning scientific biography of William of Orange published by last year and this Dutch image if I could say so this Dutch image of Margaret stands in stark contrast to the reputation of Margaret as an excellent administrator of the stati Farnesiani which is firmly rooted in public memory amongst the populations of these lands and which finds echoes in recent Italian historiography on Margaret not in the least by the organizer of this conference Silvia Mantini and as we have heard earlier onwards today for sure these diverging images urges us for serious dialogue between those varying historiographical traditions more more over in recent years the void created by the existing one dimensional image of Margaret in the Dutch speaking public memory has been partially filled in literature in fact Margaret's dramatic life course turns into the ideal subject for biopic and this has been written by this author Jan Siebeling who published in 2002 his ficturous book his fiction literary historic Roman Margherita now two decades old but still in print which proves that it's a popular book in fact Jan Siebeling is one of the most acclaimed and most profilic literary authors in Dutch and recurring themes in his work are female psychology both of contemporary women as in his novel Vera as historic figures in this case Margaret of of Parma Margaret of Austria other traits of his characteristics of his work are his rich not to say baroque language which is reminiscent of French in fact by profession Siebeling was a professor of French at a Dutch high school situated in the that's the stanchely protestant countryside in the east of the country and a third recurring theme in his work is coming to terms with his own strictly Calvinist upbringing and all these themes return in this novel on Margaret of Austria the tale is easily told in the book the old and impoverished Margaret more less sent into exile to the cittaducale she looks back in a series of flashbacks to her youth her forced marriage with Alessandro de Medici and the murder of the latter and subsequently her time spent as a regent in the low countries and recurring themes in this novel are the Catholic faith and more in particular the comfort it brings and that in opposition obviously to the Calvinism of siblings youth Margaret's lack of status as a bastard female autonomy and most importantly secret platonic love for William of Orange and this latter element shows a striking parallel with his most recent novel Italian novel which some of you might have read by Giulia Alberico also maybe this is not a hazard also a teacher by profession and so whereas Siebeling makes Margaret fall in love secretly with William of Orange in Alberico's book Margaret dreamed of life with La morale the count of Egnant thereby in both books Margaret becomes a woman in her own right who silently rebels against Habsburg family policies and thus to put it in contemporary fashionable terms in those books Margaret gains female agency which she lacks in traditional Dutch historiography and obviously these books are literary fiction and not history but their authors set a challenge for us historians it's now up to us to create a new more voracious image of Margaret the work by Silvia Mantini Questa settimana margaritiana marvellous expression which I learned today here in L'Aquila and in particular this conference and the exhibition within two years in 2024 in Audenarda about which Catherine Lichtert will tell us much more tomorrow are brickstones for doing so thank you very much for your attention thank you thank you thank you thank you Colts for having given an ulterior perspective to the study margaritiana because dal relatore legittimante di processi di formazione e conseguentemente nel particolare contesto tormentato e difficile della nascita come nazioni indipendenti dei Paesi Bassi e del Belgio, in particolare la separazione di quest'ultimo negli anni 30 dell'Ottocento, dà una necessaria rilettura a figure del passato polarizzandole nel bene e nel male, ma questo d'altronde lo conosciamo anche molto bene, nel caso dell'Italia, l'Italia del Risorgimento avrà una rilettura della prima età moderna tutta legata alla presenza straniera, al tema della decadenza, al tema della perdita delle libertà e dell'individualità. Margherita d'Austria rappresenta in questo senso un vero snodo di questa rilettura per anche le polarità positive che vengono identificate e che poi accompagnano appunto questa vita postuma storiografica, diciamo così ottocentesca fino alle riletture più recenti, il testo di Giulia Alberico e altri che sono stati citati. E questo è, diciamo, ad uso dei giovani storici che sono qui presenti, è veramente un elemento molto molto importante di cui tenere presente, in particolare quando chi si occupa di storia della monarchia spagnola a un certo momento si trova con l'elefante nel salotto che è la leyenda negra, cioè tutta quella rilettura del ruolo e della proiezione politica della monarchia degli Asburgo di Spagna nell'Europa della prima età moderna, fortissimamente segnata, diciamo, dalla letteratura e dalla propaganda, questo a un certo punto si tratta, che segnerà soprattutto durante il XVII secolo lo scontro tra i principi protestanti e i principi cristiani e la monarchia spagnola e soprattutto poi nel corso del XVIII secolo. E quindi una rilettura che va, diciamo così, al di là dell'immediato contesto storico in cui si muovono gli attori per guardarli appunto nella loro vita postuma, come sottolineava il relatore. Mi pare di aver capito che, data l'ora, sposteremo il dibattito al termine della sessione del pomeriggio e quindi andiamo ora, chiedo conferma, una pausa. Grazie della vostra attenzione. Buon pomeriggio, riprendiamo i lavori. Ho il piacere di dare la parola al professor Gaetano Sabatini, direttore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, CNR di Cagliari, è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi Roma III, dove ha insegnato Storia Economica e Geopolitica Economica. È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma III. Esperto di Storia della Finanza, del Tardo Medioevo e dell'età moderna e contemporanea, si occupa di credito privato nei processi di sviluppo economico, con particolare riferimento all'area iberica, alle proiezioni europee, mediterranee e transoceaniche delle monarchia spagnola e portoghese, al dibattito teorico arbitrismo degli autori contemporanei e allo Stato farnesiano d'Abruzzo. Dopo avervi detto questo, però vi dico anche che il professor Gaetano Sabatini, oltre che essere un carissimo amico da moltissimo tempo, è molto di più di quello che vi ho detto, perché è uno studioso davvero molto sensibile e raffinato, è in progetti di ricerca ormai direi, so, di storia globale? Forse più che globale? O comunque transoceanica, questo l'abbiamo già detto. E poi ci tengo molto a dire invece che ha iniziato come ricercatore all'Università dell'Aquila, alla Facoltà di Economia, ha insegnato anche nella nostra ex Facoltà di Lettere e quindi in conclusione è uno studioso, oltre che essere di grande spessore, di grande amicizia, nei confronti dell'Aquila e anche di anima abruzzese, e forte anima abruzzese, ma anche con tutti gli studiosi e amici che sono qui presenti. Quindi non mi resta che dargli la parola e ascoltarlo, abbiamo avuto modo di ascoltarlo oggi in più, diciamo, interventi e quindi siamo in attesa. Grazie. Avendolo ascoltato troppo siamo francamente stufi, era questo che volevi dire. Ringrazio anche per questa generosa presentazione l'amica e collega Silvia Mantini, cui si deve non solo la promozione di questo nostro incontro di oggi e di domani, ma anche di avere con intelligenza e sensibilità da molto tempo imboccato la strada della riscoperta storografica e della valorizzazione della figura di Margherita D'Auste. In effetti per questo mio intervento vorrei ripartire, come già fatto in altre relazioni di quest'oggi, ricordando quel convegno di oltre vent'anni fa, più precisamente del settembre del 2001, dedicato a Margherita D'Austria, costruzioni politiche e diplomazie tra corte farnese e monarchia spagnola, i cui atti furono editi due anni dopo, nel 2003, a cura della stessa Silvia Mantini, perché costituisce, come usa dire, l'evento seminale di questo filone di studi. Questo vale anche per l'ambito nel quale vorrei oggi brevemente intrattenervi, cioè quello delle riforme finanziarie che Margherita D'Austria porta nello Stato farnesiano e in certa qual misura durante la sua esperienza nel governatorato all'Aquila e in Abruzzo. Nel saggio che scrissi allora, vent'anni fa, sottolineavo come quelle riforme di Margherita D'Austria fossero frutto di una stagione particolarmente intensa di dibattito che si consuma tra il secondo e il terzo decennio del Regno di Filippo II intorno alla gestione della Real Asienda. Più precisamente una coppia di arbitristi molto ascoltati dal circuito più vicino al sovrano, mi riferisco a Luis Valle della Serda e a Pedro de Obergheste, il primo castigliano e il secondo di origine fiamminga, che elaborano tra gli anni 60 e 70 un progetto di profonda ristrutturazione delle finanze della Corona di Castiglia e quindi della monarchia nel suo istieme basata sulla creazione di una rete di re e rari o banchi pubblici. L'esperienza di Carlo V, come straordinariamente fotografata dall'opera di Ramon Carande, Bancheros e Carlo Schinto e successivamente di altri, come ad esempio Filippo e Luis Martin, aveva dimostrato come il peso della gestione finanziaria dell'impero non potesse, come di fatto poi mai si sottrasse, non potesse sottrarsi a un ruolo fortemente egemonico della finanza privata. La finanza in privata che si incarna in tutti i momenti del governo degli Asburgo e di Spagna in figure, gruppi di banchieri, uoi genovesi, uoi fiamminghi, uoi portoghesi, ma che costantemente getta una forte ipoteca sulla capacità di autonoma azione del sovrano. Filippo II, il suo circuito più stretto, ha coscienza di questo, ci stiamo avviando verso le prime grandi bancarotte, cosiddette più precisamente sospensioni dei pagamenti del regno di Filippo II, e quindi suscita una riflessione sul modo su cui sottrarsi a questo gioco. La stessa Margherita d'Austria, governatrice dei Paesi Bassi, come ricordava nel suo intervento Silvia Stamane, aveva a sua volta commissionato uno studio attraverso una figura di banchiere, peraltro ben conosciuta, Bartolomeo Richelmi, che doveva essere riportato all'un specifico contesto dei Paesi Bassi una proposta di riportare sotto un più diretto controllo della corona la gestione delle finanze, cioè studiare degli strumenti tecnici per sottrarre questa fondamentale funzione dello Stato, dell'età moderna, di riportarlo, dicevo, al controllo del potere sovrano. Quando appunto vent'anni fa studiai le riforme di Margherita d'Austria negli stati farnesiani, nella particolare accezione delle riforme finanziarie, mi parvi allora, e come cercherò di spiegare, mi sembra anche adesso con un'importante sfumatura diversa maturata in questo frattempo, che quelle riforme riportate a un contesto, ovviamente molto più minuto di uno Stato feudale, rispondessero alla stessa logica, cioè rispondessero alla logica di una diretta gestione delle finanze con un più modesto ruolo di figure di banchieri appaltatori della gestione delle stesse. Rileggendo quell'episodio dopo vent'anni, oltre che alla luce di alcuni documenti che allora non conoscevo e che nel frattempo ho trovato nell'archivio farnesiano, nell'archivio di Stato di Napoli, trovo però che la rilettura storiografica che in questi venti anni è stata fatta della monarchia spagnola aiuti a rileggere anche quello specifico quello specifico punto, quel suo specifico passaggio legato alla gestione delle finanze di uno Stato feudale, del particolarissimo Stato feudale noto come Stato farnesiano d'Abruzzo facente capo a un certo punto a Margherita d'Austria. A che rilettura storiografica faccio riferimento? Mi riferisco a quella stagione di studi molto fertile che nasce a cavallo delle due importanti celebrazioni del quarto centenario della morte di Filippo II nel 1998 e del quinto centenario della nascita di Carlo V nel 2000, una stagione peraltro vissuta intensamente con i colleghi e fraterni amici Carlo Sernando e Adolfo Carrasco che tanto lavorarono in quel momento e che entrambi leghiamo alla memoria molto cara di Luis Miguel Enciso Oresio e di Luigi De Rosa, una stagione straordinariamente fertile anche per chi come noi ha avuto la fortuna di avere maestri così generosi come Luis Miguel e Luigi De Rosa, a quella stagione, ripeto, mette capo un percorso di profonda rilettura delle monarchie iberiche che poi attraverso una serie di altri snodi, ne ricordo soltanto uno che pure è stato già citato stamattina, lo splendido convegno di Roma del 2007 e Spagna e Roma, un crisol di cultura nell'Europa moderna e altri ne potremmo ricordare perché da quella fase, ripeto, di profonda rilettura sono partiti numerosi percorsi di reinterpretazione storografica della monarchia spagnola volti a superare, integrare o rendere complementari due dei modelli interpretativi sino allora viventi. Mi riferisco naturalmente al modello della monarchia composita cognato da John Elliot che sottolinea come le monarchie della prima età moderna e segnatamente nella monarchia spagnola sia un insieme di territori la cui unità è sostanzialmente dettata dalla unione dinastica della figura del sovrano e il modello centro e periferia che partendo dalla rilettura di Wallerstein negli anni 70 poi trova una sua specifica applicazione anche al caso della monarchia spagnola. In realtà uno dei filoni che nasce da quella stagione di studi è quello al quale mi sento più vicino per aver partecipato alla sua genesi è quello delle monarchie policentriche attraverso vari momenti ricordo un articolo pubblicato sul Journal of Modern History con l'amico e collega José Cavier Luisi Bagnes Monarchies a Conquest del 2009 più recentemente sull'Annal Aglier e Wazin in Emy sempre con Luisi Bagnes volume del 2012 Policentric Monarchies che in qualche modo modellizza e categorizza questa interpretazione l'idea cioè che la monarchia spagnola né potesse leggersi soltanto come insieme composito né prevedesse al suo interno soltanto delle relazioni biunivoche tra centro e periferia ma invece fosse costituita da una rete di centri di mediazione, di composizione delle spinte e degli interessi tra i cuerpos estamentales identificativi dei territori della monarchia stessa. E questo eco dell'importanza delle reti e anche dei diversi livelli di mediazione e di intermediazione lo trovo chiaramente evocato nel titolo che Silvia ha voluto dare a questo incontro laddove la figura di Margherita d'Austria è riportata nel contesto delle reti europee delle pratiche culturali e delle iniziative politiche dei termini declinati al plurale per rimandare se non mi inganno proprio a questa cittatrama di relazioni che superano la lettura unicamente incentrata sul ruolo che pure rimane evidentemente fondamentale del sovrano e della corte ma che si va via via espandendo su tutto il territorio della monarchia. Perché questa rilettura storografica sulla quale non posso in questa sede di lugarmi oltre ha a che vedere anche con la nostra specifica lettura delle riforme margaritiane e in particolare delle riforme di natura finanziaria. Quando vent'anni fa mi interrogavo sull'istituzione di queste figure degli erari a livello locale appunto previste dagli ordini di Margherita del 1571 e ne vedevo la filiazione diretta con questi progetti cui citavo prima e che nel frattempo peraltro sono stati meglio studiati e spiegati dall'amica e collega Andy Ubele mi sfuggiva il ruolo che queste figure avessero per rappresentare sul territorio altrettanti nodi altrettanti snodi altrettanti punti di mediazione credo infatti che la parola chiave con cui interpretare queste riforme sia quella della mediazione mentre vorrei riservarmi per non tediare il pubblico alla scrittura del testo alcuni aspetti più squisitamente tecnici di queste riforme vorrei invece concentrarmi sull'aspetto politico l'idea di rappresentare la monarchia spagnola come un'entità capace di realizzare delle forme di mediazione sul territorio che quindi costituissero un complemento al luogo di mediazione per eccellenza che è la corte significa anche dover prevedere una serie di figure deputate a questo ora se noi riguardiamo e anche nelle relazioni di stamane questo è stato evocato l'azione di Margherita mediatrice nell'incisione che è stata proposta da Silvio che cerca di allentare e non di rendere più forte il gioco sulle province dei Paesi Bassi così come se noi guardiamo agli ordini impartiti per Stato farnesiano e implementati nel corso del tempo sotto forma di riforme finanziarie ci rendiamo conto che oltre ad assolvere delle finalità squisitamente tecniche queste riforme servono appunto a creare a proporre a declinare a livello locale delle figure di mediazione ed effettivamente noi leggiamo la presenza quindicennale di Margherita in Abruzzo dal principio degli anni 70 la sua morte alla metà degli anni 80 come una figura che favorisce questa mediazione certamente si dirà la figlia dell'imperatore è un'estensione della corte essa stessa crea intorno a sé una corte cosmopolita che la segue ma appunto questo viene poi portato anche a livello di una piccola entità che pure rappresenta uno dei corpi sul territorio della monarchia quale uno stato feudale alcuni anni or sono lavorando con il collega amico di Napoli Francesco D'Andolo alla ricostruzione delle rendite feudali e degli ordini impartiti per lo stato dai duchi Carafa di Maddaloni grande stato feudale di Carafa di Maddaloni ci rendevamo conto come questa degli stati farnesiani d'Abruzzo non è un'eccezione cioè lo stato feudale rappresenta nell'architettura dell'antico regime una pietra angolare al pari delle comunità e non a caso appunto un altro degli aspetti su cui interviene la presenza di Margherita d'Austria è appunto le finanze delle comunità e le due insieme si caratterizzano per questa necessità da una parte come già ricordato di sottrarre delle forme di gestione della finanza a dei soggetti privati dall'altra la possibilità di farlo creando degli spazi e dei luoghi di mediazione ricordava il professor Bertini nella sua relazione come uno dei punti controversi della presenza di Margherita d'Austria nelle province dei Paesi Bassi fosse la questione della penalità degli uffici il fatto cioè che negli statuti e privilegi che regolavano il rapporto tra la Corona e le province dei Paesi Bassi vi fossero due capisaldi fondamentali il primo che il governo dovesse essere delegato dal sovrano a un membro della casa imperiale o reale e questa è una cosa che si applica anche al Portogallo sono territori il cui status in un contesto di antico regime dettato da un corpus di privilegi richiede che se non è il sovrano a essere lì presente fisicamente debba esservi un rappresentante del suo rango come appunto Margherita o Alberto Isabella Clare Eugenia e sarà lo stesso anche per il Portogallo e ogni volta che ci sarà il rischio che si rompa questa regolarità questa violazione dei privilegi costituisce un grave diciamo momento di rottura del patto tra il sovrano e il suo territorio ma vi è un secondo aspetto che è quello del riconoscimento della primazia dei naturali nell'esercizio degli uffici gli uffici pubblici le magistrature le consigliature tutto ciò che riguarda la gestione deve andare a dei locali e questo costituisce diciamo un ostacolo invece al principio della venalità dell'ufficio l'ufficio venale è l'ufficio che si vende si vende al miglior offerente e il miglior offerente può anche non essere un locale questo aspetto da capo lo ritroviamo declinato anche a livello locale nelle riforme margheritiane dello stato farnesiano e in generale in molti interventi nelle comunità abruzzesi perché anche lì si pone un diciamo un potenziale momento di rottura del patto tra il principe e il vassallo laddove il principe non riconosce al vassallo cioè rappresentante del territorio dei corpi rappresentativi del territorio il diritto di esprimere un proprio rappresentante locale ma invece di prevedere la possibilità della vendita il secondo aspetto quindi oltre al superamento delle figure dei banchieri come gestori delle finanze che viene introdotto da Margherita d'Austria è appunto quello del superamento entro certi limiti della venalità degli uffici e terzo e non ultimo elemento che ripeto rileggo adesso rispetto a quella lettura di vent'anni fa meno in termini di soluzioni tecniche molto più in termini della ricerca di consenso e di mediazione è la gestione del debito pubblico parlavamo poc'anzi con i colleghi di un elemento emerso in uno dei recenti incontri svoltosi appenne sulla gestione margheritiana delle varie finanze comunali la capacità cioè di Margherita di garantire il finanziamento delle istituzioni assistenziali in un lungo periodo grazie alle scelte dettate sull'investimento delle rendite assegnate appunto alle opere assistenziali questo episodio si lega a un altro che è ben noto il fatto cioè che finché Margherita è all'Aquila e ancora per pochi anni dopo la sua morte molto pochi la sua gestione riesce a salvare la città dell'Aquila dalle ricorrenti crisi finanziarie che l'avevano accompagnata fin dal 1529-30 cioè dall'imposizione del taglione dalla deportazione del contado dalla crescita dei carichi fiscali che cos'è che unisce questi due episodi in realtà morta Margherita nel 1586 appena tre anni dopo nel 1589 già diciamo i buoni effetti del governo saggio e misurato di Margherita si sono persi e da capo la città si ritrova in mezzo a guai finanziari che cos'è ripeto che unisce questi due aspetti è il tema della gestione del debito pubblico Margherita nei Paesi Bassi aveva conosciuto da vicino dei meccanismi molto sofisticati di capitalizzazione delle imposte e di trasformazione di esse in debito pubblico è noto il meccanismo se un'imposta rende mille educati l'anno viene venduta ad esempio a 20.000 educati per un periodo di 15 anni o di 20 anni con beneficio delle casse pubbliche che garantiscono un gettito sicuro anticipato e garantiscono anche a chi sottoscrive quel titolo del debito pubblico sotto forma di imposta capitalizzata un gettito garantito nel corso del tempo è la base del debito fluttuante su cui poi di volta in volta interverranno i vari procedimenti di consolidamento del debito pubblico perché cito quest'ultimo aspetto e mi avvio alle conclusioni perché anche in questo caso il debito pubblico è prima ancora che uno strumento di finanziamento è uno strumento di consenso il debito pubblico è nel regno di Napoli un meccanismo che contrariamente ad altre realtà europee non si rivolge soltanto ai grandi investitori ma anche ai piccoli investitori il sistema di collocazione del debito pubblico prevedeva infatti contrariamente altre aree d'Europa che potessero essere sottoscritti dei titoli anche per poche decine di ducati diremmo secondo una terminologia non dell'epoca che è uno strumento democratico di inclusione dei piccoli risparmiatori nel meccanismo del grande debito pubblico della monarchia spagnola riunendo allora questi tre aspetti che noi ritroviamo e nel testo degli ordini di Margherita per quello che concerne gli aspetti finanziari e nelle sue diciamo nei suoi interventi sulle realtà comunali del suo governatorato d'Abruzzo ci rendiamo conto che ognuno di essi la sostituzione con figure di più diretto controllo da parte del principe degli appaltatori privati il superamento almeno parziale la penalità degli uffici per venire incontro a rispetto dei privilegi del luogo la possibilità di utilizzare il debito pubblico come mezzo di coinvolgimento di una più ampia platea soprattutto dei ceti urbani questi tre elementi che noi troviamo nell'esperienza di Margherita governatrice delle Fiandre nell'esperienza di Margherita governatrice dello Stato farnesiano e governatrice dell'Abruzzo sono tre elementi che costituiscono degli altrettanti tasselli di questo sistema di intermediazione degli interessi che complementariamente al rapporto diretto tra territorio e sovrano realizza anche a livello locale delle forme di negoziazione di intermediazione e in qualche modo di ricerca del consenso questo elemento di ricerca del consenso che fu anche il motivo come ricordato quest'oggi di massima diciamo attrito tra Margherita d'Austria e il Duca d'Alba e il Cardinale Granvelle proprio perché mentre Margherita ricercava delle forme di accordo con l'elite aristocratiche e mercantili delle Fiandre l'intervento brutale e violento del Duca d'Alba ruppe qualsiasi possibilità di composizione di un consenso ecco questo viene riportato anche a livello locale un ultimo accenno si è già parlato quest'oggi nella bellissima reazione del professor Bertini della figura di Tommaso Machiavelli Isabella Iannuzzi ci parlerà di Fernando De Torres ma si è accennato anche ad Ardinghelli Andrea Ardinghelli è la figura che rappresenta questo nucleo di interessi che rischiano di rompere e di minare gli Ardinghelli sono figure veniva già ricordato controverse pur essendo stati al servizio di casa farnese sempre non sono considerati non solo degli istinti di santi ma sono considerati delle figure spesso di rottura piuttosto che di composizione e infatti durante il soggiorno di Margherita d'Austria Ardinghelli è un personaggio scomodo che viene gradualmente diciamo limitato nel suo potere finanziario e sociale tutto questo per dire che cosa che l'esperienza maturata a livello diciamo del cuore più caldo pulsante della politica europea del settimo decennio del del sedicesimo secolo da Margherita viene poi declinata a livello locale ma tanto nel grande come nel piccolo noi ritroviamo delle assolute simmetrie e se le ritroviamo è appunto perché io credo che la rilettura storografica della monarchia spagnola come monarchia policentrica ci permette di avere come una sorta di cannucchiale che allontanando e avvicinando la realtà storica ne cambia le dimensioni ma non ne muta le proporzioni in questo senso la straordinaria figura di Margherita d'Austria si diciamo trasforma un po' nel simbolo di questa capacità della monarchia spagnola di passare dai grandi scenari della geopolitica europea fino ai più piccoli scenari del nostro Abruzzo senza perdere mai in grandezza grazie grazie direi roba concreta insomma grazie grazie al professor Sabatini che ha aperto diciamo un varco in un mondo che ci ha interessato sempre moltissimo parlando di Margherita d'Austria e soprattutto di questo di questa pagina della finanza e soprattutto dei meccanismi finanziari di cui lui appunto aveva già parlato in quel famoso convegno e dunque in quel famoso libro ma che resta un un campo diciamo che invece si dipana poi in tutti gli altri aspetti c'è la capacità di Margherita e che io devo ancora studiare sul piano dell'economia pura diciamo come ne parla il professor Sabatini la sua capacità di investire e di addirittura riuscire a creare delle transazioni economiche che creano un interesse da investire in impegni come quello per esempio dell'assistenza per due secoli è un fenomeno che non troviamo sempre è un fenomeno molto nuovo anche a metà cinquecento e che quindi diciamo sicuramente è il segno di intuizioni e io direi forse ma correggimi se sbaglio di sperimentazioni che 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 non sono già consolidate no e che dunque mi sembra invece che siano proprio un segno che forse erano riflessioni che già c'erano in luce nelle politiche di Carlo V ma che era diciamo un fenomeno che si stava doveva diventare maturo sicuramente non è maturo ancora anche in Margherita ma il sistema di riforme che lei introduce con gli ordini dello Stato Farnesiano in Abruzzo nel 1571 e che quindi instaura un sistema di riforme consolidato perché è un sistema che cambia la pubblica amministrazione sicuramente è diciamo parallelo a questo tema della diciamo di un'impostazione delle finanze che trovo di straordinaria modernità quindi grazie grazie e però penso che tutti noi abbiamo molte curiosità ma siccome siamo in un clima diciamo familiare ci possiamo fare anche delle buone domande e dibattito dopo alla fine delle nostre relazioni grazie ancora al professor Sabatini allora do la parola salutiamo innanzitutto il professor Carlos Hernando Sanchez da Madrid che non è potuto essere con noi ma che si è collegato con molta solerzia e quindi noi siamo molto attenti Carlos ci sei ci senti mi sento mi sentite voi ci sentiamo sì sto cercando eccoci qui allora il professor Carlos Hernando Sanchez che è stato all'Aquila più volte e che anzi ha visto l'Aquila anche subito dopo il terremoto gli ho fatto fare una passeggiata insomma forse anche faticosa un po' per il freddo e un po' perché ci siamo inerpicati e che insomma invitiamo però presto a venirci a trovare e poter mostrare a lui una città più bella e più accogliente dunque professor Carlos Hernando Sanchez è professore ordinario di storia moderna presso l'università di Valladolid dottore di ricerca in storia moderna presso l'università Complutenze di Madrid e autore di oltre cento articoli e saggi pubblicati in vari paesi il suo percorso scientifico si concentra sulla cultura politica militare e di corte sulla nobiltà sul mecenatismo e sull'articolazione territoriale del potere nella monarchia spagnola dai re cattolici alla fine della casa d'Austria con particolare attenzione ai suoi territori italiani e nello specifico al sistema vicereale nel regno di Napoli e in particolare attenzione sui territori italiani e nello specifico al sistema vicereale nel regno di Napoli e ai regni dei re cattolici e di Carlo V vinto tra i suoi lavori Castiglia e Napoli nel siglo XVI il Elvirei e Pedro de Toledo studi su veramente un grande studioso del regno di Napoli e del governo di Pedro de Toledo il reino di Napoli e l'imperio di Carlo V e ha curato la sfortificazione di Carlo V Madrid 2001 è uno studioso che ha dedicato molte saggi anche alla figura di Margherita d'Austria all'interno proprio del governo del viceregno di Napoli soprattutto anche in studi diciamo che hanno inserito il suo personaggio nelle reti di relazioni delle nobiltà e quindi noi siamo molto contenti di dare a lui la parola e di ascoltarlo nella sua relazione grazie Carlos grazie mille Silvia spero che si senta bene mi dispiace non essere con voi con tantissimi amici voglio salutare con un grande abbraccio specialmente Gaetano Giuseppe Bertini non so se c'è Massimo se c'è Nicoletta e comunque tutti ovviamente a te Silvia ricordo che venti anni fa o quasi ho avuto l'onore di presentare al Senato della Repubblica a Roma il volume da te curato su Margherita d'Austria insieme a Gaetano perciò è un piacere tanto tempo dopo riflettere di nuovo insieme a voi su questa figura affascinante molto di più proprio in quest'anno e in questa stagione quando forse la Providenza ha voluto che coincidano convegni mostre e riflessioni su tre donne nate fuori di Napoli ma che sono andate vissute e si sono sviluppate nella città della Sirena lungo il Cinquecento cioè Maria Lorenza Longo fondatrice insieme ad altri dell'ospedale degli incurabili di ordini religiose vedova dei nobili togato Joan Jonc arrivata con Ferdinando il Cattolico a Napoli nel 1506 e Leonora di Toledo nata probabilmente in Spagna ovviamente nel 1522 l'anno proprio di Margherita oggetto di un convegno pochi giorni fa a Firenze al quale ho partecipato di una mostra da inaugurarsi prossimamente negli uffizi e Margherita Margherita ha conosciuto sia ovviamente con ogni probabilità sia Maria Lorenza Longo che è morta verso il 1540 e non è entrata in chiusura fino al novembre 1535 in coincidenza con l'arrivo di Carlo V a Napoli e ovviamente Eleonora di Toledo e anche ha conosciuto a Napoli la giovanissima come lei Eleonora con la quale sembra non ha avuto un bel rapporto durante tutta la sua vita per quello che sappiamo io vorrei insistere che l'esempio di queste tre donne al di là di ridicole mode storiografiche imposte dal mondialismo sono un esempio del valore di libertà e di sviluppo individuale della nostra civiltà cristiana occidentale di fronte alla schiavitù della donna nella controciviltà di quelli che non mangiano prosciutto ne bevono vino cioè dai nostri eterni nemici margherita non è un'eccezione nella sua capacità di gestire al mio avviso i negozi troviamo questa capacità come è studiato tra altri Bruce Edelstein nella vita nel percorso politico e personale di Eleonora di Toledo ma anche di una figura quasi mistica come Maria Lorenza Longo nelle viceregine successive di Napoli nelle persone dei personaggi femminili più importanti del secolo in Italia ma anche in Spagna e basta pensare a Costanza Davalos principessa di Francavilla cioè rincarnazione di Pala di Atenea però praticamente io vorrei riflettere non su questo che mi sembra una realtà propria insisto della nostra civiltà difesa dalla monarchia di Spagna nel Cinquecento di fronte al buio di quelli che cercavano la sottomissione questo significa Islam ma vorrei riflettere sulla natura dei rapporti politici tra un personaggio che è al di là della diversità territoriale della monarchia perché fa parte dell'asse dinastico al di là della sua condizione sessuale cioè uomo o donna tutti servono al destino dinastico in ogni parte della cristianità e come la corte vicereale di Napoli nelle figure successivi dei vicere e delle viceregine ha contribuito decisamente eccessivamente allo sviluppo di una rete fazionale clientelare in rapporto anche con la crescente lotta di fazione nella corte della monarchia e perciò come sempre abbiamo testimonianze letterarie e artistiche in un saggio di qualche anno fa al Modena per la lettura e là ha studiato i rapporti artistici di Margherita con Napoli ma centrandosi negli anni finali quando Margherita è all'Aquila e negli Aboruzzi i suoi rapporti con i viceregni degli anni 60 70 80 di grandissimo interesse perché ci dimostrano la continuità di un sistema e di una gerarchia nella scelta degli oggetti dei regali ma anche dei rapporti clientelari attraverso figure come il suo maggiordomo maggiore Giovanni Ferrante Tugniga che gestisce i rapporti di Margherita dall'Aquila con la corte vicereale di Napoli in questi anni finali ma andiamo un po' più indietro nel 1560 viene pubblicato a Venezia da Gabriele Giolitto il poema Amadigi di Bernardo Tasso il padre di Torquato lì ci sono dei riferimenti al Farnese anni fa Roberto Venturelli ha difeso la tesi che è stato Bernardo Tasso il costruttore l'ideatore iconografico del programma della Sala del Baccio nel palazzo ducale di Parma dipinto da Girolamo Milola in un brano dell'Amadigi Bernardo Tasso ci parla della figura di Margherita una Margherita cui le sponde fiorirà andarno trasportata poi come pianta si suolta l'or d'altronde dove Roma vagheggia i coli suoi i giacinti ornerà di nuove fronde e madre figlia di valorosi eroi e col marito al fine illustre e chiaro farà superbandare la Parma e il Taro al di là della ovvia idealizzazione e manipolazione della realtà dei rapporti di Margherita con il marito Ottavio che tutti conosciamo il fatto interessante è la presenza di Bernardo Tasso come interprete della costruzione di un'immagine di Margherita e dei Farnesi chi è Bernardo Tasso? è Bergamasco lo sappiamo ma si era stabilito a Napoli molto presto negli anni venti era stato il poeta di corte del quarto principe di Salerno Ferrante San Severino capo dell'opposizione aristocratica al di Cerre Pedro di Toledo Sperante San Severino che nel 1551 aveva abbandonato la parte imperiale per passare dalla parte francese diventando addirittura calvinista un po' dopo e cercando protagonizzando nel 1552 un progetto di invasione di Napoli con la flotta turca niente di meno Bernardo Tasso aveva dovuto abbandonare come sappiamo Napoli nella gravissima campagna di repressione portata avanti dal vicere Pedro di Toledo non solo contro il Salerno ma contro tutti i rappresentanti dell'opposizione angioina o no al suo governo di autorità e negli anni 50 era finito nel 56 era finito come poeta alla corte di Urbino dove era duchessa Vittoria Farnese sorella di Ottavio probabilmente tramite la duchessa di Urbino come è stato studiato da Vettorelli e da altri il Tasso è arrivato a un rapporto stretto con Parma fino a convertire il suo grande progetto letterario la Madigi una versione poetica del romanzo Ameris di Gaula pubblicato in Spagna nel 1508 in un'opera di riconciliazione personale e familiare con la monarchia di Spagna perché la Madigi uscirà a Venezia dedicato a Filippo II e in questa cornice si inseriscono questi versi in lode dei Farnese e di Margherita ma comunque la riconciliazione con la monarchia di Spagna di Bernardo Tasso non è una riconciliazione con tutte le fazioni alla corte spagnola del nuovo sovrano Filippo II anzi è una riconciliazione possibile attraverso l'inserimento di Bernardo Tasso in una fazione concreta quella appunto che è collegata con i Farnese quella che come vedremo capirissimamente è rappresentata dalla corte per la figura di Rui Gome de Silva dal 1556 proprio principe deboli è sposato con Maria di Mendoza della Ferre come si arriva a questo schieramento ebolista dei Farnese e di Margherita quali sono gli inizi dei rapporti di Margherita con la corte vicereale di Napoli come è il percorso fazionale di questo combattimento di interessi ma anche di esguardi di visioni di quale deve essere il futuro e la struttura estesa della monarchia un problema che scoppierà proprio nella Fiandra sotto il governo di Margherita come è stato accennato Margherita come sappiamo arriva all'inizio del 1533 a Napoli e arriva dalla Fiandra quando c'è già il progetto per sposarla con Alessandro di Medici diventato primo duca di Firenze nel 32 dopo la ultima e definitiva restaurazione dei Medici a Firenze per un esercito spagnolo comandato dal vicere di Napoli Philippe Richelon principe d'Orange nel 1530 morto nella campagna di Firenze e Margherita arriva a Napoli accompagnata da una figura importantissima ma che a volte è stata a causa di una certa confusione per la sua identificazione Françoise de Montbel vedova del vicere di Napoli Charles de la Noire e principessa di Sulmona titolo acquisito dopo la morte di Charles de la Noire nel 1527 da suoi eredi titolo napoletano i riferimenti dei documenti alla viceregina di Napoli hanno come centro questa bedova di Charles de la Noire Françoise de Montbel Fiamminga come Margherita è rappresentante di quella fazione molto molto influente ancora a Bruxelles che come la Noire e prima i Croix dei signori di Sheff difendevano il cosiddetto partito filo francese gli interessi dell'alta nobiltà Fiamminga di lingua francese con feudi non solo nella Franco-Contea ma anche all'interno del Regno di Francia che volevano ad ogni prezzo un accordo con la Francia e una politica di pace con la Francia di fronte agli interessi di Ambersa delle città del Nord più dinamiche e della regente Margherita d'Austria morta nel 30 che difendevano una politica aggressiva belicista contro la Francia d'accordo con gli interessi dinastici dell'antica casata di Borgogna Margherita arriva a Napoli all'ombra di questa principessa di Sulmona che è al centro della estensissima rete di rapporti clientelari che i Lannoy hanno tessuti non solo nella Fiandra e nella Franco-Contea come Borgogna studiò molto bene nella sua opera classica su Filippo II e la Franco-Contea ma anche nel regno di Napoli un anno dopo dell'arrivo di Margherita è importante dire che Margherita probabilmente si è stabilì a Napoli nel palazzo chiamato dei Caraffa di Santa Severina a Pizzo Falcone costruito da Andrea Caraffa Conte di Santa Severina che era stato vicerre interino lungo le molte assenze del governo del vicerre Lannoy negli anni venti era stato Andrea Caraffa il vero governatore politico del regno del regno di Napoli perché il Lannoy sappiamo era la maggior parte o nel nord Italia nella guerra o in Spagna nella corte imperiale combattendo combattendo la fazione contraria del cancelliere Gattinare è importante perché il Caraffa e tutta la cassata del Caraffa Conti di Santa Severino fa parte essenziale di questa rete di rapporti clientelari fazionali intorno al lignaggio Lannoy che continuava molto vivo lì fino al punto che il figlio Filippo dell'Annoy si sposerà a Napoli come vedremo subito un anno dopo l'arrivo di Margherita con la Montbel con la vedova dell'anno A con la principessa di Sulmona arriva a Napoli Maria Osorio Pimentel insieme alle due figlie Isabel e Leonor Leonora di Toledo e la moglie del vice re di Napoli Pedro di Toledo che era arrivato a Napoli da solo solo accompagnato dal poeta Gartilasso della Vera nel 1532 nel 34 arriva la moglie con le due figlie piccole e arriva con una cerimonia speciale per la prima volta a una vice regina di Napoli si rendono tributi omaggi cerimoniali come a un sovrano si fa un ponte baldachino nel molo di Napoli riprendendo una cerimonia di ricevimento utilizzata per l'arrivo di Ferdinando il Cattolico nel 1506 a partire di questo momento ci sarà ci sarà una competenza tra la vice regina Maria Osorio Pimentel che è anche una donna di negozio che è anche una donna con grandissimo potere che avrà un ruolo di reggente del regno di Napoli durante le assenze nelle campagne militari nella difesa delle frontiere marittime del marito del Toledo tra Maria Osorio Pimentel e la principessa di Sulmona perché rappresentavano certamente interessi clientelari diversi e anche modelli di governo diversi come riflette per esempio una ampissima letteratura politica napoletana in tutto il Cinquecento per esempio il Marchese di San Lucido Ferrante Caraffa che avrà un grande rapporto come sappiamo con Margherita negli anni finali negli Abruzzi e che parlerà del secolo dell'età d'oro dell'anno di fronte all'età di ferro del Toledo come due modelli diversi uno di consenso con la novità locale un altro di confronto radicale ma torniamo ai versi della Madigi di Torquatto Tasso dice che Margherita sarà trasportata che è una visione ovviamente nell'ambiente onirico della Madigi sarà trasportata poi come pianta si suolta l'or d'altronde questo ricorda un sonetto del Tansillo di Luigi Tansillo poeta di corte di Pedro del Toledo dove parla di come il vicere Toledo ha portato in Italia con sei figli perché crescano come piante in un nuovo terreno dice è interessante che due poeti di due corti contrarie nemiche quella del vicere Toledo quella del principe di Salerno cioè il Tansillo con il Toledo e Bernardo Tasso con il Salerno utilizzano lo stesso linguaggio di crescita vegetale non è solo una metafora che al Tansillo che il Tasso appartenevano a una cornice non diciamo culturale che è un concetto borghese al mio avviso molto anacronistico la parola cultura è responsabile di molte di molte errori secondo me perché tutto quello che chiamiamo cultura all'epoca era politica e quello che chiamiamo politica era quello che chiamiamo cultura ma proviamo nell'ambiente accademico di Napoli di quella Napoli dove è cresciuta la giovanissima Margherita d'Austria nei primi anni 30 che per esempio nel 35 Garfilasso della Vega il poeta che aveva accompagnato il vicere Toledo dalla Germania dalla corte imperiale a Napoli quando era stato nominato vicere di Napoli nel settembre 1532 in un famosissimo sonetto dedicato a un'altra donna mecenate nobildonna donna di negozi come Maria di Cardona Marchesa della Padulla allevata all'ombra di Maria Longo nipote del vicere di Napoli Ramon de Cardona parlerà della sua estetissima amicizia sia con il Tasso e con il Tansillo a Minturno a Tansillo al culto Tasso scrive in un verso famosissimo Garfilasso ebbene a Tansillo al culto Tasso dobbiamo di nuovo la conferma che la forma di costruire l'immagine di diffondere i messaggi è trasversale e ci sono al di là dei combattimenti perché a volte sono veri combattimenti pazionali la costruzione di un edifizio che è quello della monarchia la costruzione simbolica quando il simbolo è anche realtà realtà e i negoziati per il matrimonio di Margherita con Alessandro Farnese credo che mi restano forse dieci minuti io sono sbagliato Silvia sì ci sono bene io prendo dieci minuti e finisco i negoziati per il matrimonio di Margherita con il duca Alessandro di Medici di Firenze hanno come interlocutore essenziale il vicerro di Napoli Pedro di Toledo in una strategia di protagonismo politico napoletano nella Toscana che veniva da lungo al 400 ma soprattutto nell'epoca spagnola dal 1512 e dal 1530 la visita di Carlo V a Napoli nel 1535 36 dopo la presa di Tunisi in ambiente crociato di esaltazione imperiale verrà l'incontro dopo anni di Carlo con Margherita che si è respostata dalla villa Caraffa di Pizzo Falcone al Castel Capuano antica regia aragonese di Napoli poi poco dopo nel 40 diventata palazzo dei tribunali di Napoli per opera del Toledo e che proprio in questa stagione imperiale del 35 36 dai fasti per il ricevimento trionfale di Cesare africano viverà i suoi ultimi bagliori fasti come corte palazziale lì troviamo le cerimonie per le nozze di Alessandro Farnese che arriva a Napoli da Firenze nello stesso tempo che arriverà un'ambasciata dei fioriusciti repubblicani fiorentini che vogliono convincere l'imperatore per non continuare il suo appoggio ai medici troveremo una lotta anche letteraria anche teatrale anche cerimoniale tra la corte del duca Alessandro e l'ambasciata dei fioriusciti fiorentini a Napoli in questo momento ovviamente vincerà Alessandro nella visione dell'imperatore così troviamo per esempio descrizioni importantissime di un primo protagonismo cerimoniale di Margherita per esempio le giostre nella piazza di San Giovanni a Carbonara all'inizio del 1536 organizzate probabilmente per le nozze di Margherita e Alessandro e che sono descritte in una cronaca data alle stampe le sontuose feste giostre giochi di canne caccia editori e carriere di corsieri fatte in la inclita città di Napoli alla presentia della cesarea maestà Napoli 1536 c'è un'incisione non ho potuto portarla purtroppo che illustra il libretto e che raffigura Margherita su un carro trionfale seguita da un corteo di nobildonne napoletane secondo il resoconto la giovanissima figlia dell'imperatore fece per prima il suo ingresso sulla piazza di San Giovanni sopra un carro attillatissimo e trionfale per assistere al torneo con cui era rappresentata la presa dei Tunisi cioè la vittoria della croce cioè la vittoria della libertà delle donne che ancora oggi godiamo l'arrivo dei cavalieri tra i quali compariva l'imperatore vestito alla moresca fu preceduto dall'ingresso di tamburi pifferi e trombetti che svolsero una funzione di commento sonoro e di solennizzazione dell'entrata al torneo fece seguito nel ricordo di un altro testimone dei fatti Paolo Giovio niente di meno una festa da ballo a Castel Capuano nella quale l'imperatore immascherando si danzò con nobilissime donne dice il Giovio rimettendo alquanto dalla gravità sua fu in questa cornice di festeggiamenti quando si celebrarono pochi giorni dopo alcuni banchetti in altri posti soprattutto nella villa aragonese di Poggio Reale lì come testimonia il libretto le cose volgari di Agostino Landulfo troviamo un banchetto ricordato dal cronista del Regno di Napoli Gregorio Rosso nel quale nel giardino si rappresentò un'egloga o farza pastorale e dove si fece di nuovo un uso simbolico sia del teatro che della musica e dove grazie ai racconti conservati conosciamo che non intervenivano musici di professione ma l'intera aristocrazia napoletana nell'atto di cantare accompagnandosi sul liuto o sulla viola madrigali sonetti o canzone in onore dell'imperatore e di Margherita era una vera gara musicale dove il ruolo di Margherita era essaltato nel destino non solo di Firenze ma dell'Italia e della cristianità tutta troviamo altri racconti di banchetti uno probabilmente a Castel Capuano molto importante conservato in una lunga lettera dell'ambasciatore del Duca di Mantua il conte Niccolò Maffei e conservato all'archivio di Stato di Mantua Maffei è scriso il 28 febbraio del 36 questa sera si fanno in Castel Capuano le sposalitie della figliola di sua maestà e del signor Duca Alessandro dove sono convitate 300 signore da titolo nobile e queste nozze si fecero coincidere con il carnevale quello esaltò il carattere ludico dei festeggiamenti con informa Maffei in un'altra lettera inedita del 2 marzo martedì che fu il giorno del carnavale tutte queste signore napoletane che fu un numero grande si ritrovarono in Castel Capuano dove si fecero le sponsalizie della figliola di sua maestà il signore Duca Alessandro con gran solennità e allegrezza e della prescritta maestà del prescritto Duca e di tutti quelli che vi erano conferiti ed alcune immagini di zucchero che comparsero molto bene e dicono che questa colazione è costata mille scuti non abbiamo tempo purtroppo di soffermarci sul simbolismo di queste immagini di zucchero che è un simbolismo imperiale che di nuovo ci permette ricostruire la visione del destino di Margherita nella strategia imperiale per un'Italia che stava diventando un'Italia non solo imperiale ma espagnola dopo la pace delle dami o dei cambrè del 29 l'incoronazione di Carlo a Bologna per il Papa e insomma il consolidamento della egemonia della monarchia di Espagna nella cornice giurisdizionale dell'impero nell'insieme della peninsola italica è importante che quando Margherita dopo questi festeggiamenti va a Firenze va a Firenze accompagnata questa volta non dalla Monvelle non dalla vedova dell'anno non dalla principessa di Sulmona ma proprio da Maria Osorio Pimentel la nuova viceregina di Napoli che la accompagna con un corteo di novildonne spagnole napoletane scelte dalla viceregina di Napoli in una ricerca del controllo dei dintorni dell'ambiente cortigiano della nuova duchessa di Firenze poi ci sarà quello che sappiamo l'intervento di Lorenzazio l'assassinio di Alessandro Margherita tornerà questa volta al castello di Gaeta nei confini del regno di Napoli sotto l'attenzione diretta del vicere Toledo il vicere Toledo sarà informato della stessa Margherita subito dopo la morte di Alessandro il vicere Toledo scrive a Margherita per sapere tutti i dettagli da lei c'è un rapporto estretto tra il vicere e sua moglie con Margherita ma poi incominciano i negoziati per le nuove nozze di Margherita e le cose cambiano finisco le cose cambiano perché i Farnese rappresentano interessi assolutamente diversi ai medici tra il 1537 e il 1539 le due nozze quella di Margherita con Ottavio Farnese e quella di Eleonora di Toledo figlia del vicere di Napoli con Cosimo di Medici secondo Duca di Firenze segnano uno spartiacque una divisione di due schieramenti fazionali che verranno ogni volta in più i Farnese e perciò anche Margherita schierarsi dalla parte di quelli che rappresentavano gli interessi degli antichi clienti di Lannua e che si riuniscono negli anni 40-50 intorno a Rigome e Mendoza nella corte di Espagna di fronte ai Toledo ovviamente schierati con i medici il confronto il conflitto cerimoniale di precedenze di immagine tra Medici e Farnese sarà continuo ma anche dal punto di vista religioso della devozione della visione della monarchia la religiosità dominicana dei Toledo di fronte alla religiosità nuova gesuitica dei Farnese eccetera finisco nel 1567 guardate che anno l'anno della rivolta Fiamminga l'anno nel quale Margherita sarà rilevata nel governo della Fiandra si pubblica a Bologna una questione dove si tratta chi più merita e onore o la donna o l'uomo di Girolamo Camerata di Randazzo siciliano dottor dell'Arti questo opuscolo dedicato alla principessa d'Evoli Anna Mendoza della Ferda nella cornice di un insieme di opuscoli dedicati al marito il principe d'Evoli Rui Gome della Silva si esalta la figura di Margherita come esempio di donna di governo ma come esempio di donna di governo proprio nella cornice che vedeva la rivincita della fazione dei Toledo con l'arrivo del tazzo ducadalva come successore in Fiandra di Margherita Margherita si presenta lì secondo il Camerata come gran governatrice di Fiandra duchessa di Parma e Piacenza altezza della quale si inchina si inchinano tutti gli uomini ella è veramente madama sendo in merito signora dell'altre ed è una preziosa Margherita che come Gemma è dignissima risplende e fa ricco il suo sesso e vaga la sua estirpe e oltre di ciò è della felicissima casa d'Austria in nome ed infatti onde non meno si gloria la casa che sua altezza si nata in lei che si faccia ella di essere nata di così degno tronco e chi non vede in lei una somma bontà e prudenza che vede una fabilità e grandezza di animo come non vederla una liberalità miracolosa e una giustizia infinita ed una perfezione in ogni virtù morale onde sua altezza è riguardevole e appresso tutti chi non conosce il suo maturo giudizio nel governare lo stato di Fiandra poiché in così universale tumulto nato da malittia che che è politica e ella ha di maniera operato e con la forza e con la prudenza che siccome per molti anni innanzi lo aveva pacificamente governato ora l'ha ridotto ad una miracolosa tranquillità il che ha fatto con poco spazio di tempo e con poche forze e col soffermare e conservare i suoi propri soldati o veramente degna di tutte le lodi dice il camerata di tutti gli onori poiché in lei si vengono tutte quelle maggiori virtù di che si gloriano gli uomini Margherita come donna di governo sulle tracce di Isabella la cattolica modello universale di principessa politica ovviamente ma non dimentichiamo Margherita arriverà a Napoli in Abruzzo nel regno di Napoli voglio dire nel 72 un anno dopo la nomina come vice re di Napoli di Antoine Perrenot del Granvela del suo grande ministro in Fiandra e che sarà ricevuta in Abruzzo dal principe di Sulmona che era da un Lannois figlio della principessa di Sulmona imparentato per matrimonio con la famiglia dei Perrenot in questo modo questo cerchio clientelare si chiude in certo senso con l'arrivo in Abruzzo di Madama Margherita donna di potere come è logico nella nostra civiltà grazie mille grazie Carlos veramente per questa ricchissima relazione che ci apre anche a uno scenario diverso quindi anche questo è un contributo diciamo originale all'interno non vi sento io non ho acceso non ci sente ci può aiutare qualcuno? perché io il microfono ce l'ho acceso sì Carlos ci senti? adesso sì adesso sì allora innanzitutto ti ringraziamo molto c'è stato c'è stato un caloroso applauso dicevo che ti ringrazio per questa ti ringraziamo per questa ricchissima relazione che apre diciamo uno scenario anche diverso quindi a nuovi spunti rispetto anche a quelli che abbiamo affrontato nella giornata di oggi e cioè quello delle celebrazioni in qualche modo tracorti nelle relazioni che vedono nel legame tra Margherita e Leonora di Toledo l'intreccio che c'è tra diciamo un po' l'incontrario tra Medici e Farnese e anche soprattutto questa ricostruzione dell'immagine di un'immagine letteraria e mi ha colpito questo di Camelata che tu ci hai raccontato perché ci fa capire come anche la parte apologetica continua però a reiterare un mito che è quello comunque della figura regale imperiale e il suo arrivo in Abruzzo diciamo che coincide anche nel 72 con la presa diciamo del potere del vicere Granvela tutto sommato è come se riproponesse un nuovo scenario di equilibrio io ti ringrazio e adesso poi ci sarà spazio per il nostro dibattito e dunque per le osservazioni questo è lo spazio c'è una pausa non ho guardato non ho osservato bene sì questi occhiali non ci vedo sì grazie ancora e allora invece c'è la relazione di Silvia D'Agata hai bisogno delle slide bene allora presento Silvia D'Agata che è studiosa e sinistra di ricerca presso l'Università di Catania con un progetto inerente lo studio della compagnia di Gesù in Sicilia e in Oriente nella storiografia del XVII secolo dal 2018 è cultrice della materia nel settore scientifico storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania ha conseguito il dottorato di ricerca in storia moderna presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino conducendo una ricerca inerente la corte di Giovanna d'Austria e Francesco Branciforte tra 5 e 600 nel 2021 ha vinto il premio di Fazio per la migliore tesi di dottorato la sua relazione che diciamo è veramente insomma originale e porta un altro elemento di nuovo a questa profili che stiamo affrontando nella giornata di oggi sul pubblico e privato di Margherita d'Austria si intitola Educare all'appartenenza Margherita d'Austria e la formazione dei figli di quei naturali disordini prego Silvia voce ok innanzitutto grazie all'organizzatrice alla professoressa Mantini a Stefano per questo invito graditissimo nato a Bologna mesi fa e accolto immediatamente la mia vuole essere una relazione che sposta un po' l'asse sul ruolo meno praticato rispetto all'autorità politica o finanziaria di Margherita di Parma ovvero il suo ruolo di tutrice di educatrice è che se vogliamo allarga la visuale su un concetto di illegittimità che diviene via via sempre più va bene su un concetto di illegittimità che diviene via via sempre più problematico sempre più stratificato un ulteriore dato problematizzante in questa direzione ci viene appunto dalla natura di Margherita regina delle legittime è come la sua illegittimità di primo grado la sua illegittimità reale incroci un altro livello di illegittimità quello degli illegittimi di secondo grado ovvero i doblemente bastardos i figli di illegittimi infatti era l'11 settembre del 1573 quando nasceva a Napoli Giovanna d'Austria la figlia illegittima di Don Juan d'Austria fratellastro appunto di Margherita Giovanna d'Austria è un personaggio ad oggi ancora è stato poco indagato dalla serografia oggetto della mia monografia un progetto editoriale sostenuto dal professore Mascilli che non è qui ma che ringrazio è qui è qui professore si è palesato che ringrazio pubblicamente esatto che ringrazio pubblicamente insomma solo un anno prima quindi nel 1572 Don Juan affidava alla sorella i figli dei suoi naturali disordini fu così che affidò anche le sorti della piccola avuta da una sorrentina Diana Falangola una famiglia che vide nel corso del Cinquecento una scesa importante grazie all'allaccio alla rete con l'importante famiglia di San Severino la affidò alla sorella Astre lo fece nella piena consapevolezza di dell'affezione che lo univa a Margherita per cui le missive ci restituiscono anche un ruolo intimo una grammatica intima delle emozioni attraverso cui affidò questa figlia sottolineando come me faltan todas la partes de padre per cui questo si inseriva in realtà in uno scenario di grande complessità che vide la nascita della Falangola la nascita di Giovanna inserirsi in uno scontro giurisdizionale interno al regno di Napoli per cui si scelse divenne un affer politico uno scandalo vero e proprio per cui il Granvel decise di porre Diana Falangola al monastero di Santa Patrizia monastero di patronato reale luogo di dimora delle donne della prima aristocrazia del regno di Napoli motivo per cui arrivò netta l'opposizione del cardinal Carafa che tutelava aspramente la piena affermazione dei dettami tridentini all'interno dei monasteri napoletani e che difendeva assolutamente il potere religioso su qualsiasi forma di ingerenza esterna sulla vita monastica e sulla sua gestione per cui questa fu una nascita che diciamo si scrisse all'interno di un braccio di ferro giurisdizionale molto forte in seno al regno di Napoli a corollare di questa vicenda poi ci furono le composizioni pseudostoriche numerosi furono i trattatisti che raccontarono questa nascita che la descrissero che descrissero la vita di Don Juan all'indomani di Lepanto all'indomani della battaglia che sacralizzò la monarchia divenuta l'elemento comunicativo di una monarchia nel pieno del suo trionfo se poco però ci dicono queste relazioni pseudostoriche a compensare c'è una nutrita corrispondenza tra Don Giovanni e Margherita d'Austria appunto già che prima ancora prima della nascita della bambina Don Giovanni provvide ad illustrare alla sorellastra le nobili origini della madre il motivo era chiaro voleva giustificare e addurre la nobiltà della donna a minor disdoro di una situazione che in realtà stava sollecitando la corte di Napoli le comunicazioni arrivavano al re che poco gradiva all'indomani della stagione delle guerre nel Mediterraneo e questo è un aspetto importante da sottolineare quella situazione lì è l'affaire che si stava creando insomma fu così che madama d'Austria divenne tutrice della bambina a cui fu dato il nome di Giovanna un aspetto non casuale già che bisognerebbe ragionare sull'attribuzione dei nomi Giovanna Geronimo erano questi i nomi più accreditati tra gli illegittimi prendere in carico questa figlia cosa voleva dire riproporre lo schema pedagogico di prese in carico di figli e nipoti da crescere nella piena consapevolezza dei ruoli che avrebbero ricoperto quindi provvedendo provvedendo per loro ad un'educazione che li avrebbe dovuti avvantaggiare nelle cariche che avrebbero ricoperto ma insieme a Giovanna vissero anche Odoardo e futuro cardinale Margherita i figli di Alessandro Farnese quindi si venne a creare uno spazio in cui naturali e legittimi condividevano le medesime disposizioni pedagogiche sottolegite in questo caso di Madame de Austria di più prendere in carico i figli dei naturali disordini così come li definì Don Juan alla sorella rappresentava una pratica collaudata all'interno delle donne Asburgo e che in realtà molto ci dice della trama della formazione del tessuto dinastico delle mujeres che formavano quello intorno femenino intorno alla casa d'Austria infatti questi figli venivano educati da queste zie precettrici secondo una prassi pedagogica che però riproponeva una ripetizione ciclica del passato già che la stessa Margherita era stata educata dalla prozia omonima appunto reggente dei Paesi Bassi e della regina di Ungheria una consuetudine però che ci dice che esprime la funzione degli illegittimi quali strumenti di potere all'interno del governo della monarchia da educare con raffinatezza sotto il patrocinio degli esponenti femminili di casa che in tal senso potremmo dire sacralizzavano l'appartenenza includevano in un tessuto dinastico ben preciso benedicendo l'appartenenza sotto il loro il loro patrocinio sotto la loro protezione a tutti gli effetti Don Giovanni conobbe la figlia solo nel 1575 durante insomma il pellegrinaggio a Loreto fu lì che si verificò il tentativo di Margherita di richiamare l'attenzione del padre su quella bambina ne corrispose un netto rifiuto in cui ancora una volta Don Juan si ribadiva totalmente strano alla condizione di genitore le cose mutarono quando complice l'inasprirsi della questione nei Paesi Bassi e la morte di Anna De Toledo insomma questa situazione tratta da una vita di Don Juan di Ferrante Caracciolo accrebbero in un certo senso i sentimenti di affetto verso la figlia verso Giovanna ma anche verso l'altra sorella Astra un personaggio di cui mi sto occupando Mariana de Austria la prima figlia illegittima di Don Juan che visse una sorte completamente diversa da quella di Giovanna fu educata in Castiglia partecipò all'intorno femenino interno ai centri di potere che erano i monasteri di patronato reale spagnoli la Descalsas fu abbadessa presso Burgos un personaggio interessante a livello anche di una comparazione che ad oggi manca e in questo senso aiuta a problematizzare a definire a concettualizzare un'illegittimità efficace per spiegare trame e sviluppo di tessuto dinastico interno alla casa d'Asburgo lui raccomandava Giovanna raccomandava Marianna attraverso l'escobedo alla regina di Spagna chiedendo a Margherita di Parma un ritratto della bambina perché a detta si legge nelle lettere il tempo aveva impresso in lui una nuova consapevolezza circa la mutata condizione di paternità ciò nonostante nel 78 la morte di Don Juan e il rientro di Margherita nelle Fiandre indussero l'allontanamento di Giovanna da quella che sino ad allora era stata la sua casa l'Aquila accanto a Margherita fu in questa fase però che credo che meglio si esprima l'autorità da precettrice di Margherita di Parma giacché intrattenne una fitta comunicazione con Madrid affinché a Giovanna fosse concesso l'avvicinamento a corte avvicinamento a corte si spiegava alla luce dell'esistenza di una sorella che si conosceva di un ambiente avvicinarla portarla in Castiglia significava definirne l'appartenenza in quello intorno però per volere di Filippo II nel 1580 arrivò la decisione finale quella di collocare Giovanna d'Austria in monastero a Santa Chiara poiché il re era appunto desideroso che questa bambina dimorasse religiosa una pratica insomma consueta tra le illegittime ma non esclusiva poiché era calibrata sulle scorte di dinamiche differenti di situazioni completamente differenti ad accoglierla a Santa Chiara un aspetto rilevante ci fu Juan de Zuniga è la moglie è comandador mayor di Castiglia è la moglie Dorotea Barresi la siciliana che avrà poi un ruolo di rimente all'interno della vita di Giovanna poiché sposerà un nobile siciliano di cui lei era la nonna non a caso a questo punto Juan de Zuniga per volere di Margherita affidò la bambina a suora Antonia Silvestre e mi riallaccio a quanto detto dal professor Hernando Sanchez su l'importanza della famiglia Zuniga all'interno dei rapporti poiché numerosi furono i personaggi che fescero quasi da cordone attorno a Giovanna in assenza di Margherita ma dapprima bisognava insomma gestire un'illegittima di sangue reale a Santa Chiara motivo per cui Juan de Zuniga si spese attivamente perché il re scegliesse il richiamo in Castiglia scegliesse lo stallo castigliano piuttosto che mantenere distante Giovanna a maggior ragione nel caso in cui forte era la presenza in realtà della famiglia di lei di quei Falangola e forte era la considerazione per cui l'aristocrazia del regno di Napoli avendola a Santa Chiara avrebbe tentato di creare dei canali saldi per creare dei collegamenti efficaci con la monarchia ma si guardava con attenzione alla condizione materna della famiglia materna dei Falangola tutti un aspetto su cui Juan de Zuniga ritornò incessantemente arrivando a dire quasi come su madre e sua abuela hanno traído gran negociazione per ella ed è stato necessario dice minacciarla minacciarle poiché non si intromettessero e prevenire a las monjas che non lo consentiesen però non mi assicuro che deje di aver carta i messaggi e quando tuviese più edate sarebbe il maggior inconveniente bisognava richiamare la bambina la ragazza ormai ragazza in Spagna bisognava richiamarla in Spagna in fretta perché crescesse quando Zuniga ce lo dice secondo la crianza spagnola prima che fosse ormai troppo tardi infatti era una scelta da prendere in fretta prima che il tempo passasse come poi effettivamente avvenne poiché passò in monastero 18 anni ma questa fu la fase diciamo fondamentale in cui un aspetto importantissimo ebbe l'educazione un aspetto dirimente del volere di Margherita di Parma di formare la nipote ad un tipo di formazione umanistico rinascimentale consona ad una principessa di sangue reale in cui un ruolo fondamentale avrebbe dovuto avere la scrittura quale strumento non solo di erudizione ma di gestione del potere numerosi sono infatti i riferimenti che rintracciamo nelle lettere di Margherita riferita alla nipote sull'arte del saper scrivere nella piena consapevolezza della scrittura quale forma di autodeterminazione interessante poi la scelta che Margherita stessa fece per la nipote scegliendo per lei un precettore Girolamo Provenzale già stato medico era un medico un filosofo aristotelico già stata a servizio di Margherita di Parma un personaggio straordinario poliedrico che divenne archiatra di Clemente VII prima di diventare arcivescovo di Sorrento nel 98 Giovanna quindi crebbe per volere di Margherita acquisendo un tipo di formazione che poco si adattava ai precetti di una vita riformata specie a Santa Chiara uno dei più importanti monasteri di patronato reale del regno di questo aspetto appunto della paideia voluta da Margherita ci dice molto una relazione di un diplomatico veneziano Girolamo Ramusio il quale riportò come la ragazza fosse di costume e spirito elevatissimo istruita di molte scienze ma in particolare di matematica e astrologia un modello pedagogico particolare appunto guardato con preoccupazione dall'abbadessa che l'aveva in cura da quella suora Antonia Silvestre che la riteneva in realtà una minaccia per la purezza dello spirito della ragazza in un'ottica di monacazione motivo per cui il suo animo rischiava di guastarsi in affari eccessivamente mondani ma da lontano dalle fiandre l'occhio di Margherita non si spostava in realtà dalla nipote perché perché non ci fossero perché i dettami circa la sua educazione fossero portati avanti con con acribia con cura appunto costruì attorno alla ragazza un cordone assistenziale volto a superare l'ausentismo di quella zia richiamata negli affari di governo margherita gli spiegò attorno alla nipote importanti personaggi della famiglia Zuniga Juan Ferrante Zuniga già richiamato dal professor Hernando Sanchez a lui era dato il compito di visitare la ragazza in monastero a cadenza bisettimanale ed era chiamato a dare relazione sullo stato di cose sullo stato di salute su come si svolgesse l'educazione della nipote a Santa Chiara Ottavo Zuniga rientrava in questa in questa cerchia mentre e qui ritorna il collegamento di margherita e dei suoi rapporti con la corte viscereale di Napoli a Ferrante Fornaro uomo di fiducia del viscereo Suna margherita affidò il compito di servire Giovanna la servia a tal punto che in occasioni di epidemie quando si parlava di dislocare nei vari monasteri monache per sottrarle al pericolo di infezioni o appunto nei casi in cui imperversavano casi di malattia lui impedì che le monache presumibilmente malate raggiungessero Santa Chiara poiché lì dimorava la nipote di Margherita di Parma e si tentò per questo appunto di ad eccezione degli agenti di Margherita era impedito l'accesso a qualsiasi tipo di visita persino la balia un documento ce lo dice Prudenzia Venezia dell'Auro che accudì Giovanna all'Aquila le fu impedito di entrare in monastero per cui l'accesso era ammesso solo per disposizione di Margherita di Parma diciamo che mentre la vita in monastero si svolgeva secondo queste disposizioni il Granvel il suo ministro non smetteva di caldeggiare le istanze di Margherita di Parma lamentando al re come in realtà non si tenesse conto di Giovanna quale figlia di tal padre come non le non le fosse riconosciuto il suo status di figlia di Don Juan d'Austria ne fu da meno lo Suna successore dello Zuniga che sollecitò una presa rapida di posizione sulle sorti di questa ragazza casamento o monacazione purché l'educazione virasse su una o sull'altra scelta su questo problema insomma si mosse la corrispondenza fittissima che dal 1583 il Granvenni intrattenne con Margherita di Parma una comunicazione che in cui il ministro il cardinale insomma si giustificava nei confronti di Margherita di Parma per non essere riuscita nel richiamare in Castiglia al pari dell'altra sorella Giovanna d'Austria dopo la morte di Margherita di più vennero a mancare alla ragazza venne a mancare il principale sostenitore delle sue istanze sebbene potesse ancora contare su quella fitta rete di personaggi che Margherita bolle e che restarono accanto alla ragazza ma il legame di Giovanna con i Farnese superò la vita stessa di Margherita indicativo in tal senso il rapporto che Giovanna intrattenne con Ranuccio Farnese che rintracciamo nel corso della sua vita tra di loro si mantenne una corrispondenza costante fittissima sostanziata da una semantica del dono numerosi furono appunto gli oggetti che si scambiarono il fu per opera di Ranuccio che accolse le istanze di questa cugina che voleva uscire da Santa Chiara propose il matrimonio con un portoghese con un nobile con il marchese di Villa Reale un'opzione che poi non andò in porto mi piaceva però riportare un pezzo di una risposta che Giovanna diede al cugino quando si raccomandò del tutto dicendo disponga del voler suo concluda o sconcluda come deve fare un padre di una figliuola un signore di una serva un padrone di una schiava una missiva intima accorata che dà conferma del legame che Giovanna mantenne con il farnese più volte poi il cugino si spese con il re affinché le istanze di Giovanna fossero portate avanti accompagnava era solito accompagnare l'invio di procuratori di Giovanna con lettere scritte di suo pugno insomma quello che stavano portando avanti era un legame che richiamava la memoria il legame che prima di loro aveva unito Alessandro Farnese a Don Giovanni d'Austria e il dato della memoria emerge preponderante in seno a questo ragionamento e riguarda il dato che voglio definire di trasmissione della memoria o di trasmissione intergenerazionale di atteggiamenti che si ereditarono poi come prassi comportamentali tra donne nel frattempo Giovanna riuscì ad uscire da Santa Chiara fondamentale in questo senso fu il duca di feria appartenente all'entourage dell'erma che organizzò per lei un matrimonio col nipote di Dorotea Barresi un francesco Francesco Branciforte membro della prima rissocrazia titolata di Sicilia quindi dal 1603 la vita della ragazza si spostò in Sicilia ed è interessante notare come il primo e più evidente dato di trasmissione della memoria riguardi il nome che Giovanna diede alla figlia avuta con questo nobile che si chiamò appunto Margherita in quella ripetizione ciclica del passato ma molto ci sarebbe realtà da dire sulle capacità di governo mutuate dal modello di Margherita di Parma che Giovanna implementò nella sua nella gestione della sua corte in cui fu effettivamente lei amministratrice dei beni del casato lei gestì l'amministrazione feudale degli stati lo fece non da vedova e questo è un aspetto rilevante gestiva l'amministrazione civile e criminale e in questo il collegamento con quanto è stato detto prima è molto forte un parallelismo interessante anche in ambito economico rispetto a quanto fatto da Margherita all'Aquila ripenso alla cascina di stamattina vari sarebbero gli spunti appunto che muoverebbero in direzione di una profondità della memoria come trasmissione come prassi intergenerazionale tra donne ma mi piaceva concludere con un quadro ed è qui e touch ok eccola la scritta sotto chiaramente è ottocentesca c'è stato un errore hanno riconosciuto in lei sua figlia ma si tratta di Giovanna d'Austria il quadro appartiene ad una collezione privata una vicenda abbastanza complicata ma insomma riprendendo la lezione di Peter Bark mi pare una fonte dal valore probante eccezionale perché perché oltre all'indubbio valore artistico il quadro ci mostra concretamente il valore della memoria e le reti di relazioni che saldavano Giovanna a casa farnese ad una storia ad una memoria ad un'appartenenza rivendicata con forza appartenenza alla casa d'Austria la raffigurazione segue insomma sintesi i caratteri del modello cortigiano spagnolo lei è rappresentata stante nel loggiato di un colonnato di un palazzo ma lo scorcio del paesaggio sullo sfondo presenta alcuni elementi che consentono di identificare il contesto urbano con Parma abbiamo il loggiato del palazzo ducale si vede il fiume di Parma che collega insomma alla città e alla cupola di Santa Maria della Steccata un quadro insomma che esplicita il legame intimo e ininterrotto che mantenne con i duchi di Parma e Piacenza voler celebrare sacralizzare l'appartenenza culturale ad un mondo da cui aveva tratto assorbito gli elementi che a tutti gli effetti proverà a replicare nell'universo cortigiano dove siciliano nel suo modello cortigiano ma anche nell'attitudine a quell'esercizio di potere in cui effettivamente determinante fu l'impronta di Margherita di Parma io mi fermerei qui insomma non so i tempi grazie Silvia per questa bellissima relazione che tra l'altro introduce nelle ricche tematiche che sono presentate nella giornata di oggi un ulteriore aspetto che da una parte mi sembra chiaramente essere quello del privato della vita di Margherita e delle sue donne giovani e meno giovani dell'anturace ma soprattutto anche di questa ripetizione di modelli perché in realtà mi ha colpito anche questa ultima cosa che hai detto cioè lei governò con grande diciamo acume nella amministrazione dei suoi stati del suo stato e non da vedova ma in realtà se ci pensiamo bene Margherita governò sempre da sola cioè aveva un marito ma ce l'aveva lontano quindi tutto sommato ha governato sempre da sola quindi diciamo è interessante e poi soprattutto comunque sono una serie di anelli che si rincorrono all'interno diciamo di una di un mondo che comunque stava secondo me in cui stavano secondo me oltre i modelli definiti nascendo e sviluppandosi delle un po' come dicevamo questa mattina delle soggettività femminili che ormai erano sicuramente molto legate ai destini ma anche cominciavano ad essere legati anche alle scelte e quindi grazie grazie davvero allora adesso sì abbiamo i nostri dieci minuti anche meno così diciamo diamo spazio alle ultime relazioni e abbiamo anche un po' di tempo se volete per una passeggiata in centro quindi io direi se è possibile di limitarci a dieci minuti allora riprendiamo i lavori e do la parola a Isabella Iannuzzi Isabella Iannuzzi insegna presso la Pontificia Università La Tenanense e presso la scuola internazionale dell'Università di Alcalà insegna nel corso Patrimonio Archivistico Humanidades Digitales e Investigación en la Edad Moderna ha ricoperto incariche di docenza in storia moderna e cultura e politica spagnola in diverse università spagnole e italiane ha recentemente curato l'organizzazione del convegno internazionale 1622 essere universali nel mondo cattolico proprio di questi giorni e ha collaborato e collabora con le scuole spagnola di storia e archeologia i suoi ambiti di ricerca riguardano le relazioni politiche economiche religiose e culturali tra Roma e il mondo iberico nei secoli XVI e XVII e il problema della conversione ha recentemente pubblicato la monografia Convenzer par convertir la cattolica impugnazione de De Fray Hernando de Talavera la sua relazione è su tra l'Abruzzo e Napoli Margherita d'Austria e le sue relazioni con Hernando de Torres grazie per prima cosa vorrei ringraziare veramente Silvia Mantini per aver unitato a questo convegno la cui rilevanza e importanza è già stata ampiamente messa in luce dagli interventi che si sono sosseguiti da questa mattina questo intervento si prefigge di proporre nuovi cammini di ricerca che riescono appieno a definire il raggio d'azione e lo spessore politico e umano di Margherita d'Austria una figura che come giustamente ha definito Silvia Mantini nei suoi prezzosi studi ha bisogno sempre più di essere letta e interpretata per così metterne a fuoco la modernità e rilevanza nel complesso quadro politico degli anni centrali e della seconda metà del Cinquecento si Margherita è un trade union non solo mutuando le parole di Mantini tra corte farnese e monarchia spagnola ma tra una nuova maniera di concepire la cosa pubblica e il ruolo di governo dei soggetti preposti a guidarla la ricerca del buon governo è infatti la bussola che guida nel pubblico e nel privato l'azione di Margherita donna pienamente inserita nel suo tempo e nelle sue molteplici sfaccettature il buon governo di Margherita si esplicita anche stando a stretto contatto e servendosi di personaggi dinamici e ben inseriti nel tessuto sociale in cui vivevano come Hernando De Torres segretario postolico e plenipotenziario a Roma per gli affari del regno di Napoli soggetto che insieme ad altri suoi familiari fa risaltare il forte legame di Margherita ad Austria con la potente capillare presenza della monarchia cattolica nella previsola italica queste mie considerazioni prendono spunto da una ricerca in corso di svolgimento sulla figura di Hernando De Torres cerchiamo adesso di definire chi sia Hernando De Torres e perché rappresenta un importante pedine gregario nell'azione di Margherita tra l'Abruzzo e Napoli Hernando era nato a Malaga nel 21 nel 1521 era dunque coetaneo di Margherita era figlio di Juan De Torres un importante mercante di Malaga di origine conversa e uno dei principali arrendadores della fienda castellana nel regno di Granada sotto Carlo V una parte della famiglia Torre si trasferì a Roma nei primi del 500 grazie all'azione di Luis ecclesiastico e fratello del padre di Hernando che intorno al 1520 arrivò a Roma e fece carriera dentro la curia in qualità di familiare della famiglia arrivando ad essere segretario arrivando ad essere segretario del Papa e riuscendo ad essere un'importante rete di relazioni ma senza perdere il contatto con la Spagna visto che era anche consigliere di Carlo V qui solo ricordiamo i suoi intensi rapporti con Ignazio De Loyola e Gesuiti in particolare con Bobbadia per organizzare missioni nell'arcivescovato di Salerno nel 48 infatti era stato nominato arcivescovo di Salerno e porterà avanti un'intensa attività pastorale come ci testimonia anche una lettera che il 17 gennaio del 51 invia ai canonici proprio per mezzo del nipote Ernando De Torres le prime notizie di Ernando le troviamo proprio a Roma già nel 1536 con un credito nei monti a suo favore di 5.000 scudi ricevuto per mezzo degli strozzi sappiamo quindi che si trovava nella città quando Margherita ci soggiornò nel suo viaggio a Napoli per il matrimonio con Alessandro de' Medici nel 51 Ernando si inserisce all'interno del tessuto sociale romano sposando Pantasilea Sanguigni discendente di un'antica famiglia romana e con lei ebbe diversi figli a cui cercò di offrire una educazione di altissimo livello qui solo ricordo come il primo genito Luis studiò nel collegio gesuita germanico di Roma e poi raggiunse il grado di dottore in diritto civile e canonico a Perugia e Bologna Ernando svolgeva un importante ruolo politico e diplomatico come agente di Filippo II all'interno della cura romana e nel viceregno napoletano come ci testimoniano vari documenti e lettere qui solo ricordo quella che nel 1555 gli manda Juan de Verzosa e da cui si percepisce il loro livello di confidenza e quello che aveva Ernando all'interno della cura romana alle sue personali doti politiche e diplomatiche bisogna aggiungere l'importante gioco di squadra che seppe sviluppare insieme al fratello Luis presente a Roma dal 52 come protonotario e chierico della Camera Apostolica e che riuscì a fare un'importante carriera diplomatica tanto da arrivare ad essere proposto da Filippo II come arcivescovo della ricchissima diocesi siciliana di Monreale richiesta che immediatamente Papa Gregorio XIII ratificò fu intensa la presenza di Ernando nella vita sociale e culturale romana viene lodato dal poeta Nibal Caro e a buoni rapporti con gli artisti legati ai Farnese è un mondo popolato di libri opere d'arti ma anche di edifici da affittare come le vicende abitative di Requesens Granvelle e Paceco ben dimostrano ed in cui il cardinale Farnese assunse un importante ruolo di facilitatore per trovare edifici all'altezza degli emissari spagnoli a Roma Almudena Perez de Tudela ha ben descritto questo frenetico intercambio di palazzi opere d'arte e reliquie in cui anche i due fratelli Torres sono involucrati come nel caso delle reliquie di San Lorenzo che grazie a Luis riuscirono ad aggiungere alle scoriali la gestione ai proventi degli affitti dei palazzi romani riguardano anche Margherita d'Austria infatti in un atto notarile del 17 febbraio del 59 Hernando rappresenterà il cardinale Bartolomeo della Cueva per affittare Palazzo Madama Torres tratta con il procuratore di Margherita Petrus de Santagonis le cifre delle locazioni successivamente anche Luis scriverà nel luglio del 68 al cardinale Farnese per cercare di mettere a disposizione di Juan de Zuniga che succedeva come ambasciatore al fratello Luis de Requesenz questo stesso palazzo è forte il legame di Torres con i Farnese come ci testimoniano vari documenti e alcune lettere conservate all'Aquila nell'archivio Dragonetti de Torres sono presenti lettere del cardinale Alessandro Farnese e di suo fratello il cardinale Ranuccio indirizzate a Hernando sono databili agli anni 60 e da esse si percepisce la gran vicinanza e fiducia nei confronti di Hernando soprattutto in quelle inviate da Alessandro che lo definisce sempre Ferrante Mio e in una di Ranuccio che esprime la gratitudine verso chi ha messo in pericolo cito voi e la vostra casa per evitare danno e vergogna alla mia Hernando vive pienamente il mondo romano e il tramite attraverso cui gli emissari spagnoli si inseriscono nella città e gestiscono le proprie relazioni ma soprattutto cito Hernando ha a chi lo snegozio de Napoles come scrive nel 71 l'ambasciatore a Roma funniga sono anni questi in cui Hernando si occupa di risolvere problemi di natura giurisdizionale sorti nel regno di Napoli tra il Papa e Filippo II come mostra nel 70 la corrispondenza di Torres e del Cardinale Morone con il vicere Hernando stabilirà un stretto legame anche con il Cardinal Granvel di cui diventa l'uomo di fiducia quando questi arriverà a Roma alla metà degli anni 60 e poi nel 71 quando diventa vicere a Napoli è una relazione stretta ed efficace Torres diventa anche il suo referente culturale l'uomo a cui si rivolge il Plantin per ricevere protezione da Granvel per le sue e impresa seditoriales come scrive in una lettera inviata a Hernando nel 72 ma soprattutto qui ci interessa sottolineare come Hernando diverrà un privilegiato referente per far avere a Margherita d'Austria notizie riguardanti le Fiandre o notizie concernenti la Corte di Madrid abbiamo varie testimonianze in questo senso attraverso la corrispondenza di Hernando con Guzmanda De Silva ambasciatore spagnolo a Venezia così gli scrive il 12 marzo 74 cito è una lettera molto interessante ma molte parti del testo sono incifrato sintomo del valore di queste comunicazioni ricche di notizie da criptare in quanto sensibili il ruolo di Hernando è infatti quello di smistatore delle notizie provenienti dalla posta dell'ambasciata veneziana per poi consegnarla ai diversi referenti con cui era in contatto la sua posizione centrale nella concentrazione di notizie fa sì che quelle importanti siano direttamente indirizzate a lui così quando il 4 dicembre 71 la regina partorisce un figlio Fernando soltanto qualche ora dopo parte una lettera di Geronimo su Rita con la notizia per Hernando questa lettera viaggia così in fretta che il 19 dicembre solo 15 giorni Margherita può spedire a Hernando una lettera di ringraziamento per averla informato del lieto avvenimento vedendo la catena di trasmissione di queste notizie capiamo che Hernando si occupava di informare Margherita di ogni nuova così lo dimostra un'altra lettera questa volta scritta da Margherita da Montereale il 16 giugno 72 in cui ringrazia Hernando delle informazioni che gli ha fornito sulle fiande cito grandissimo dispiacere mi diedono le nuove delle alterazioni di Flandra ma perché vostra signoria mi scrive che Valenziana si è recuperata ed il duque di Medinaceli è arrivato con denari e fanterie voglio credere che a quest'ora i ribelli saranno stati scannati e tanto maggiormente non avendo altro appoggio che il loro stesso e se di ciò sarà altra nuova si piacerà avvisarmelo con quel di più che di nuovo intenderà delle cose dell'armata ed altro l'azione politico-diplomatica di Hernando e del fratello Luis risulta evidente con le trottative per la creazione della Lega Santa nel 70 Pio V manda Luis de Torres in missione nella penisola iberica in qualità di ambasciatore di sua santità e nunzio accreditato presso Filippo II e Sebastiano del Portogallo per negoziare la Lega Santa possiamo così vedere come in questa occasione pur agendo per conto del Papa egli collabora intensamente con suo fratello Hernando che a Roma era incaricato di seguire questi stessi affari ma per conto della corona spagnola così quando lui si informa il cardinale Alessandrino lo fa anche con suo fratello come possiamo vedere due componenti della stessa famiglia si trovano ad entrambi i lati del tavolo delle trattative durante questo viaggio inoltre Luis promuove la creazione di un collegio gesuita a Malaga le vicende della Lega Santa marcheranno profondamente i due fratelli Torres infatti il 2 maggio del 73 poco dopo l'abbandono della Lega da parte dei veneziani Hernando de Torres scriveva all'ambasciatore di Filippo II a Venezia Guzman de Silva che a suo fratello Luis avevano causato cito tanta pena e quindi per riprendersi era partito a visitare il feudo di Hernando in Abruzzo insieme ai figli di questo aggiunge Hernando che cito me è olgado che se hai aido fuori di Acchia a recrearsi non se si avrà olgado poco con madama in questa occasione infatti Luis partecipa insieme a Margherita al battesimo del figlio di Andrea Argindelli anche Hernando dichiara nella stessa lettera di aver bisogno di una pausa ma i suoi molteplici impegni a Roma non glielo permettono comunque in forma ha il permesso del cardinale Granvel per andarsene 15 giorni ai bagni di Viterbo appena tornino Luis e i suoi figli così che cito mi hijo ternaquenta de dar recaudo allos despacios come possiamo vedere la sua azione di ricettore e smistatore di informazioni è continua ed in questo faticoso operare è aiutato da alcuni dei suoi figli vedendo queste lettere possiamo dedurre che c'era un rapporto diretto tra Margherita e Hernando rapporto confermato dal fatto che grazie a Margherita che sua figlia Agnese riuscì a sposare il barone Giambattista Porcinari e che Giulio De Torres fratello di Hernando fosse cavallerizzo maggiore di Margherita e poi dal 72 fino al 76 suo maggiordomo ricordiamo come Hernando agli inizi del 72 subentra nel possesso feudale dei territori di Pizzoli a Terno e Cagnano ovvero nello stesso anno in cui Margherita viene nominata da Filippo II governatrice perpetua di L'Aquila Hernando De Torres rappresenta per Margherita una persona di fiducia un vero e proprio appoggio attraverso cui governare sia fuori che dentro lo stato farnesiano una piccola nota in una lettera che Margherita gli invia nel dicembre del 70 lo esprime perfettamente cito con tutto che notare Leonardo Vetullo non fosse degno per i suoi errori di nessuna grazia venendomi raccomandato tanto caldamente da vostra signoria alla quale per l'affezione che io li porto non posso mancar di compiacerla in qualsivoglia cosa a me possibile ho voluto ad intercessione sua concedergli la remissione e perdonarli parole molto significative ed effettivamente Hernando gestisce e controlla tutto e tutti anche gli arrivi e partenze di Margherita come si esplicita nella lettera che manda a Venezia Cristobal de Salazar segretario di Filippo II a Venezia il 14 gennaio del 1584 cito a quattro deste entrò Madama e nell'Aquila a Ià è inviato un hijo mio a besarla a manos di sua altezza e visitarla non pudendo come deseava hacerlo in persona che sono due giornate di qui e quattro miglia dei miei lugares ma Hernando anche copre e salva Madama quando percepisce che possa essere in difficoltà come si vince in una successiva lettera sempre indirizzata a Venezia a Cristobal de Salazar il 23 gennaio cito a Madama a Madama ha succedito lo che vuestra merced verrà por esta relazione e sobre ella verrà lo che il virrei scrive al Papa io se la di a ieri insumano cioè l'ho data al Papa che le deviò di amargar harto se questo per la vostra merced solo vuole questa scrittura cioè solo che Cristobal tiene che tenere questa lettera e poi cancellarla Madama fu tan cristiana prudente e discreta che dejò huir il cursore della cárcel con che si ha proveito a avvisare alla jurisdiczione real e alla obbedienza che si deve alla santa sedia apostolica credo che si procederà contro il governatore dell'Aquila Aime Les Dentoras Madama queda libre del negozio che io certo hice ayer in camera tal ufficio qual convendria in sua escusazione l'11 febbraio terminerà di parlare del tema con Salazar specificando come crede che la cosa si sia risolta nonostante e lo del cursore de Madama creo che la cosa si passerà sub silenzio però vea vuestra merced lo che Madama pretende por essa lettera in cui in cui il cardenale Gesù Aldo con la contigua di valore di 150.000 ducati il castello di Sant'Angelo 17 mille di qui di valore di 50.000 ducati la la viña di madama qui in Roma devaluare 30.000 ducati madama saccado rimane lucida per concludere possiamo dire che con Hernando de Torres Margherita raccoglie preziose informazioni attraverso cui interagire e dialogare con la struttura operativa della monarchia cattolica ma anche con cui riuscire a stabilire un maggior controllo sui suoi affari e sui territori abruzzesi attraverso una capillare presenza sul territorio questi sono i primi elementi che la documentazione da me maneggiata fino a questo momento mi ha permesso di percepire non ho qui il tempo e lo spazio per approfondire le doti di attento amministratore di Hernando ma certo come si vince dal carteggio con Guzmanda Silva e Cristobal de Salasara a Venezia la capacità di Hernando di comprendere cosa fare e come intervenire è veramente notevole figlia di una conoscenza non solo del territorio di funzionari governanti o di constitutini e leggi ma anche dell'animo umano di una profonda sensibilità rispetto alle difficoltà e di incertezze della vita il 13 settembre del 72 Margherita scriverà a Hernando per esprimergli la sua vicinanza in occasione della perdita di sua moglie cito poiché vuestra signoria già sa quanto l'amo e l'affezione che li porto non ho dubbio che ella crederà che la morte della signora sua consorte mi ha portato in un picciol dispiacere però quello massime che mi significa sentir lei non di meno sono sicura che con la sua prudenzia tollererà questa perdita e si accomoderà con voler di Dio con il quale è necessario conformarsi e di così la esorto e prego sono parole che bene esprimono il legame fatto di stime rispetto tra i due persone segnate dagli accadimenti della vita e che percepiscono nella prudenza e capacità di adattarsi la miglior arma per esistere e andare avanti la prudenza di cui parlavamo questa mattina come torna con questo filo rosso forse anche per questo Margherita in questa stessa lettera non perde l'occasione per commentare le ultime notizie trasmesse da Ernando e così continua ringrazio vostra signoria degli avvisi che mi scrive ed in vero che le cose di Francia come lei dice assicurano totalmente quelle di Fiandra di donde avendo alcuna nuova gli piacerà avvisarmela con quel di più che li parrà farmi sapere possiamo dire dunque che Ernando de Torres dal suo privilegiato ruolo a Roma di plenipotenziario per gli affari di Napoli proporziona a Margherita d'Austria notizie riservate e di prima mano un bene prezioso di cui sapeva far buon uso una personalità così poliedrica come quella di Margherita d'Austria una donna consapevole dei suoi doveri che riesce a trovare in intelligenti gregari come Ernando de Torres e la sua famiglia adeguati strumenti attraverso cui esercitare i suoi ruoli la sua moderna visione di governo grazie 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 Isabella per questa relazione che diciamo ripropone un po' il filo di queste diciamo riflessioni che abbiamo fatto anche questa mattina quando abbiamo sentito la relazione di Giuseppe Bertini e che travalica anche un po' al senso soltanto del buon consigliere e diplomatico ma che riassume anche un po' questa sua diciamo passione è una parola forte ma diciamo impegno anche emotivo nella cura di Margherita e poi magari su questo riusciremo ad aprire un dibattito bene allora passo grazie naturalmente passo la parola al professor Ricci Roberto Ricci collabora strettamente con l'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea con l'aggiunta centrale per gli studi storici è componente del direttivo della deputazione di storia patria negli Abruzzi componente della società napoletana di storia patria e membro della società italiana per la storia dell'età moderna ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze sociali presso l'università di Chieti d'Annunzio di Chieti Pescara dove è stato docente di metodologia delle scienze sociali e di storia moderna è professore di ruolo di filosofia e storia presso il liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo studioso dell'età moderna e contemporanea si occupa di storia della feudalità nel regno di Napoli in particolare degli Acquaviva d'Aragona Duchi d'Atri dello Stato Farnesiano in Abruzzo la relazione di Roberto Ricci ha come titolo Margherita d'Austria il gran cardinale Alessandro Farnese e la compagnia di Gesù potere politico e religiosità nel Cinquecento a Roma dunque c'è un tema anche questo nuovo tra i tanti che abbiamo affrontato oggi c'è quello della religiosità grazie grazie professore Samantini ringrazio per l'invito ed è un grande tema naturalmente io darò qualche indicazione tema complesso è ricco naturalmente al tempo stesso ma che come dire di necessità c'è bisogno di uno scavo ulteriore quindi di una come dire di una indagine ancora più attenta e circospetta due date sono significative nel millecinquecento quaranta il ventisette settembre con la bolla regimini militanti secclesie Papa Paolo III Farnese come dire costituisce e ordina la compagnia di Gesù come è noto e il diciotto ottobre quindi esattamente qualche giorno dopo avviene il confronto diplomatico la decisione anche politica del matrimonio che sarà poi consumato successivamente tra Ottavio e madama Margarita d'Austria atto definitivo tra Paolo III soprattutto e Carlo V con la nascita della nuova famiglia Farnese Asburgo la questione che cercherò di porre è il ruolo e la funzione del cardinale Alessandro Farnese il gran cardinale importanti e conosciuti rapporti finora tra come dire Margarita d'Austria e il cardinale Alessandro tra madama e Sant'Ignazio e Diego Lainez quindi l'inizio della stessa compagnia ma in realtà il ruolo e la funzione del cardinale il gran cardinale il gran mecenate ancora non emerge per quanto riguarda una sua azione politica altro problema è la storia della compagnia di Gesù e la storia dei Farnese una storia nel tempo che si dipana come è noto da Paolo III a Sant'Ignazio ma fino a Francesco fino a Elisabetta Farnese con una continuità nei borbone di Spagna e di Napoli per inciso basti solo indicare la formazione dei collegi gesuitici naturalmente e soprattutto quello di Parma ma non solo in Italia e in Europa altro tema la religiosità di Madama e il rapporto con i padri gesuiti Madama intima prima e dopo la tragica morte di Alessandro attraverso questa crisi esistenziale in parte in gran parte già affrontata e la relazione con i gesuiti fino come dire alla come dire presenza del confessore personale di Madama padre Gianco Dur nel 1540 ora sono temi e problemi che indicano appunto il ruolo funzionale sicuramente funzionale del cardinale Alessandro tra Madama e Ottavio per conto di Paolo III in particolare ma anche immediativo del cardinale e l'affinamento soprattutto delle relazioni questo sì tra potere politico e religiosità nella Roma del Cinquecento basti ricordare anche i ricordi stessi del cardinale Alessandro ora una diversa lettura del rapporto tra il cardinale Alessandro Farnese e il cardinale di Nicastro Marcello Cervini e cioè Papa Marcello II credo possa essere utile e cioè attraverso quella relazione per le cose di Madama Serenissima d'Austria al cardinal Farnese che sono relazioni preziose come noto nel 1540 conservate soprattutto nel fondo Pio nell'archivio apostolico Vaticano cito solamente due come dire relazioni non le altre anche con ragioni di tempo e in particolare una lunga la lunga udienza riassunta peraltro dai Cervini all'AIA dell'8 agosto 1540 cito soltanto questa e l'altra in estrema sintesi cito il ragionamento che da ogni parte si fece a lunga fu in presenza del nunzio di Monsignor Giovanni Giovanni Ricci da Montepulciano del Granvela et mia in questo modo Monsignor Giovanni poiché ebbe data a sua maestà alla lettera di mano di nostro Signore et che sua maestà la ebbe letta tutta et detto che per essere credenziare gli esponesse la sua credenza cominciò a ripetere la spedizione con la quale si partì l'altra volta da sua maestà restringendola in tre capi principali primo che sua maestà mandaria Monsignor Andalò per far che la duchessa sua figliola dormisse col signor Ottavio e la trattasse da marito secondo che comunicaria sua beatitudine alcune cose secrete che non le sapeva altri che sua maestà come padre terzio che aspettava una risposta da esso Monsignor Andalò sua maestà previderia il fatto di Lope Uttado e della moglie come è noto questo rapporto naturalmente che è fondamentale e centrale e che viene come dire definitivamente risolto proprio rispetto come dire a questo lungo diavolo ma in particolare attraverso quest'ultima parte emerge come è noto il rapporto e il problema con padre Pallavicino e Vittoria Colonna non mi soffermo su questo naturalmente anche per ragioni di tempo e poi la primalità della questione di Camerino i matrimoni con la Francia il Marchesato di Novara i problemi religiosi in Germania nell'altra udienza invece del 9 agosto 1540 in sintesi cito Lope e la moglie si devono levar via e Tandalo restare per qualche mese ma desidera sua maestà incredibilmente che non se ne parla con fama trista né con disgrazia di sua santità anzi con qualche segno di grazia questo credo che come dire è pure importante per intendere un carattere o i caratteri delle ambascerie nel Cinquecento e specialmente importanti le relazioni queste relazioni sotto forma di lettere che sintetizzano proprio un dialogo gli argomenti e le parole di Marcello Cervini di Giovanni Ricci del Cardinale Alessandro di Paolo III e gli argomenti e le parole di Madama ma anche di Carlo V credo che sia un tema ulteriore di riflessione rispetto alla cultura di corte o delle corti l'uso sociale dell'onore di matrice rinascimentale la sua trasformazione nella stessa storia del pontificato di Paolo III tra l'attesa di riforma e la tradizione della politica curiale tra i nuovi Farnese e gli affermati imperiali d'Asburgo e questo particolarmente prima e dopo ma anche durante lo stesso concilio di Trento che segna uno spartiacque anche in questo senso emerge il problema della consumazione del matrimonio che avverrà dopo qualche tempo come fatto pubblico il rischio dell'annullamento o le sue conseguenze naturalmente altra considerazione i cosiddetti famigli dei Farnese Giovanni Ricci da Montepulciano più noto meno noto il personaggio che ci interessa Bernardo Sancio vescovo dell'Aquila reatino di origine il ruolo svolto anche da Bernardo Sancio all'interno di queste relazioni il noto come dire ruolo di Bartolomeo Guidiccioni vescovo di Teramo certamente vescovo titolare come l'altro però la titolarità in questo caso aveva anche un senso come spero di dire tra breve e anche di Giovanni Guidiccioni naturalmente ricordo appena l'opposizione di Bartolomeo Guidiccioni alla Costituzione alla Compagnia di Gesù le pressioni per convincerlo positivamente attraverso il Duca Ercole II d'Este e specialmente il Cardinale Ippolito e quindi anche dei Farnese ma come dirò e spero tra breve attraverso anche gli Acquaviva dati la Chiesa del Gesù la Curia Generalizia il favore del Gran Cardinale Alessandro non mi soffermo su questo la nota lettera di San Francesco Borgia al Cardinale Alessandro per la costruzione del Gesù mentre invece è importante a parte una lettera di Padre Claudio Acquaviva a Madama per un caso particolare scritta dall'Aquila il 24 aprile 1579 quando era ancora provinciale non era ancora Padre Generale ma una lettera di Padre Claudio credo importante al Cardinale Alessandro dopo la scombarsa del Padre Generale Everardo Mercuriano e la nomina del nuovo generale cioè di se stesso la compagnia dovrà provvedere di un capo tale e quale vostra Signoria illustrissima e noi tutti per sua maggior gloria et beneficio desideramo Roma 12 agosto 1580 credo come dire significativa questa lettera e questa forte comunanza di interessi e anche di volontà ancora Padre Claudio Acquaviva al Cardinale Alessandro sulle reliquie avendo la santità di nostro Signore fatta la grazia di un paio di quei corpi santi che stanno in San Cosma e Damiano cioè del corpo di Sant'Abbundio e di Santo Abundanzio per collocarli qui nella chiesa di vostra Signoria illustrissima cioè Gesù mi è parso ufficio mio dargli notizia sapendo che ne avria molta soddisfazione ed insieme supplicarla ad ordinare quel tanto che comanda si faccia intorno al trasferirli a vostra Signoria illustrissima inteso come già notizia che a sua beatitudine delegersi questa chiesa di lei per farvi cappella il giorno dell'assunzione della Santissima Vergine e così me lo disse ieri a questo proposito quindi la congiunzione e la relazione è assoluta altra data importante come è noto 1538 il trattato di Nizza il matrimonio tra l'altro stabilito tra madame Ottavio e però le precedenze iniziando dal classico studio di Tapasso quindi praticamente parliamo del 1937 attraverso proprio l'attività di Giovanni Guidiccioni e l'importanza delle corrispondenze diplomatiche che cito appena le legazioni di Vergerio in Germania di Guidiccioni in Spagna e di Carpi e Ferrerio in Francia e questi ultimi tra il 1535 e il 1540 cito soltanto come dire Ferrerio a Re Calcati proprio perché credo utile rispetto a questo ragionamento che sto cercando di fare cioè quando comunica il conferimento del collare di San Michele al duca d'Atri Gian Antonio Donato il padre di padre Claudio Acquaviva al principe di Melfi al duca di Somma nella lotta contro i turchi con un bilanciamento di fatto farnesiano Acquaviviano tra Spagna e Francia e questo avviene nel 1537 e quindi un coinvolgimento della feudalità peraltro anche un po' filofrancese sempre compresi di Acquaviva all'interno di questa come dire di questo bilanciamento di Papa Paolo III soprattutto e naturalmente ci sono anche altre considerazioni diplomatiche che evito per ragioni di tempo Margarita d'Austria in Abruzzo i momenti di incontro e di raccordo tra i Farnese e gli Acquaviva ad Atri lo stato margaritiano farnesiano la nascita lo sviluppo nel tempo ne abbiamo parlato diverse volte anche naturalmente all'interno di questo nostro importante convegno ricordo la compresenza naturalmente della diocesi di Penne e Atri negli stati farnesiano Acquaviviano e poi naturalmente i caratteri di questo ducato con Giovanni Girolamo I e Margherita Pio e naturalmente lo stesso Giovanni Girolamo è l'esecutore testamentario di Madama insieme come dire al marito Ottavio ma anche al cardinale Alessandro Farnese mi soffermo per un attimo rispetto alla importante considerazione e sollecitazione che il professor Carlo Fernando Sanchez ha fatto poc'anzi su Tasso e l'opera di Tasso gli Amadici naturalmente ci riporta naturalmente a Tasso e anche alle rime inedite di Tasso che riguardano la famiglia Acquaviva e naturalmente riguardano anche i Davalos e naturalmente la stessa vittoria la stessa vittoria colonna e questo è pure importante fa capire questa relazione tra Tasso Torquato Tasso e l'Abruzzo a fine Cinquecento particolarmente come dire attestata soprattutto questa relazione anche con gli stessi Acquaviva Datri e in particolare Dorotea Acquaviva la poetessa sorella di Claudio figlia di Gian Girolamo molto importante poco studiata poco conosciuta ma di assoluta importanza attraverso come dire una letteratura indiretta quindi è un problema anche questo aperto soprattutto è importante il suo testamento però nel 1573 quando parla di questo rapporto con i Farnese i Farnesi di Latera praticamente la nipote Flavie Farnesi Menepti perché era la figlia di Giulia che era la sua sorella che andrà in sposa a Pertorno Farnese la lettera di Monsignor Giulio Acquaviva poi cardinale l'amico di Servantes come è noto referendario delle due segnature per la visita di madama a Loreto a Monsignor Albani governatore della marca Roma 22 aprile 1569 anche questo è un importante elemento come dire di congiunzione e di relazione il rapporto di Monsignor Giulio con il cardinal Rodolfo Pio protettore della compagnia unico protettore della compagnia di Gesù lo zio era fratello della mamma e c'è una lettera di condoglianze che è conservata peraltro anche come dire un articano un archivio vaticano ma non solo insomma riprodotta in tante come dire in tante in tante modalità compresa una copia anche all'Ambrosiana se ricordo bene la lettera di condoglianze per la sua morte la notizia di promozione al cardinalato nuovi importanti documenti sono invece queste due bolle è quella del 1535 nel 1534 Papa Paolo diventa appunto Papa ed è una bolla importante di Papa Paolo agli Acqua Viva quindi qualche mese dopo e poi nel 1538 questa bolla di erezione a Vescovo di Melfi di Giovanni Vincenzo Acqua Viva sono bolle che provengono da un archivio privato e l'importanza presenza di Giovanni Vincenzo Castellano di Castel San D'Angelo famiglio di Paolo III e del cardinale Alessandro c'è una lettera del cardinale Alessandro a Capodiferro sulla sua nomina il Papa vuole cito lasciare in mani sicure Roma per partire per il concilio del 2 giugno 1542 è creato da Papa Paolo III nel 1542 ci sono opinioni diverse sulla sua stessa come dire creazione cardinalizia però c'è questa lettera che cito appena di Gaspare Contarini presente nella sua legazione a Bologna al neocardinale quando naturalmente parla di questa sua presenza congratulandosi il che faccio quando più posso sperando che come qui vostra signoria illustrissima si è ben comportata ad onorare della sua illustrissima casa e del giudizio di nostro signore ha sempre fatto di lei questo rapporto anche qui molto come dire molto importante 1542 è un'altrettanta data epocale è il matrimonio di Giulia Acquaviva con Pier Bertoldo Farnese dei Duchi di Latere e la elevazione appunto al cardinalato di Giovanni Vincenzo Acquaviva ricordo appena la figura di Mario Farnese figlio di Bertoldo e Giulia Acquaviva e presente ben presente importante insieme ad Alessandro Farnese come nelle fiagge Madame e le altre donne del suo tempo fa soltanto come dire in maniera veloce il rapporto con Vittoria Colonna e Renata di Francia e poi anche però come già qualcosa ho detto su Margherita Pio e Dorotea Acquaviva naturalmente cito soltanto la lettera di Paolo Vergerio a Vittoria Colonna nel 1540 l'ho dato sia a Gesù Cristo che in questi giorni nostri turbolenti ha suscitato in diverse città e province spiriti così fatti in Ferrara Madame Arenea di Francia in Urbino Madame Leonora Gonzaga le quali ho vinto di tutte e due venerdì in qua e conversai parecchie ore con le loro eccellenze e mi parlo erano intelletti molto elevati e molto pieni di carità e molto accesi in Cristo in Roma Vittoria Madame Vittoria Colonna per di ora solamente del sesso vostro ha un po' sintesi tra virgolette di questo rapporto naturalmente è interessante certamente la presenza come dire di Madame anche qui ne faccio un cenno rispetto naturalmente al Cenacolo di Prato la professoressa Mandini ha dato nuova notizia come dire il suo rapporto con la Forza di Guerri Bernardino Chino naturalmente ecco è importante questa come dire ortodossia e eterodossia credo che su questo bisogna ancora come dire studiare un po' mettere qualcosa in più rispetto alla presenza di Erasmo e naturalmente è una presenza importante ci porta anche a una cultura umanistico rinascimentale ovviamente non soltanto italiana ma europea penso anche faccio naturalmente soltanto un riferimento a Renata di Francia al rapporto con Lefevre de Tabless ma anche come dire come Lefevre de Tabless prende da Ludovico Lazzarelli che è praticamente presente ad Atri al tempo di Andrea Matteo III e prima ancora di Matteo di Capua e attraverso il cantalicio noi conosciamo pure questa presenza ragguardevole è importante il cantalicio per l'ufficio della Madonna dedicata proprio a madama Margherita d'Austria tra le altre cose quindi come tutto questo come dire poi è presente a Roma attraverso naturalmente Sant'Ignazio i primi padri Ribba da Neira che era stato paggio lo stesso Gabriele Alessandro come tutto questo si anima e vive attraverso questo movimento riformatore o di pre-riforma come dire e a dirsi voglia e naturalmente la presenza centrale fondamentale di Vittoria Colonna il professor Bertini ha dato notizie poco fa dei cardinali amici di madama questo è importantissimo soprattutto due cardinali il Seripanto il grande Girolamo Seripanto il ruolo decisivo all'interno del concilio di Trento e Rodolfo Pio naturalmente che era pure sostetto congiunto quindi questa politica larga di famiglia anche qui ne faccio un ceno del cardinale Alessandro tra il ducato di Parmepiacentra lo stato farnesiano in Italia Centrale la Tuscia questo slarco verso la Toscana Siena come è noto ma anche Farfa ecco su questo forse bisogna aggiungere qualcosa Camerino Labruzzo Napoli e questi nuovi interessi farnesiani l'Aquila Città Ducale Penne Ortona Campli la questione del vescovato di Campli che inizia con Margarita e si conclude con Ranuccio I Farnese naturalmente e i caratteri dell'agire di madama e dello stesso cardinale Alessandro la loro personalità questo credo che sia importante mettere un po' in parallelo nei rispettivi candidi di riferimento Carlo V e Paolo III ma anche nella loro autonomia nel loro raggio d'azione cito solamente queste due lettere la lettera di madama al cardinale Alessandro scritta da Città Ducale il 27 giugno 1569 molto importante ma ancora più importante la lettera di Ascanio Celso al duco Ottavio quando parla con Dovizia sia del cardinale Affarfa sia di madama all'Aquila scritta dall'Aquila il 24 ottobre 1577 e c'è veramente un come dire un'interessante relazione sul piano politico diplomatico emerge soprattutto questa lettera di Ascanio Celso lo stato farnesiano insomma ce ne siamo occupati e torniamo a occuparci neanche in questo convegno e di estremo interesse aggiungo soltanto per cercare di chiudere come c'è questa porosità dei confini tra virgolette negli antichi stati italiani e concludo veramente il rapporto tra madama e il cardinale Alessandro una conoscenza che passa dalla funzionalità nei rispettivi campi d'azione a un'azione mediativa e sempre più convergente e in particolare con la decisione della consumazione del matrimonio e poi naturalmente con la nascita dei figli Carlo e Alessandro quando si suggera la nascita di questa nuova famiglia a Farnese Asburgo si sancisce la presenza dei Farnese a Parma e Piacenza il rapporto con i padri gesuiti da Ignazio a Lainez importante e rilevante per il superamento della crisi di madama soprattutto dopo la morte di Alessandro dei Metici la sua maturazione spirituale ma anche politica e anche per la decisione stessa della consumazione e per il rapporto successivo tra il cardinale Alessandro e poi il cardinale Eudoardo con padre Claudio Acquaviva e infine Roma e l'Italia nel clima di riforma o pre-riforma del concilio di Trento la religiosità nella cultura di corte la persistenza umanistico rinascimentale di madama quella appunto di Vittoria Colonna Renata di Francia Caterina Sibo e inserisco anche Dorotea Acquaviva e la politica larga del cardinale Alessandro l'idea espansionistica dei Farnese che ci sarà in maniera altalenante per tutto il 5 e 600 e infine la collocazione di questo stato farnesiano margaritiano e farnesiano d'Abruzzo ma naturalmente ancora è una storia da definire e da costruire proprio perché come dire si dipana dal 500 fino come dire al 700 inoltrato grazie 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 Roberto per la tua relazione e per questa indagine diciamo romana nel mondo religioso tra Margherita e il cardinale ma mi sembra che i personaggi sono molti quindi insomma è una bella rete diciamo è un interessante groviglio per così dire dove insomma mi sembra che le piste che potranno uscire sono ancora insomma molte da definire bene allora adesso noi abbiamo una discussione ma abbiamo anche la piacere di avere una grazie Elena alla professoressa Elena Riva che ha pazientemente ascoltato tutto il nostro convegno sono certa anche con piacere e che ci dirà delle sue riflessioni la professoressa Elena Riva no lo voglio dire è professoressa di ordinare di storia moderna presso la facoltà di scienze delle formazioni dell'università cattolica del sacro cuore di Milano membro della segreteria della redazione della rivista Annali di storia moderna e contemporanea una bellissima rivista dove mi sono avuto il pregio diciamo di collaborare molti anni fa dell'università cattolica del sacro cuore e della rivista Ceyron docente del collegio della scuola di dottorato scienza della persona e della formazione dell'università cattolica del sacro cuore di Milano non vi dico quante cose ha scritto tutte molto belle e ve le do per certo diciamo e quindi insomma è una studiosa che si è occupata della monarchia spagnola del settecento milenese delle aristocrazie di figure di donna molto interessanti a quest'ora mi verrebbe da dire chi più ne ha più ne metta è un saluto d'amica ovviamente ma insomma siamo molto contenti che è qui con noi e tra l'altro invece quello che voglio dire forse lo vuole dire lei che era anche lei nel nostro famoso convegno di Parma e Piacenza che ormai è diventato un punto di partenza oggi qui è un ventennale diciamo adesso che abbiamo aperto le bruglie siamo tutti un po' stanchi e questa circolazione di un grande convegno di 21 anni fa Parma e Piacenza internazionale su Margherita che torna oggi ma non con l'impegno di tornare tra vent'anni ovviamente quindi grazie Elena tutto grazie volevo anch'io partire con dei ringraziamenti a Silvia che prima che collega è un'amica e a Stefano Boero per avermi invitato per aver organizzato questo bel incontro ha 21 anni a ragione Silvia dal precedente convegno dedicato a Margherita un convegno che aveva visto partecipare alcune delle persone che stanno qui qualcuno che non c'è più mi piace ricordare che è Cesare Mozzarelli perché era stato Magna Pars no? anzi aveva stimolato moltissimo il convegno e la riflessione su Margherita d'Austria e tra l'altro mi piace ricordare che la pubblicazione degli atti era venuta nella collana dei 500 di Europa delle Corti un'altra casa che ha visto vivere partecipare molte delle persone che stanno qui e qualcuno che purtroppo appunto non c'è più come diceva io dirò alcune delle cose che mi hanno colpito ovviamente lasciando magari anche dello spazio per qualche domanda qualcuna ne ho anch'io da da porre come diceva prima Gaetano Sabatini sono passati 21 anni da quel convegno e e oggi ci ritroviamo qui a confrontarci con una storiografia che ha fatto molti passi in avanti sia riguardo alla monarchia cattolica ma anche riguardo al tema del governo femminile delle donne di potere oggi ci sono tante pubblicazioni ma quando tu Silvia avevi avuto l'idea di quel convegno devo dire che gli atti nel 2001 gli atti pubblicati poi nel 2003 erano uno dei primi volumi che appariva in Italia proprio sul tema della queenship sul tema delle donne di governo e delle donne di potere e devo dire che appunto la io non direi non direi che oggi abbiamo fatto una rilettura del personaggio direi che oggi abbiamo fatto abbiamo aggiunto abbiamo allargato e devo dire in modo veramente proficuo con tante suggestioni che sicuramente apriranno ad altri ad altri lavori ad altre riflessioni sul personaggio abbiamo allargato abbiamo costruito un affresco molto più completo rispetto a quello di 21 anni fa non abbiamo forse parlato oggi tanto delle fonti ma direi che molte fonti nuove sono sono state utilizzate poi per le relazioni che sono state fatte oggi Margherita è sicuramente un personaggio straordinario un personaggio su cui ha pesato una leggenda nera come diceva stamattina Coles è molto interessante la lettura che ha dato su come poi Margherita si è percepita oggi in Olanda praticamente sconosciuta non appartiene alla memoria collettiva ma perché la leggenda nera su di lei le vicende della rivolta nelle province unite ha pesato moltissimo ed è interessante anche vedere come poi questa figura è stata riletta nei biopic che che lei ha a cui lei ha accennato sono tante come dire gli elementi di questa biografia donna di governo madre figlia mediatrice negoziatrice soft power donna carismatica legami col territorio imprenditrice prima Silvia diceva che in fin dei conti Margherita è una donna di governo governato da sola marito lontano mi verrebbe una battuta facile forse per questo che ha governato bene però è una storia che si colloca una storia di donna capace ma di donna che si colloca anche in uno spazio ben preciso che è quello della corte e di un sistema di corti che tu poi un sistema di corti europeo che tu poi richiami hai richiamato nel titolo perché dico corte perché il tema dello spazio quando si parla di potere è fondamentale quindi è un sistema di potere l'analisi che offre lo spazio cortigiano è un'analisi di tipo verticale ma è soprattutto un'analisi di tipo orizzontale dove vengono presi in considerazione luoghi sia formali ma soprattutto quelli cosiddetti informali della gestione del potere ed è un teatro dove appunto agiscono tantissimi tantissimi personaggi c'è una cosa che mi ha colpito e a partire anche dalla relazione di Silvia D'Agata è una cosa su cui riflettevo poi in questi giorni riprendendo anche un po' in mano gli atti del primo convegno organizzato da Silvia che è il tema della illegittimità io credo che l'illegittimità naturalmente riconosciuta sia il punto di forza di Margherita in che senso l'illegittimità intesa come come concetto plastico un concetto che diventa anche un punto di osservazione interessante da cui guardare la corte Margherita deve tutto sostanzialmente la sua fortuna al padre e a se stessa cioè al padre Carlo V e a come è lei di carattere alle sue capacità il fatto di essere illegittima riconosciuta la rende sostanzialmente libera tra virgolette dal dover pagare pegno a tutele no cortigiane onerose che possono invece caratterizzare altre donne di governo la rende più libera diciamo nel seguire le proprie ambizioni personali quindi uno status sostanzialmente che pur essendo appunto di illegittimità in realtà si trasforma in un grande punto di forza perché è quello che le consente di far uscire il suo carattere la sua la sua capacità a parte che esiste tutto un sistema di figli illegittimi e illegittime del grande mosaico della casa d'Austria prima diceva Carlo Sernando Sanchez tutti servono alla monarchia ed è effettivamente così tutti i figli legittimi e illegittimi donne comprese sono pedine fondamentali nella storia della monarchia sia nella storia della monarchia universale di Carlo V che nella storia della monarchia cattolica e questo secondo me come evidenziavano anche Sabatini e Carrasco continua fino alla guerra alla prima guerra di successione spagnola un sistema di figli illegittimi di figli bastardi figli e figlie bastardi che sicuramente funziona moltissimo per tutto il Cinquecento perché sono e andrebbe anche approfondito sono tanti soprattutto al femminile le figlie bastardi che hanno un ruolo poi centrale nelle politiche di governo certamente della casa d'Austria ma non solo soprattutto anche nelle dinastie italiane ed è un sistema di governo che dura che vale moltissimo fino a tutto il Cinquecento sostanzialmente fino a quando il sistema di relazione internazionale degli stati diciamo si perfeziona e un sistema di legami di importanza di figli e figli illegittimi che va avanti anche fino a quando gli stati italiani diciamo diventano sempre meno indipendenti fino a quando è chiaro chi comanda chi comanda in Italia esiste un network di questi di queste figlie legittime che ha messo in evidenza anche Silvia d'Agata ci sono bastarde che regnano come Margherita ma ci sono anche quelle che vivono nei monasteri come la sorellastra di della di Juana d'Austria e tutti questi tutte queste figure sono al centro di dinamiche cortigiane che non possono essere neutrali che non sono mai neutrali e che quindi diventano interessanti da approfondire emerge anche sempre facendo riferimento alla relazione di Silvia una sorta di concetto di sorellanza di sorodidad no? fra donne dentro la casa d'Austria il rapporto di Margherita e la figlia di Giovanni d'Austria mi sembra fondamentale da questo punto di vista e al centro di questi rapporti non vanno dimenticati i legami emotivi l'emotività i legami di affetto che emergono soprattutto dai soprattutto dai carteggi un altro degli aspetti che mi ha colpito e che riguardano sia la relazione di Ders che la bella relazione di Isabella Iannuzzi è che grazie a questo convegno cominciamo anche a conoscere di più sulle figure che ruotano attorno a Margherita Fernando De Torres sicuramente ma anche i segretari come Tommaso Machiavelli descritto da Bertini i segretari che hanno che sono come dire che occupano un ruolo centrale nel sistema diciamo del potere cortigiano sono degli ambasciatori no scusa la relazione di Ders non l'ho però avevo letto l'abstract e mi è dispiaciuto perché che non che ecco che non sia stato qui perché lui avrebbe parlato delle reti delle reti diplomatiche però il riferimento che faceva Bertini ai segretari e soprattutto all'importanza della gestione delle informazioni come diceva anche Isabella Iannuzzi mi sembra che sia fondamentale il potere di gestire le informazioni di farle circolare e anche di venderle tra virgolette no soprattutto in una realtà come quella la realtà del potere di antico regime che è una realtà di stato di guerra permanente per cui informazioni che circolano che non solo come dire danno potere a chi le ha e a chi le riceve ma che sono determinanti nel creare delle percezioni soprattutto quando si tratta di prendere delle decisioni importanti che riguardano la guerra ma che riguardano anche i matrimoni che riguardano le politiche finanziarie eccetera e Margherita è proprio parte integrante di questa famiglia un altro degli aspetti che mi ha colpito sia nella relazione di Gaetano Sabatini ma anche nella relazione di Silvia di Silvia Mantini è il rapporto con il territorio cioè la capacità di mediazione e di negoziazione che Margherita ha nei confronti dei territori non solo dello Stato Farnese d'Abruzzo ma direi in tutti i territori in cui lei è stata questa capacità di essere al tempo stesso donna che decide ma donna che riesce a mediare anche con i ceti con i ceti con i ceti locali è importante il richiamo che ha fatto Gaetano allo Stato feudale troppo spesso ci si dimentica quando si parla del potere dell'antico regime della centralità degli stati feudali dentro la struttura del potere dell'antico regime e invece perché è un tema difficile da trattare però diventa diventa un tema centrale mi chiedevo e lo chiedo a Silvia prima l'ho chiesto a Gaetano che purtroppo è dovuto andare via quanto anche nelle scelte di politica finanziaria che mi sembra uno degli aspetti più innovativi della figura di Margherita quanto ci sia di lei cioè quanto pesino le sue decisioni personali in questa in queste scelte di politica finanziaria soprattutto ad esempio nella gestione del debito pubblico cioè se è possibile dalle fonti stabilire quanto ci sia di suo o quanto invece sia determinante diciamo dai suoi da coloro che lo aiutano quanto c'è di Margherita in queste riforme mi ha colpito moltissimo anche la relazione di Carlos Hernando Sanchez e il racconto dell'importanza di questi legami femminili di questi legami femminili tra l'altro tra dinastie italiane il rapporto stretto tra il vicerela viceregina di Napoli con Margherita come cambia questo rapporto anche con diciamo la biografia di Margherita soprattutto un rapporto che cambia soprattutto quando Margherita sposa il Farnese ma anche questi legami tra donne che come dicevo prima mi sembrano assolutamente centrali un altro tema che faceva emergere che mi veniva in mente ascoltando Silvia D'Agata è invece il tema dell'educazione sia dei modelli pedagogici come dire che si trasmettono anche in modo ripetitivo mi sembra un dato importante ma soprattutto il tema dell'educazione politica di queste donne di governo che è un'altra delle grandi finestre da aprire quando si parla di donne di governo perché come avviene l'educazione politica di queste donne Silvia ci ha parlato di un modello che si trasmette ma ci sono tantissime altre donne di governo di cui non sappiamo nulla come vengono educate noi sappiamo che c'è una trattatistica del principe che riguarda l'educazione del principe molto più debole è la trattatistica che riguarda l'educazione cioè non esiste o esistono pochi esemplari di trattatistica che riguarda l'educazione di una donna di governo per forza di cose eppure moltissime delle donne di governo certo Margherita è una di queste ma moltissime delle donne di governo dell'antico regime in realtà sanno governare da chi apprendono queste pratiche sicuramente c'è una circolazione di pratiche diffuse che forse è il sistema della corte che aiuta a trasmettere però sarebbe molto interessante riflettere riflettere su queste anche su questi temi così come è interessante riflettere sul tema e secondo me sono due aspetti sono legati sul tema della trasmissione della memoria tra donne che emergeva anche in questo caso dalla lettura che aveva dato Silvia D'Agata importante è anche la relazione di Roberto Ricci ricchissima di come dire di riferimenti che forse come dire sarà più semplice leggere all'interno del saggio che non ascoltarli perché a un certo punto mi sono persa tanti erano i riferimenti importanti mi incuriosiva moltissimo la crisi esistenziale di Margherita crisi emotiva mi pare di capire che sicuramente nel saggio scritto sarà sarà presa sarà presa in considerazione un altro degli aspetti invece interessanti che emergevano dalla relazione di Isabella Iannuzzi è la gestione delle informazioni la gestione delle informazioni della circolarità e il tema della comunicazione politica che sicuramente verrà approfondita da una maggiore analisi delle fonti perché mi pare di capire che sia una ricerca in itinere ma che è un tema oggi centrale penso agli studi di Ross Poker per esempio ma che sta diventando un tema molto importante nella narrazione della storia del potere politico non so quanto altro forse no ma io magari metterei comincerei così poi possiamo andare anche molto avanti vogliamo fare una pausa e poi continuiamo no ma secondo me no forse conviene conviene che no è perché ho visto l'ora vorrei invece prima sapere se c'è una qualche domanda nel pubblico va bene allora la dico ho sì insomma ho sentito con molto interesse le cose di Elena perché sono spunti così un po' random no disordinati ma che vanno benissimo perché è quello che ci vuole per pizzicare le cose che sono uscite oggi e magari provare anche a dire qualcosa ora io rispondo così un po' a sensazione cioè è chiaro noi dovremmo sapere molto di più sull'educazione sulle influenze nelle scelte quindi ci possiamo avvalere ovviamente della mole di documenti che cresce perché cresce l'indagine sul personaggio un personaggio di cui c'è stata restituito a parte questi carteggi molto belli Gasharco sci eccetera che poi sono stati pubblicati e poi c'è stato quasi insomma un cinquantennio di nulla tranne la biografia di Lefebvre e poi abbiamo cominciato tutti noi un po' a parlarne con saggi sparsi oltre a quel libro del 2001 e però è un personaggio dove convergono tanti studi e tanti studi paralleli che fanno parte del suo mondo non so per esempio Giuseppe Bertini ha studiato gli aspetti del collezionismo dei viaggi dei figli eccetera altri hanno studiato aspetti religiosi io ho studiato altri aspetti legati alle sue figure diciamo alle sue pratiche politiche o il suo rapporto col territorio eccetera quindi io credo che ancora dobbiamo mettere fuoco in corsa nel senso che dobbiamo ancora abbiamo tanto da scoprire di un personaggio che più lo studiamo e più è sfuggente per certi versi perché escono tante cose diverse quindi diciamo è un po' un prisma Margherita perché la guardi la studi però lei ti restituisce lei cioè gli studi che noi facciamo ci restituiscono altri stimoli e quindi come diceva giustamente oggi Gaetano Sabatini quando si è studiata nel 2001 anche le categorie delle indagini del politico nella storia moderna e quindi la storiografia aveva degli approcci c'era la monarchia composita di Illiot c'era lui ha citato non so Wallestine e poi oggi parlavamo con insomma i bagnez dell'idea della monarchia policentrica ecco Margherita fa parte anche di questo cioè di storiografie che evolvono che cambiano in vent'anni e quindi di tutti noi che la studiamo che siamo influenzati come tu giustamente dicevi non c'era tanto c'era tanta storia delle donne storia di genere nel 2001 ma magari non c'era l'idea di queenship non c'era ancora che è molto recente l'idea che non riguarda solo il femminile ma di soft power cioè ricerca anche quindi del consenso quindi secondo me tutti questi aspetti dobbiamo considerarli anche nella loro poliedricità ora da un punto di vista di consiglieri di personaggi di Ernando De Torres di Machiavelli eccetera è molto importante conoscerli studiarli e capire come si configura l'universo intorno a Margherita però io ho una domanda ce l'ho è una domanda così anche un po' insomma ma quanto Margherita era influenzata da questi personaggi cioè loro facevano molto per esempio ho capito dalla relazione di Isabella Iannuzzi che Ernando De Torres era quasi una spia cioè lo dico così simpaticamente uno che faceva da filtro sulla mia posta io non me lo sarei fatto fare mai per esempio però non so quanto Margherita poi rispetto sicuramente all'importanza del personaggio perché mi sembra così come indubbiamente Machiavelli ma non sono neanche i soli pensiamo per esempio anche è un consigliere che gli sta accanto tutta la vita ma anche la figura di De Marchi noi non sappiamo però non abbiamo il feedback di quanto lei lei sicuramente ha tenuto moltissimo conto di questi personaggi ma non sappiamo poi qual era il margine della sua come dire azione individuale no? anche rispetto a loro o non lo so forse Giuseppe ci può dire qualcosa eccetera forse conviene venire vabbè anche in piedi allora in una busta di Napoli molto confuso ho avuto la fortuna di trovare le istruzioni che Margherita dà a Machiavelli e quindi le lettere che Margherita riceve da Machiavelli sono in qualche modo determinate da quelle che erano stati i suoi ordini quindi questo secondo me è molto interessante cioè da queste istruzioni che purtroppo sono parziali perché le istruzioni si fermano mi pare al viaggio quando arriva a Napoli però appunto da lì si capisce quali sono le priorità che Margherita ha e cosa pretende dai suoi collaboratori quindi è una fortuna e penso che sia una chiave di lettura in qualche modo cioè lei insegna ai suoi consiglieri come consigliarla in qualche modo da quello che ho capito e quindi è lei il filtro di questa sua diciamo decisione di usufruire di questo consiglio oppure no cioè insomma è interessante questo tema perché tutti le girano intorno o con un atteggiamento che può essere appunto utile o protettivo eccetera però poi lei è sempre io credo che Margherita in realtà sia comunque lei a decidere è chiaro che lei ha un mondo intorno che l'influenza e sicuramente poi per il resto questo della finanza che tu chiedevi allora questo è tutto un materiale ne parlavo anche con Gaetano Sabatini che soprattutto è una persona che ha delle competenze in un ambito anche proprio economico dobbiamo riprendere certo è lei che chiede a Ravaschieri di fare questo progetto finanziario e le chiede proprio di come fare un progetto per cercare di contenere il debito pubblico nelle fiandre ed è eccezionale perché è una donna del 500 e di solito nelle corti non voglio dire che suonavano il clavicembole ballavano ma insomma si pone questo problema e poi è chiaro che gli ambiti di applicazione di questo lei comunque è nello stato farnesiano che sicuramente è un territorio più piccolo di applicazione ci prova e la prova di questo sono gli statuti della dello stato farnesiano in Abruzzo nel 1571 è un sistema di riforme pazzesco quindi quindi diciamo ma è a che fare con quello che ti chiedevo c'è anche la questione della sua formazione no cioè quanto c'è di formazione quanto c'è non so se è una risposta a cui si può una domanda a cui si può rispondere io non so però quello che voglio dire è che lei è giovanissima quando sposa Alessandro ed è molto giovane c'è solo un anno in più quando sposa Ottavio si ritrova immediatamente in queste dinamiche politiche in cui poi il Papa toglie il territorio poi non si sa se gli spagnoli arrivano a Piacenza poi lui si impegna lei si impegna affinché questo marito che ormai ce l'ha abbia qualcosa quindi lei è molto dentro alle dinamiche politiche in un gioco di equilibri per cui deve anche cercare di non far arrabbiare troppo il Papa e neanche troppo l'imperatore affinché possa avere dei risultati quindi lei galleggia in questa sperimentazione politica che fa anche lei ha delle competenze ha chiaramente delle competenze secondo me ha un talento però poi uno dice che sono innamorata di Margherita e allora non lo dico più però secondo me ha un talento nel riuscire poi a non fare mai un errore clamoroso perché lei quando anche arriva nelle fiandre in fondo lei va per governare per conto della corona richiesta da Filippo II però lei è già una farnese quindi lei ci va perché risponde a quello che è un potere superiore quello imperiale ma quello anche di sangue ha molto carisma non perdiamo di vista il carisma io mi riallaccio a quello che ha detto stamattina Adolfo Carrasco e Gaetano sul Polisenter Monarchy perché secondo me sono le chiavi cerco di rispondere indirettamente sono le due chiavi cioè secondo me lei è carismatica è una forte personalità personalità volitiva come si come si forma si forma perché è sensibile e quindi riesce a prendere e qui gioca un fortissimo ruolo anche l'elemento religioso lei vive un momento un'esplosione religiosa incredibile Roma non è solo i gesuiti i gesuiti rappresentano la punta di iceberg di un movimento religioso culturale in cui tutto si mescola le dizioni dei padri della chiesa e c'è tutto un mondo là dentro però dove penso che io dove volevo arrivare un po' riprendendo il discorso della circolazione delle informazioni non è soltanto la circolazione delle informazioni che è importante ma è anche una monarchia di Filippo II e ce l'ha dimostrato bene Adolfo questa mattina che è dinamica è molto più dinamica e qui rientra il discorso del rinnovamento storiografico di quello che ci siamo sempre immaginati di Filippo II sono personaggi dinamici io sono arrivata a Margherita casualmente cioè me la sono trovata e quindi la interpreto quindi diciamo sono l'ultima arrivata per giudicare però se io vedo io quello che ho percepito da queste lettere è vedere che lei percepisce questo questo dinamismo lo utilizza utilizza queste informazioni utilizza queste persone poi si creano relazioni è molto complesso hai detto benissimo è un prisma però l'elemento nuovo è che in qualche modo lei sa utilizzare questo network familiare questo network politico ed è una monarchia quella di Filippo II che riesce a includere perché talmente sono vasti ampi ha un problema economico da risolvere e quindi crea delle progettualità e quindi qui entra perfettamente il discorso di Gaetano sulla Polisentri Monarchy perché a chiunque abbia voglia e capacità di mettersi in gioco questa monarchia più o meno ti dà un'opportunità io in questo senso mi permetto di dire questo vedendo l'esperienza di Torres e della famiglia loro si mettono in gioco e nonostante avendo un'origine conversa perché non dimentichiamoci questa cosa riescono a includere a entrare nel tessuto fanno delle strategie ben precise si sposano con Ernano si sposa con una romana una famiglia cioè c'è tutta una strategia e quindi attraverso questo riescono a entrare in vari network che gli permettono di nominare Margherita secondo me la grande modernità percepisce tutto questo e lo assorbe e lo utilizza quindi ecco io penso anche che l'educazione con la zia insomma da piccola è stata una corte importante con due donne più che carismatiche quindi sicuramente lei aveva del suo ma sicuramente quella è stata un'educazione importante considerate che quando lei resta vedova di Alessandro De Medici e ha 15 anni 15 anni ed è nella fortezza di Prato in questo circolo letterario dove c'è l'audomia forteguerri ma lei chiede a Carlo V di poter incontrare Bernardino Chino che insomma è un personaggio scomodo e lui glielo concede almeno da quello che ho letto lui glielo concede lei chiede al padre non di incontrare Topolino di incontrare Bernardino Chino a 15 anni quindi vuol dire che ha letto ha sentito tra l'altro lei cosa ha fatto fino a quel momento ha vissuto a Napoli tre anni ha imparato un'educazione italiana ha imparato la sua terza lingua però è comunque una fanciulla che ha subito un destino cioè ha sposato uno di 35 anni lei ne aveva 14 glielo hanno ucciso dopo sette mesi e poi ha dovuto sposare il suo coetaneo sedicenne che sarebbe stato teoricamente più adatto a lei ma che lei non voleva quindi a questo punto diciamo è stata un po' in balia di questi destini e però ha cercato quando poteva di insomma mettere un punto anche rispetto a delle sue esigenze poi il fatto di essere illegittima secondo me in parte è vero quello che diciamo gli illegittimi non potevano sposare principi quindi c'era questa possibilità che potevano sposare solo cadetti però c'è anche da dire che insomma c'è una regola che è quella per esempio dell'erede a cui anche loro devono soggiacere mentre l'erede della moglie del principe deve farne 15 finché nasce il maschio però è anche vero che lei non so fino a che punto potesse restare ancora libera di non unirsi a Ottavio pur non volendolo quindi a un certo punto questo sì però credo che fosse libera nelle come dire nelle decisioni nelle pratiche di quanto meno decide di vivere lontano per esempio che non è non è una cosa non è una cosa da poco c'è anche la lettera che Margherita manda a suo padre di suo pugno spiegando i motivi per cui non vuol consumare il matrimonio questa è una lettera la lettera non è scritta da un segretario è scritta da lei personalmente è molto giovane ma ha dei chiarissimi lei rifiuta la famiglia Farnese perché ritiene che alla morte del Papa cioè questo è un grande pensiero politico perché lei ritiene che alla morte del Papa la famiglia Farnese diventi zero cioè non crede nel cardinale Alessandro nel suo marito cioè lei già da giovanissima ha le idee molto molto chiare forse con la morte del Papa il cardinale era cardinale ma non sappiamo quanto Ottavio sarebbe andato avanti senza una legittimazione di una donna a corso lì si impone comunque in questa domanda di quanto era la sua libertà a non fare più il matrimonio la comparazione con l'altra Margherita che dopo il morto di Don Juan nel 5004 se non mi sbaglio è messo sotto enorme pressione di Massimiliano soprattutto Massimiliano di sposarsi una terza volta che rifiuta chiaramente e non lo fa più è vero che a quel momento è più matura che la nostra Margherita l'è però c'è anche l'arco di tempo e possiamo chiederci questo spazio di manovra per anche il fatto che la nostra Margherita è legittima ci sono delle domande che comunque rendono interessante questa comparazione direi che no volevo solo dire una cosa abbiamo fatto molto di cosa riflettevo come donne come questa qualche settimana fa mi trovavo a Salerno a discutere di un'altra donna come Elisabetta Farnese no come farle entrare in un patrimonio di conoscenza collettiva no banalmente anche scolastica attraverso i manuali perché queste sono donne che comunque hanno attraversato e attraversano la storia che conta come forse i manuali andrebbero riscritti da questo punto di vista no perché altrimenti facciamo una discussione che rimane sempre una discussione tra specialisti no e scrivendo poi libri bellissimi che rimangono che rimangono un po' lì no quando invece è necessario ormai sono tante anche le biografie no femminili insomma di donne importanti da questo punto di vista che meritano no di entrare in una narrazione più ampia no che quella specialistica no soltanto per ricordare questa funzionalità che abbiamo detto naturalmente e ribadito e poi anche però una sua autonomia quando avviene questo questo non è anche il punto centrale e sono d'accordo nel senso che c'è un mutamento continuo quindi non si può in qualche maniera dire da questo punto in poi c'è un mutamento continuo un affinamento continuo l'esempio di Prato è semplificativo è il caso di dire ma dietro c'era Alessandro il cardinale Alessandro e c'era Vittoria Colonna che erano preparato tra virgolette Prato per dire quindi questo rapporto è un rapporto assolutamente aperto e anche questo per l'amministrazione dei femmini abruzzesi che ci interessa un po' di più attraverso gli ordini ma anche le riformanze che ci sono state e lei è diretta quindi anche l'esperienza delle piantre come poi come dire quindi c'è come dire walk in progress e questo è un po' secondo me insomma una lettura bene io vi ringrazio moltissimo anche per la insomma abbiamo fatto abbiamo risposto al nostro discussant facendo una bella discussione ma e quindi la ringraziamo moltissimo grazie Elena e poi insomma siamo arrivati e ho detto ma magari alle 5 e mezza finisce li porto in giro per l'Aquila è colpa vostra allora se c'è no sono contenta ovviamente sono molto contenta e un piccolo giretto ancora possiamo andare verso le nostre mete grazie ci vediamo domani mattina mi sembra che domani siccome non abbiamo i saluti delle autorità comincia sempre alle 9 o alle 9 e mezza non me lo ricordo scusate anche domani va bene benissimo allora alle 9 grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi